Cioè noi in realtà lo facciamo per il suo interesse perché è il nostro interesse che funziona. Assolutamente. Io in tanti anni ho sempre premiato il funzionamento. Mi è capito diverse volte di dire al cliente mi spiace. Io non le faccio. Perché non ve lo vuole fare? Perché lei mi vuole far fare una porcata e io siccome voglio curare. Come reagivano? E ci rimanevano male. Lei vuole farmi fare una porcata? No, non glielo faccio. Rinuncio al lavoro. Mi spiace. C'era di fronte a noi nella 5.4. Mi faccio qualcosa giusto per dire che ho l'incarco. No. C'era una ragazza. No, se lo faccio a fare. Uno mi ha detto che mi metta la vasca e finita lì. No, se lo faccio a fare da lui. E così è stato. Ah, quindi non cambiava l'idea. Non diceva no. Ah, ok, va bene. Allora cosa mi verrebbe? Assolutamente. Mi ne frega niente. Ne mi interessava convincere un po' che parte dall'idea che vuole fare una porcata pur che sia. Di che cosa lui vuole convincere? Non fare una porcata? Lui la farà. La farà sicuramente. Con chi te la fa? Non vanno a loro. Perché ne va dell'immagine dell'azienda. Ti vorrei. Ci metti 30 anni e fatti il tuo nome. E in 5 minuti a sporcarci. Sì. Non ne vale la pena. No, non vale la pena. Per cosa? A meno che ci dia un miliardo. Vi do un milione di euro se me lo fate. Allora facciamo. Va bene. Facciamo questo e poi cambiamo ragione sociale. Cambiamo tutto. Non miliardo andiamo tutti in vacanza per tutta la vita. Con il nostro amico qua andiamo in Thailand. Se ti manca il libretto delle analisi, che cosa succede? Cioè se vengono a farti un controllo e non hai mai fatto le analisi, mi viene in mente un certo ristorante che era anni che non faceva le analisi dei reflui. Se fosse capitato un controllo e gli avessero detto facci vedere i libretto delle analisi. Beh, sanzioni, ci sono gli articoli che sanzionano il mancato rispetto della normativa. E nel suo caso? Chiuso? No, beh, no, no, no. Ti difidano. Ti difidano. E ti devi mettere a... La monta è limitabile. Trattandosi di... E lì è da vedere poi, perché è un refluo normalmente urbano, o assimilabile all'urbano. Però è un'attività produttiva. E quindi, se è attività produttiva, scatta il penale. Se invece viene inteso come un refluo urbano, no? Però le sanzioni sono pesanti lo stesso. Quindi ho un'azienda che dice formaggi... Non vale la pena, ecco la mia risposta è, non vale la pena non rispettare la legge. Portanto, naturalmente, sapendo che cosa devi fare. No, infatti... Una volta che lo sai, è anche facile rispettare. La maggior parte delle volte che le analisi non vengono fatte, perché solo dimenticano. O per ignoranza, o perché chi gliel'ha venduto non gli dice, guarda che devi fare. Perché guarda che lo devi fare su sé. Magari lo prendono così, un po' la leggera, e dice, eh, vabbè, l'abbiamo intanto, magari lo faccio. Poi ti arrivo nei carabinieri, è tanto. Eh, sì, un asserlo, è... Un casino. Quindi fate le analisi. Fate le analisi, tenete il registro di impianto, il registro delle visite, non costa niente farlo. E anche un atteggiamento di rispetto verso il depuratore. Il depuratore ti chiede poco, tutto sommato. Il problema ti chiede fra. Poi, eventualmente, se proprio, 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 non ci vuoi star dietro, almeno rivolgiti a qualcuno, lo faccia a vedere molto tu. Che te lo fa, però, sì, per te. E così non ci pensi. Thank you so much. L'impianto che è stato proposto al cliente è del tipo sequence batch reactor, e cioè funzionamento a pistone. In altre parole, riempio la vasca, quando è piena inizio a insufflare, depuro, quando ho finito di insufflare, mi fermo, fermo l'insufflazione, lascio depositare il fango, e, una volta che è depositato il fango, spillo l'acqua che sta sopra il fango. Dopodiché riempio il ciclo, questo all'infinito. Quindi riempio, riempio, insufflo, riemposito, riaspira. Sì, vabbè. Quali sono gli aspetti critici di questo tipo di impianto? È un buon impianto, però si è fatto bene. In questo caso, invece, qui praticamente c'è, è stata offerta soltanto la vasca di reazione, e non una vasca precedente di, qui dice, accumulo e glancio, compro la trituratrice, eccetera. Ma in realtà non c'è una vasca di accumulo. Perché? Perché se tu, come dice la relazione di dimensionamento, hai una portata giornaliera di 25 metri cubi al giorno, questi 25 metri cubi tu li produci durante le ore di lavorazione, quindi nelle otto ore. Se tu hai una vasca di omogenizzazione, tu i 25 metri cubi li metti qua, poi hai una seconda vasca di reazione, di cui parlavamo prima, che tu puoi alimentare quando vuoi. Invece, in questo caso, non avendo una vasca di accumulo e di omogenizzazione preliminare, precedente, mano a mano che arriva, li devi mandare dentro. Ma mano a mano che arriva, li mandi dentro, non puoi farlo, perché il pace reactor vuol dire che non decide lui quando vuole liquame, quando lo deve insufflare, quando lo deve aspettare, quando lo deve spillare. Perché tu dici che... Se lui invece arriva, arriva. Perché infilandolo dentro continuamente, se nel momento... Se tu vieni in insufflazione, ancora ancora. Ma se tu sei in sedimentazione, butti dentro del liquame, dentro una vasca che stava separando l'acqua depurata, che ho detto, il minestrone, mescoli di liquame, nuovo, con un'acqua depurata. Si spera. Ma e... non si risolve con questo trituratore di... No, trituratore non è una vasca. No. Ok. Secondo aspetto critico della cosa. Ammesso che tu superi questa criticità, che io non riesco a capire come riuscire, però, nelle otto ore di produzione, tu cosa fai? Ma di retro. Inizia ad insufflare dopo. non quando dice lui, ma quando dice la produzione. E va bene. È un aspetto. Secondo aspetto, eh, che abbiamo detto, insuffli, crei, depuri, fermi, sedimenti, separe il fango dal lipido che spingi. Ma questo fango si accumula, si accumula, si accumula, si accumula. E si accumula abbastanza velocemente. L'impianto non prevede l'aspillatura del fango. Cioè, degli impianti nostri tradizionali tutti i giorni il fango di super, il fango in eccesso che viene prodotto e che non mi serve più per la depurazione, ma mi riempirebbe solo un volume inutilmente, lo tolgo e lo mando a rispessire. che è quel sistema che c'è la vasca. Qui invece non è prevista l'aspillatura del fango. Il fango è l'è lasciato lì. E se tu lo lasci lì però, cresce fino a quando? E quindi che fanno? Non dici più a separarlo dall'acqua depurata. Ah, E fugge con l'acqua depurata. Cioè, l'acqua depurata è piena di fango quindi non hanno previsto questo fatto. E come lo risolverebbero loro? Non lo risolvono, lo risolvono poi nella realtà il cliente si trova il problema che risolve chiamandolo toscuro di tanto in tanto. Ma non è un impiatto di depurazione invece se non avessero una vasca come quella che ha il bio-barbale dovreste mettere la pompa che è temporizzata per le portavie il fango tutti i giorni un pochino in modo da mantenere un equilibrio perché la depurazione ottimale si ha quando nella miscela areata metà è fango e metà è acqua limpida dopo che è sedimentata. Se tu superi questa soglia e tu hai e cioè dopo due ore di sedimentazione non hai 50% di fango ma ne hai 60, 70, 80 fino al 100% chiaramente cosa spigli? Fango non spigli acqua depurata. Seconda criticità che qui proprio hanno ignorato ma perché l'hanno ignorato? Per non far costare il piatto. Cioè se tu metti tutti questi accorgimenti devi mettere una vasca preliminare la vasca la devi aerare altrimenti va in putrefazione il liquame quando lo mandi in insufflazione manda fuori tutte le sostanze volatili maniodoranti puzza 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 drogioso forato mi accattare dovresti insufflare quella prima dovresti anche insufflare costa se io non lo metto non costa però faccio solo un impianto che lo schifo l'acqua depurata invece di disinfettarla con un reattivo chimico tipo il cloro ipoclorito di sodio che è la cosa più semplice ma può essere qua sì a questo è più che è quello lì che ho visto in magazzino giusto? rotativo tamburo questo loro lo mettono sull'uscita siccome di scappa il fan cosa dicono io ho trovato la soluzione lo separo non lo devi far scappare non lo devi sparare dopo sono spiegato anche perché quello che separi dovevano lo ribanti tirano qui e ce lo togli dalla finestra e ti rientra dalla porta ce lo tolgono da qui lo ributtano qui questa non c'è l'anno quindi lo ributtano qui certo quindi continui l'ultima cosa che io non condivido assolutamente è che il trattamento finale di disinfezione avviene con uno sterilizzatore a raggio ultravioletti ora lo sterilizzatore è una bellissima macchina che funziona bene soltanto se hai un'acqua perfettamente limpida perché se ci sono coni d'ombra il raggio ultravioletto viene schermato e non serve assolutamente a nulla perché la disinfezione avviene andando a incidere sulla cellula batterica sul suo DNA compromettendole quindi la capacità di moltiplicarsi ma se se tu lo fai sull'acqua riflua come questa torbida che sicuramente torbida in queste condizioni non fai assolutamente niente tanto vale non provarci neanche a sterilizzare perché l'acqua deve scorrere a velo sulla lampada se l'ultravioletto non funziona c'è una lampada tipo neon che è infilata dentro un tubo di quarzo quarzo è un vetro particolare che è permeabile alla gira ultravioletta per cui i dottori di mercurio che stanno dentro la lampada che quindi non è a neon ma è al mercurio produce questa luce ultravioletta che va a sterilizzare l'acqua a condizioni che non ci siano comidobre altrimenti non sarà risolto ma tecnicamente come passa questa luce e c'è la lampada leo c'è il tubo e la lampada è dentro è dentro il tubo di quarzo permeabile all'ultravioletta l'acqua viene fatta entrare gira attorno a questo vetro e esce dall'altra parte è semplicissimo però ci possono essere con i dombra in questo caso se l'acqua è torbida si te l'hai movimento magari muovendosi si 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 schermi tutto quanto e quindi difatti e ma è il rischio anche di oscurare la lampada a me di creare una quella sicuramente dopo dopo pochi giorni hai un quarzo che è foderato di 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 ora la considerazione è questa l'impianto fatto così costa relativamente poco dal punto di vista impiantistico è semplice dal punto di vista nostro è pericolosissimo perché poi non funziona lo sappiamo prima che non funziona cioè andare a fare una cosa del genere è un po' come suicidarsi detto questo possiamo possiamo offrirlo chiarendo però che noi non non ci prendiamo la responsabilità noi lo realizziamo come progettato non condivido quest'ultima scelta di farlo pur dicendoglio anche perché poi all'inizio tu glielo dici vale che è poi non funziona se la prende con te chiaramente non è che se la va a prendere con il progettista buongiorno buongiorno l'altro giorno ci ha chiamato una clinica una clinica veterinaria e hanno bisogno di un depuratore loro fanno principalmente come si dice cani cani fondamentalmente ok e gli è nata una grande domanda ma prendere un depuratore biologico qualsiasi di quelli diciamo commerciali va bene per una clinica veterinaria o un canile e la risposta è no perché? perché il rifluo dei cani è particolare non ha le stesse caratteristiche di un rifluo domestico umano per la depurazione il rapporto carbonio-zoto-fossolo deve avere dei parametri diciamo indicativamente precisi nel senso che devono essere un rapporto 125-5 in modo tale da creare una flora batterica che sia efficace efficace vuol dire veloce che porti a risultati depurativi di una certa importanza nel caso del rifluo dei canini invece questo rapporto non c'è allora cosa succede? è che c'è uno squilibrio verso l'azoto ora come tutte le cose quando ce n'è in eccesso diventa tossico in troppa sostanza nutriente di un certo tipo come per noi umani quando tu eccedi magari il bicchiere di vino ti fa bene ma se ne bevi una bottiglia ti ne facciano così seguiti su guai siamo sulla stessa falsariga per cui questo è un problema che c'erano posti tanti tanti anni fa quando c'era stato proposto il problema di depurare un renco derivante dalla raccolta delle urine femminili da cui venivano estratti estrogeni e il renco era purtroppo risolto il che rendeva tutto tosico perché è accessivo quindi mi ricordo che avevo fatto un sacco di taggine ero andato in giro per l'Italia a cercare soluzioni di chi avesse già risolto questa cosa qua e alla fine ho scoperto che c'era poco da risolvere bisognava fare delle cose un po' strane allora da lì è venuta fuori la soluzione quasi per caso nel senso che ho detto vabbè è toxico non me lo devo tenere toxico cosa ci posso fare? posso fare in modo che faccia il meno danno possibile allora cosa abbiamo deciso? di sopportare le possicità in una certa fase del procedimento per proseguire per cui sbaltivano l'eccesso e quindi diventava una rivoluzione non di affinamento una rivoluzione era una sgrossatura era come mettersi il paradetto mi vuoi dare pugni in faccia? e lo vedo almeno mi metto il paradetto non mi faccio male e poi andiamo avanti e poi ce ne andiamo di santa ragione dopo e quindi c'era una sgrossatura una sgrossatura e poi l'affinamento perché le alternative che io ho visto in giro in Italia in realtà analoche erano il al tempo andava di conto lo wasp si chiamava che era l'acronico di afto cioè praticamente il liquame veniva fatto percolare ma la rovescia da sotto in su colpi di riempurimento in condizioni di anossiche e anossiche va bene nel senso che l'idea non era male nel senso che per fare una delitrificazione tu questo rapporto non lo rispetti più cioè ti va bene avere un eccesso di azofo ma anche lì a un certo punto se poi questo eccesso è veramente eccessivo non funziona niente neanche lì e allora era complicatissimo nel senso che la flow voleva dire ricircolare voleva dire nutrire investire un sacco di energie e di soldi perché poi avevano delle cose grandi cose da tenere sotto controllo con degli strumenti raffinatissimi perché passava che ti scappasse di mano un parametro e tutto andava cose che non sono assolutamente sostenibili per un canile sostenibili ma a livello grande insomma un canile un canile no una clinica escruti una clinica da otto canile escruti non è possibile cioè non puoi investire tutti quei soldi ancorché funzionasse poi non funzionava niente e quindi abbiamo provato questa soluzione del doppio stato l'anno scorso che siamo andati a sistemare quei depuratori dei canili io ricordo che questi depuratori erano giganteschi cioè occupavano una quantità di spazio assurdo sì però tutto sommato era tutto simplificato nel senso che potevi non gestirlo in modo sopraffino e funzionavano lo stesso nel senso è proprio quel concetto di diciamo quindi avendoci a disposizione lo spazio uno si mette questi due bestioni sì che tutto sommano non erano più così grandi devi vedere in confronto uno wasp che cos'è gigante ancora di più ma io penso ok ho capito che trattare il refluo dei cani avendo una percentuale di azoto è assurda è probabilmente un carbonio completamente sballato pochissimo fossero pochissimo carbonio e un sacco di azoto non posso trattarlo con un depuratore biologico standard ma devo fare o trovare questo accrocchio cioè ci faccio una sgrossatura poi ci faccio un doppio stadio sì un doppio stadio oppure ma ecco la differenza tra canile canile e canile clinica tutto sommato è che il canile clinica forse con il sistema carbonitivi ce la fai a farlo partire a tenerlo in vita il canile clinica clinica cioè tu intendi piccola piccolo piccolo dieci cani dieci cani venti cani sì però lì non sono stabili e ci vivono dentro stanno lì dentro il tempo che serve esattamente poi considera anche una cosa che probabilmente l'urina di quei cani ha anche una grande quantità di antibiotico ma hai messo proprio il tito sulla piaga perché l'antibiotico non viene metabolizzato completamente dal corpo quindi diciamo una buona parte viene espulso e questo costituisce proprio il top del non del non biologico perché è proprio una sostanza antibiologica quindi devi veramente usare il carbonitivo un fai di attività tradizionale un percolatore tradizionale giusto per dire che hai l'intipulatore ma non ce la fanno non ce la fanno ma quindi scusa un secondo non funziona è pricito ok per lo sballo il carburativo te lo ricordo la nostra tecnologia del biogare era data però non è carburativo l'MC45 se no facciamo confusione giusto è nato per tantare il ripro di una grossa azienda farmaceutica svizzera così ci piace che aveva questo problema cioè scaricava gli antibiotici gli antibiotici andavano nel depuratore ammazzavano tutto creavano un foaming parole che ti piace cioè uno schiumeggiamento polle che quando tirava vento andava su un'autostrada e gli automobilisti riuscivano di strada insomma era un pasticcio quindi allora se ho capito bene dalla clinica veterinaria che comunque ha delle dimensioni più contenute al canile che invece ha dimensioni molto più grandi le soluzioni per riuscire a gestire un refluo e avere un'acqua depurata a norma poi ci sono ma non sono quelle classiche commerciali e quindi se ho molto spazio ci faccio quella soluzione con quel doppio stadio eccetera eccetera un bio una massa carburiosa adesso non sono preciso non parlo più di carbonio no perché se dici carbonio attivo pensa sai il filet è una grande famiglia però l'MC45 è un'altra cosa diciamo ok quindi in una situazione di clinica veterinaria come la nostra della cliente in questione la soluzione l'unica probabilmente percorribile è quella di dotarsi di un depuratore con tecnologia bio ok ok perché allora aspetta scusa allora la domanda a questo punto è ma perché cioè perché il bio perché nella clinica di antibiotici e quindi il bio è resistente a clinica quindi sia per il discorso antibiotico sia per il discorso della qualità del bio che se li unisci diventano esplosivi ai tritolo ai mitroclici ad inazia diventano esplosivi sì sì ok va bene ottimo una domanda massa carboniosa e carboni attivi sono due cose diverse sono due cose diverse sì perché il carbone in live generale si misura come superficie attiva ora il carbone attivo tradizionale quello che serve a declorare quello che serve a battere le sostanze volatili a deodorare eccetera eccetera e ha una superficie attiva molto elevata parliamo 1.000-2.000 metri quadrati a grammo 1.000-2.000 che però per la vita batterica non vanno bene perché sono troppo piccoli i pori sono microporosi noi invece abbiamo una tecnologia basata su una massa carboniosa macro-corosa macro-corosa tutto è relativa è macro non è che è grandissima parliamo di qualche nanometro comunque che però si adatta perfettamente alla flora batterica per cui non non ci funge da assorbente dei volatili del cloro eccetera eccetera o dei metalli pesanti ma funge da supporto inorganico alla flora è un terreno di pottura è una tavola di pesce indiaturizzata acido peracetico l'acido peracetico è un disinfettante che è molto simile all'ipoclorito risolio ma grossi vantaggi non dà cloro derivati perché non è a base clorata cioè è acqua ossigenata con acido acetico che ha reggito il prodotto finale della disinfezione sono tracce di acido acetico l'aceto dell'insalata e posso usarla per annaffiare le piante e posso usarla per annaffiare le piante perché non è fitotossica non è etiotossica è l'ideale svantaggio dell'acido peracetico rispetto all'ipoclorito di sodio costa molto di più ma se ne usa molto di meno poi fatti conti alla fine spendi un ciccinì di più che non usare ipoclorito di sodio perché non lo fanno perché molti non lo saranno perché ma è l'ipoclorito di sodio invece l'ipoclorito di sodio va da cloroderivati da organologinati da un sacco di materiale che è fitotossico tronco e poi la legge il 152 e anche il 185 prevede dei parametri limite cioè non ne puoi scaricare più di 0,2 ppm che è una quantità massissima che è difficilissimo rispettare cioè o tu non disinfetti e rispetti la limite o disinfetti e sicuramente ti scappa oltre il valore limite allora cosa fai non usi quello che la legge prevede che non puoi dosare più di tanto usi un'altra cosa sulla quale la legge non ha niente da ripeto perché non è fitotossico non è fitotossico una volta mi hai raccontato come era iniziato tutto quando siete arrivati qui in Savenia ho iniziato tutto sì perché a Romo comprato delle quote di un campeggio e dovevamo fare l'impianto di esicurazione e questi piatti di esicurazione c'era una cosa che strana che senso e allora ci siamo guardati intorno abbiamo cominciato a vedere intanto nella perisola fuori dall'isola che cosa si faceva poi la cosa ci ha intrigato abbiamo cominciato girare per tutta l'Europa a vedere quello che facevano i francesi quello che facevano i tedeschi quello che facevano gli inglesi erano i più avanti i tempi? erano sì erano i più avanti tutti quanti rispetto a noi tutti quanti sì perché da noi la prima legge che parlava di ambiente concretamente era la legge Merri parliamo del 1976 gli altri erano partiti nel 1800 gli inglesi avevano scoperto i fagli attivi nel 1914 fai conto tu? 1914 nel 1976 cominciavamo a dire ma così quasi prima in Sardegna si scaricava in mare così via c'erano le fosse perdenti le fosse Ibo ecco devo dire che il signor Ibof aveva ma la forza Ibof serviva a sedimentare e a digerire il fango sedimentato il recuo liquido era un recuo settico quindi un recuo liquidante e corso lento è una domanda che mi sono fatto perché depurazione in un altro collegato all'ambiente per quel discorso del campeggio che all'inizio vi ha poi portato ad appassionarvi per quella materia lì e ma depurazione si è isolata sì 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 si riportazione dell'acqua di labia sì sì riportazione dei frumi delle sostanze gassose all'inizio noi eravamo presenti dell'attivoli che è una società americana che è nata facendo elettrofiltri in pianti grossi per scarichi ai riformi per i come si chiama i combustori c'è un alluminatore e poi invece la specializzazione dell'azienda l'avete presa con di assoluto perché non c'era mercato quanti elettrofiltri vuoi neanche uno cioè non ci siamo nemmeno riusciti con la piccola americana che era il colosso era il colosso invece la depurazione dell'acqua è invece la depurazione dell'acqua sul piccolo mercato piccolo perché come dice mio padre mio figlio dice ma papà ma perché l'hai fatto il sardegno lo facevo il milano e l'irico da dove ti è nata mi è nata dall'idea che potevo fare un lavoro che era gratificante dal punto di vista etico cioè potevo fare qualcosa per l'ambiente e difatti non ci ho fatto i soldi proprio perché la vedevo in modo filosofico forse troppo però questo mi è servito a staccarlo un pochino dall'aspetto contingente e a volare alto cioè a vedere il problema della sua interessa ha come dire solo un atteggiamento di prove e soldi cioè tu mi racconti il tuo problema e io ti propongo le soluzioni che conosco e poi insieme discutiamo di che cosa fare dal punto di vista economico però intanto lo risolviamo dal punto di vista tecnico quindi era una questione dici di è gratificante è gratificante lavorare per migliorare l'ambiente ti motiva perché ti rende gratificante è qualcosa più grande cioè senti di essere utile a tutti non soltanto alla alla tua sopravvivenza al guadagnare soldi sei utile veramente cioè sei parte del creato e sei la parte buona del creato perché tuteli la natura sì fai parte del grande progetto il grande architetto dell'universo che ha deciso che si può fare meglio è appena stato da noi un architetto il cui cliente è un cliente straniero stanno sistemando la villa e stanno realizzando un pozzo perché hanno bisogno di prelevare l'acqua per l'innaffio del giardino cosa gli hai consigliato qual era il punto in questione il punto era che il pozzo del vicino probabilmente ha l'acqua salmasta e probabilmente ha fatto il pozzo troppo profondo allora la cosa che gli ho perché loro sono vicino al mare perché loro sono qualche centinaio di metri dal mare ok e la cosa che gli ho suggerito è semplicissima cioè non consentire a quello che fa il pozzo di andare giù per guadagnare soldi lui ma appena trova l'acqua fermarsi e analizzarla perché se riusciamo a trovare l'acqua in uno stato più superficiale è molto probabile che sia meno salmasta se mai lo sarà quella che troveremo alla fine dello scavo però io che io fisicamente sono l'architetto sono lì che sto dirigendo il lavoro facendo supervisione alla trivellazione del pozzo come faccio io lì in quel momento con uno strumentino semplicissimo che costa qualche decina di euro appena trovo dell'acqua mano a mano che trovo dell'acqua fermo la trivellazione e con un bicchiere d'acqua mi ha il conducimetro che è una misura di conducibilità semplicissima e leggo il micro simers che mi dice l'apparecchio l'apparecchio quali sono gli indici di tolleranza dicevi come misura di riferimento c'è l'acqua potabile che è sui 300 micro simers e poi l'acqua salmasta che va a 2000 3000 l'acqua di mare che va su e quindi misurarla come trovi l'acqua fermati misurala anche perché loro hanno bisogno di pochissima acqua al giorno qualche migliaia di litri quindi non è che devono trovare chissà quale vena devono trovare l'acqua possibilmente non salmastra quindi il loro progetto iniziale era quello di trivellare 80 metri e spendere 4000 euro anche noi no ferma se la trovi a 5 con il rischio di beccare proprio giusto l'acqua salmastra perché poi quando vai troppo sotto allora siccome sei proprio vicinissimo al mare è probabile che se smette di piovere ci sia una risalita da parte del semplicemente per vasi comunicanti per pressione idrostatica cioè sei sotto nel livello del mare di 100 metri non arriva acqua perché ha smesso di piovere non arriva buona dolce cosa succede è che torna indietro l'acqua normale quindi in questo modo avendo interpellato noi te avendo saggiamente chiesto un consiglio noi stiamo dicendo con 30 euro di conducimetro risparmi qualche migliaia di euro di pozzo questo non farà felice chi ti tempella però insomma l'importante è che sia felice il cliente non il trivellatore il cliente ringrazierà bene grazie mille grazie a tutti La chiacchierata di oggi non vuole essere sicuramente un'interpretazione della legge perché come tante leggi italiane ci sono diverse scuole di pensiero che dicono cose e sono anche il contrario. L'argomento è? L'argomento è il SUAPE, cioè il nuovo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia che a noi interessa per l'autorizzazione allo scarico che devono fare tutti? Che devono fare tutti, se chiunque abbia uno scarico che sia derivante da un'abitazione civile oppure da un'attività produttiva deve poi avere un impianto di trattamento che deve essere utilizzato. Questo in linea generale e su questo non ci sono dubbi. Invece sulla normativa della SUAPE che è entrata in vigore recentemente Posso fare una domanda prima del SUAPE? Certo, come non. Prima come funzionava invece? Prima cosa succedeva? Funzionava così che le attività produttive dovevano attivare il SUAPE, lo sportello unico per le attività produttive. I privati invece si rivolgivano direttamente all'ente competente che nel nostro caso è la provincia, la provincia di competenza. Adesso invece tutto è stato accorpato in un unico strumento che è il SUAPE, appunto. La chiacchierata appunto è verta sull'esperienza che ho maturato in questi giorni e che... Questi giorni? Questi giorni, sì, perché è proprio una cosa recentissima. La legge regionale è per l'ottobre 2016 e poi ci sono le direttive in materia dello sportello unico che la regione ha emanato il 28 febbraio 2017. Quindi è proprio una cosa recentissima. Allora, cosa succede? Che, come dicevamo... Prima dovevi rivolgerti alla provincia, ricevi... E adesso la cosa è normata, regolata, da questa legge regionale dell'ottobre 2016-24 che però rimanda alle direttive in materia di sportello unico e in particolare rimanda all'articolo 9, 10 e 11. Ora, l'esperienza di cui parlavo è che un comune, perché il SUAPE è gestito dai singoli comuni, un comune ha emesso una ricevuta automatica, cioè ci ha mandato una ricevuta di una presentazione di una pratica autorizzativa, in cui si legge una cosa molto interessante, e cioè che stiamo parlando sempre di un'autorizzazione allo scarico di un pianto per un'attività commerciale. E qui il SUAPE, in questo comune, dice che gli atti conseguenti e le verifiche strutture sono regolate dall'articolo 10 delle direttive regionali, perché è molto importante che sia l'articolo 10 anziché l'articolo 11, per dire, ma perché l'articolo 10 parla di attività istrutture che verifica del procedimento di autocertificazione che può essere a 0 giorni o a 20 giorni, cioè stiamo parlando di una autocertificazione. Questo cosa vuol dire che l'autocertificazione è, poi il procedimento è regolato dall'articolo 9 precedente, che dice che per tutti i procedimenti in autocertificazione, che sia a 0 giorni o a 20 giorni, ma nel nostro caso è a 20 giorni, la ricevuta automatica, che viene rilasciata in casa presentazione, unitamente la dichiarazione autocertificativa e ai suoi allegati costituisce titolo abilitativo, cioè l'autorizzazione è la venuta presentazione. Il professionista produce un'autocertificazione, produce quindi un documento che lo responsabilizza del fatto che ha detto la verità, che ha presentato tutto quello che deve rappresentare, che tutto è vero e questa è già l'autorizzazione. Quindi io con l'autocertificazione e quel documento di ricevuta che c'è lì sono assorso dopo 20 giorni. Dopo i 20 giorni. Questo a prescindere poi dalle attività di verifica che gli enti sono tenuti o comunque che possono fare. Nel senso che la provincia, l'ARPAS, tutti gli enti interessanti che sono appunto comune, ARPAS, provincia e regione di Sardegna, hanno 60 giorni di tempo per chiedere integrazione, chiedimenti, eccetera, eccetera. E questi 60 giorni si riducono di 5 perché la loro attività deve essere, deve terminare 5 giorni di prima della scatazione. Quindi 55 giorni. Ma cosa interessante che... Scusa, scusa, 55 oltre i 20 o compresi? Lo sempre partendo dalla ricevuta. Ah, quindi? Consegni. Consegni. 20 giorni, sono autorizzato. E poi ti dice, ho ricevuto la tua richiesta autorizzativa in autocertificazione a 20 giorni, ecco. Succede che poi l'ente, gli enti hanno tempo 60 giorni per dire, ma mi manca questo documento, devi specificare, mi manca questo disegno, eccetera. L'attività accertativa è vista subito, ecco. Come presenti, se qualcuno nota qualcosa che manca, probabilmente se dichiarano cose che non deve sono dolori perché scatta il penale, eccetera. Scusa, secondo, prima invece come funzionava? Perché io andavo lì, facevo la domanda e poi... venivano fatta la conferenza di servizi, veniva convocata la conferenza di servizi, dopo la conferenza di servizi si vedeva che aveva da dire che cosa, se ti aveva chiesto qualcosa, ti vedeva che tu dovevi produrre, e i tempi si dilatavano. Ma tipo... L'attualizzazione non era la venuta presentazione, era... Messa. Aspetta che decidiamo che tu hai presentato tutto correttamente. Nella peggiore delle ipotesi? Nella peggiore delle ipotesi... mai. Va bene, la più plausibile e peggiore delle ipotesi in mesi? È capitato anche anni. Anche anni? Sì, sì, perché... Nella sera abbiamo troppo da fare, siamo operati, non abbiamo personale, eccetera, eccetera. E la tua pratica è una delle tante, aspetta di tre. Questo, come dicevo, è un trasferimento di esperienza, non è un'interpretazione che solo a fare potrei giurare, perché poi è la magistratura che decide qual è la verità. Un nostro collega, grosso, che manda in giro preventivi scrivendo... La vasca di prima pioggia, in continuo, e cioè il dolce che è amaro. La vasca di prima pioggia non può essere in continuo. In questo caso abbiamo una vasca che si riempie e continua a smaltire durante l'evento meteorico, senza pompa, per cui quello che entra esce. Siccome la vasca di prima pioggia, per definizione, è la laminazione, cioè l'accumulo dell'evento meteorico inquinante, e poi la ripartizione della portata nell'arco del tempo, qui è proprio la presa in giro, nel senso che ti dicono ti vende una macchina che però non ha le ruote... Però io non lo capisco bene, se me la spieghi meglio, nel senso che la vasca di prima pioggia funziona così. La vasca di prima pioggia, per definizione, devi raccoglare, 5 centimetri, 5 millimetri per metro quadro, e poi nell'arco del tempo lo ripartisci. Ti aspetta. Giusto perché non tutti sappiamo bene come funziona. Piove, i primi 5 millimetri di pioggia di tutta la superficie impermeabile vengono raccolti da questa vasca, dopodiché tutti gli altri centimetri, metri... Sono acque di seconda pioggia che... Passano oltre e vanno via dritti. Ok, invece questa è una vasca che non trattiene. Che non trattiene, non lamina, non... Quindi è una vasca di prima pioggia che non è una vasca di prima pioggia. Qual è il vantaggio? Che costo molto meno. Non c'ha la pompa, non c'ha... C'ha un filtro, c'ha qualcosa... Un disolatore, sì, però... Non facciamo vedere... Non faccio vedere niente. In realtà è una vasca. Una vasca X. È facile così costare meno la roba. È come se ti vendessi un depuratore che non depura, però è un depuratore. Cioè io lo chiamo depuratore che c'è una scatola. Ed è una scatola. Una... Com'è che si chiamano? Quelle fosse sterili. Eh sì sì sì. La vasca... È però un vantaggio. Però sta poco. Eh sì, ci credo. No per te lei. No per te donne un diputato. No per te cazare cosa cirazzie. Imi li fa. Quando al고ina è un tardo di gioco. No per te devi, ti è calciata. No per te lei. Daniela!!! Ciao Paolo, perché stiamo facendo questo video? Perché ti ho fatto una domanda e ti ho detto Paolo, ma quali sono i documenti corretti per avere l'autorizzazione allo scarico? I documenti corretti per avere l'autorizzazione allo scarico sono quelli che decide il professionista del cliente noi siamo però a disposizione per suggerimenti, per supportarlo, per completare quelle parti che sono appannaggio degli specialisti in cui bisogna indicare dei numeri che devono essere correlati, non devono contraddirsi, non devono andare in conflitto con altri documenti allegati e così via. In linea di massima per l'autorizzazione allo scarico per i reflui di tipo domestico il modello è la 11 nel sardine è il SUAPE, che ha sostituito il SUAPE, che ha sostituito tutto quanto e in linea di massima una volta presentato la richiesta dell'autorizzazione allo scarico tramite il SUAPE l'autorizzazione è immediata, è a giorni zero. Nel caso invece di scarichi produttivi il modello 11 va integrato dall'F11 e il tempo è 20 giorni poi naturalmente tutti i clienti hanno un tempo di 60 giorni, di 60-5 giorni di tempo per chiedere integrazioni documenti aggiuntivi eccetera eccetera e questo però non comporta la decadenza dell'autorizzazione, l'autorizzazione è il protocollo come viene protocollata quella è l'autorizzazione Ok, allora ti faccio una domanda So già dovevo arrivare Sì, sì, lo sai Allora, questo perché? Perché a me preme tutelare il cliente e la mia domanda è se vuoi anche un po' una provocazione e io dico, visto che noi serviamo geologi, architetti, ingegneri, agronomi questi sono specialisti nel loro settore ma magari la depurazione o le autorizzazioni per gli scarichi o comunque diciamo tutto il mondo del trattamento delle acque non è il loro pane quotidiano Non c'è nel motivo che lo sia perché lo fanno solo quello Allora si occupano magari di ingegneria edile, civile, quello che è e quella è la loro materia e sono magari bravissimi in quello Infatti il nostro compito è se ne hanno bisogno, io voglio una domanda Esatto, ma siccome il se ne hanno bisogno, ne hanno bisogno perché il loro pane quotidiano è l'altro Senza essere troppo, senza essere offensivi Ovvio, ognuno ha le proprie specializzazioni Se hai bisogno, non è che stabilisco io se hai bisogno di loro Certo, non lo stabilisco io Ma cosa può succedere? Che se non hai il tuo pane quotidiano magari sbagli i moduli Vabbè, in questo senso possiamo appunto supportarli prima o durante o dopo Cioè come? Non ho mica detto che il modulo li deve compilare io Chi può compilare benissimo il professionista se ha dei dubbi se vuole un conforto ci rimanda, noi li verifichiamo Quindi potremmo agire in due modi abbiamo detto Esatto, o glieli compiliamo noi e gli diamo precisamente i moduli corretti per E quelli sono Però bisogna mettersi d'accordo perché se te li compilo io mi assumo la responsabilità Poi non me li devi incasinare Esatto, altrimenti li compili tu Li compili tu Siccome la faccia l'abbiamo già sbagliata tante volte E lui deve che la sbagli anche tu, no? Usa i miei libidi per evitare di farti male Visto che comunque noi di autorizzazione allo scarico ne abbiamo tenute migliaia E poi soprattutto sappiamo dove c'è il trabocchetto Dove tra l'altro i moduli non sono chiarissimi assolutamente E quindi è anche giustificato avere dei dubbi o dire ma com'è Questa cosa sembra in contraddizione Non è che sembra, lo è Tante volte per l'altro non è E quindi poi però noi essendoci sbroccati sappiamo dov'è la soluzione Non sono cose misteriose, è che so che L'esperienza Se metto una spunta qui poi devo stare attento che la spunta di là non ci sia O che ci verso oppure ci deve essere Semplicemente mestiere, mestieraccio E se per caso invece io consegno dei moduli non corretti Ne consegno troppi, ne consegno troppo pochi, ne consegno a sproposito cosa capita? Ecco lì dipende dal funzionario Perché normalmente se la pratica non è perfettamente completa È comunque accettata e ti viene dato un protocollo Che in momento di partenza dell'autorizzazione Fatto il protocollo poi la si può perfezionare in mille volte Normalmente è così Qualche volta invece il funzionario la prende diversamente Ritiene che la pratica come è stata istruita non sia protocollabile E allora si ricomincia dalla carta E quindi perdi tempo Perdi tempo Inutilmente Fai figuracce Quindi a questo punto Il cliente poi non sa neanche cosa raccontare Dice ma E quindi bisogna trovare un capo di spiatorio È colpa di È colpa di Spirulino È il funzionario che è cattivo Cattivo Oppure È il modulo che non era chiave Non era quella Non era quella Ho parlato con la signora dell'ufficio X Che si occupa di quello E mi ha consigliato Y E quindi la colpa è sua Ma invece di Tutto questo si supera semplicemente Una consulenza nostra Fine E questo semplificherebbe le cose Quindi Direi che Per ricapitolare il tutto Se tu cliente Vuoi dormire sereno Se tu specialista Professionista Vuoi Un aiuto Certificato Diciamo così Certificato Dall'esperienza Nostra Basta che ci chiami E noi te lo diamo Non c'è nessun problema Però poi Non ti metto ad aggiungere altri 50 moduli Inutili Che vanno in contrasto con quello che ti abbiamo consigliato di fare Perché sennò Sì Cante volte Il di più non è meglio Non so No Aggiungi cose che bloccano tutto Io sono L'idea che L'importante è presentare quello che è Previsto Che è richiesto Espressamente E di più si può sempre aggiungere dopo Ma Siamo chiedendo di tutto Cosa Vai a Raccontare Non c'è Si arrabbierà perché dovrà aspettare molto di più una semplice autorizzazione Potete raccontare qualcosa insomma Potete sempre raccontare qualche cosa Sì una barzelletta magari Ok Grazie 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 Una villetta stupenda In riva al mare E cosa aveva? Un Impianto di depurazione BioVar Un impianto BioVar con tecnologia BioVar È realizzato più o meno 30 anni fa Eh circa 30 anni fa Quando ancora ai tempi si faceva in Ferro Zincato No Resinato Con la resina epossilica Ferro con la resina E ce l'ha fatta È lì che funziona Che tiene l'acqua Che Funziona ancora Dopo più di 30 anni Funziona Tutto incrostato di sedimenti Perché non l'hanno mai pulito Però è lì che Ha bisogno di manutenzione Ha bisogno di manutenzione Ma sai dopo 30 anni Magari una piccola manutenzione Se la merita Ma quindi Ti dà la misura dell'affidabilità Ecco Lì ti volevo L'affidabilità Dopo 30 anni Erano tutti stupiti Che funziona Perché Il nuovo proprietario Ormai si ragiona in termini di consumo Scema ancora Non può Non ha senso Siamo abituati a cambiare le cose dopo 2-3 anni I cellulari li cambiamo dopo 2 anni I computer dopo 4-5 Invece questo Dopo 35 anni Era ancora lì a funzionare Il proprietario non ci credeva Il proprietario Prima non ci credeva Poi era Il son lucero Perché diceva Allora siete veramente Affidabili Se dopo 30 anni Di 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 un impianto che viene È stato dimenticato Trattato male Trattato male Ma quindi questo però Ci insegna una gran cosa sulla Qualità del materiale Di costruzione Si Sul Se l'impianto è ben progettato Ben realizzato Anche se poi non è ben manutenzionato O non è manutenzionato per nulla Tutto sommato L'affidabilità lo dimostra Si Infatti mi faceva pensare Cioè Stavo pensando a Il materiale La qualità del materiale E Tanti Produttori Puntano sulla plastica Perché costa poco Perché costa poco Però la plastica Non durerebbe 30 anni No 35 anni Ci sarebbe più Ci sarebbe spappolato Sì Perché per È un usore del tempo Il cosiddetto Alfaticamento Quindi alla fine Ok Lo faccio in acciaio O in quel caso In ferro In quel caso Era in ferro E non era il massimo No Perché il ferro andrebbe Ritoccato ogni tanto Se ci sono punti di ruggine Andrebbero Manintenzionati Insomma Quindi Invece Ora Adesso che vi facevo In acciaio inossidabile Sarà Che fra cento anni Arriviamo E vedevo un impianto Di riposizione Fatto cento anni Prima In acciaio inossidabile E' ancora lì Ma come mai E' ancora lì Quindi L'abbiamo detto anche Nel libro Nei costi occulti Della depurazione Che uno degli aspetti Fondamentali Era la qualità Dei materiali Se compri un materiale Che costa poco Non puoi pretendere Che quel prodotto Ti duri a lungo E a monte ci sta La qualità Della progettazione La qualità Dell'installazione Cioè Deve essere Un prodotto Di qualità Un prodotto Che poi Smetti di spendere In realtà Spendo un poco Di più all'inizio Ma poi Non lo dimentico Per il resto Io penso Chi compra Plastica Che magari Gli dura Esageriamo 7-8 anni 10 Boh Ma no Perché ormai Non si fanno Dei progetti A termine Il progetto È Spendere poco Adesso Fine Domani Chi lo stanno Domani Domani È un altro giorno Imprenditori Imprenditori E persone Privati anche Che investono Nella durevolezza A lungo termine Perché hanno capito Che Se io Ho un progetto A medio lungo termine E spendo Progettuali Si sta perdendo Si sta Proprio Ragionando Il day by day Oggi Quanto spendo oggi? 100 euro di meno 200 euro Fatto Ma guarda che Dopodomani E spendi il doppio Eh vabbè Per me è pavimentato Oggi Auguri Ok Quindi Puntate Sulla durevolezza Del materiale La qualità E siate progettuali Esatto La qualità E la progettualità Perché Progettualità E vita Uguale vita Ok Buona giornata Ciao ... ... ... ... ... ... Quindi Il telefono professorista mi chiede Ma sento Ho sentito una ditta che mi ha detto che ha dimensionato l'impianto facendo il calcolo della portata idraulica giornaliera dividendolo per 200 litri ecco ogni abitante è 200 litri e io sono rimasto leggermente interdetto perché l'impianto non è mai stato così mai poi calcolare un retto industriale dividendolo per 200 litri è semplicemente una bestemmia perché il carico di impianto può essere concentratissimo oppure diluitissimo e a parte che l'articolo 74 del decreto legislativo 152 del 2006 parla chiaro dice che l'abitante equivalente corrisponde a 60 grammi di carico inquinante di biodi 5 di biodi 5 quindi su quello non si discuta ma anche nella pratica è sempre stato da passi nelle buone regole di presentazione quindi ancora oggi che una ditta dica ah quant'è il carico di un anno mille litri al giorno perfetto diviso 200 litri fa 5 abitanti equivalenti si fidi è da da svenire da sentirsi male perché non hai argomenti a quel punto non hai più argomenti cosa ne dici? chi è? no nel senso ma che lavoro fanno non si occupa ma gli altri di depurazione di professione e tu rimani invasito beh dice ma come li vende? non hai l'idea? no no li produce si fa le vasche di cemento quindi gli interessa vendere cemento in sostanza si ah ok abbiamo capito ma informati chiedi non lo sai chiedi lo sanno tutti ma se hai bisogno potrebbe se hai bisogno può chiamarci vi facciamo noi la consulenza vi calcoliamo tutto pagate e poi potete mettere tutto il cemento che lo vede è una cosa talmente semplice che non c'è bisogno di pagare te lo dico gratis magari calcola i chili di BOD un tipo di un bel mide dividi per 60 al fine gli abitanti di avere mezzi è che forse lui non sa che cos'è BOD forse probabilmente infatti lui dice BOD più che BOD BOD che fa da contolta COD che è un'altra COD che il Sardegna si può dire va bene che il Sardegna suona male suona male perfetto e quindi in Giro c'è anche questa gente non è l'unico e cerca di vendere gli impianti non è l'unico e cerca di vendere gli impianti non mi vende caspita se le vendi anche perché facendo così qualche volta va male qualche volta va bene tu sottodimensione l'impianto e quindi diventa economico il tuo impianto perché invece di dargli 100 abitanti di quali di T ti dai un 20 perché hai fatto il calcolo come hai fatto tu e un 20 costa meno di un 100 e quindi tu sul mercato lo sfondi poi magari se lo fonde lo sfondano a te ma ci vuole tempo ma e le autorizzazioni poi il calcolo i controlli sull'iquame che esce il calcolo quando arriva è tardi perché hai comprato l'impianto l'hai attaccato l'hai pagato e come fai a avere l'autorizzazione ma tante volte l'autorizzazione si basa solo su un puro fatto documentale tu dichiari che funziona ma i funzionari non hanno più tanto tempo da dedicare ad approfondire i calcoli le verifiche anche perché se tu fai quel lavoro lì lo saprai fare si presume che tu non l'hai comprato dall'avrottino l'hai comprato da uno che fa il calcolo invece lo stai comprando che dimensione che progetta che va invece no si dimensione così non deve essere da piangere e io come io che non ne capisco niente di idraulica di depurazione eccetera eccetera come faccio a tutelarmi cioè io sono convinto di andare a fare il prezzo se costa troppo poco sei informati rispetto agli altri voglio dire se lui te lo fa pagare 10 gli altri tutti gli altri lo fanno pagare 50 40 60 io non mi chiederei di quello che me lo venda 10 verificherei magari poi invece ho trovato il benefattore che lo fa pagare ma normalmente è perché è sbagliato ok un salto del genere di prezzo vabbè è enorme però cioè dico da 10 a 40 50 ce ne passa ma dico anche costasse 30 e gli altri mi fanno 50 uno dice 35 5 50 diciamo però costa poco allora il vero consiglio è affidarsi a qualcuno che se ne intenda non ti prenderà mai tanti soldi se tu gli paghi una consulenza minima modestissima stai risparmiando soldi perché se invece sbagli ti soldi debuti tanti quindi affidati un consulente e gli chiedi una consulenza gli chiedi quanto mi fa quanto mi prende per darmi un consiglio se l'impianto io direi che la maggior parte di noi gli risponderà nulla è un piacere non richiede il nostro impegno capisci non è che non sia le leggi non è un consulente ne sa ne sa e non deve fare grandi scorsi per darmi un consiglio siamo andati a fare l'avviamento di un impianto un impianto che è stato costruito è formato da dei percolatori delle vasche di raccolta delle vasche di raccolta di prima pioggia perché c'è un grandissimo parcheggio e vasche Imof perché ricordiamo che il percolatore deve sempre avere a monte un pretrattamento quindi chi ti vende il percolatore basta ti sta rovinando devi mettere una vasca Imof prima che deve come si dice deve pretrattare deve separare e cosa è successo è successo che per l'ennesima volta c'è stato un rimpallo di responsabilità perché siccome non l'abbiamo installato noi l'abbiamo venduto dice ah ma questo l'ha fatto lui quindi no l'allaccio l'ha fatto ma io non lo scherzo il punto qual era il punto qual era era la componente elettrica i galleggianti il quadro elettrico il doccio della questione è ci chiamano per avviare l'impianto arriviamo lì e ce l'ho via ma non sappiamo se la corrette scusi cosa mi ha chiamato a fare la doveva allacciare lei ma sì forse non lo so non mi ricordo ecco quindi quindi attenzione agli allacci elettrici attenzione a come mettete i galleggianti se ci sono delle vasche di raccolta dell'acqua trattata piovana quello che è e ci sono delle strumentazioni elettromeccaniche che devono funzionare attenzione all'allacciamento attenzione all'allacciamento perché se le cose vengono fatte in maniera approssimativa perdete una valanga di tempo non vi pagano non vi funziona avete più problemi che altro quindi fatevi dare gli schemi elettrici e assicuratevi che l'elettricista li abbia collegati perché abbiamo aperto il quadro i fili erano lì e che li sappia leggere anche magari questi schemi elettrici ma chi ce l'ha ma non lo so chi l'ha lasciato lei sì con quale schema elettrico ma non ce l'ho ecco quindi va bene fatevi dare gli schemi elettrici assicuratevi che l'elettricista li sappia leggere e che lo faccia e che ne abbia voglia questa è una componente da non sottovalutare quindi teneteli sotto controllo perché altrimenti perdete una valanga di tempo e vi arrabbiate pure giusto? e non ho detto una parolaccia e non hai detto nemmeno una parolaccia perché è arrabbiatissimo buona giornata Paolo cosa è successo? situazione tipica situazione tipica che combattiamo ferocemente o sbaglio cliente che giustamente ci interpella per una consulenza su un depuratore precisamente un riab una ristrutturazione possiamo dire di un depuratore esistente che vuole rimettere in funzione al 100% e ovviamente il cliente chiede anche altri pareri e soprattutto chiede anche un preventivo a un concorrente cosa è successo? cosa è successo? non l'ho nemmeno capito era talmente grotesco situazione tipica in cui il concorrente dice guarda con 5.000 6.000 euro ti metto il depuratore nuovo e il cliente guardando il preventivo che abbiamo fatto noi dice scusami la perizia agronomica per poi riutilizzare l'acqua l'autorizzazione allo scarico e quella cosa chiamata autorizzazione allo scarico non ce ne è bisogno non serve ecco questa è la tipica situazione in cui un cliente deve comprare in realtà non solo un pezzo di plastica o di ferro o di cemento ma deve comprare un servizio completo qualcosa che poi puoi utilizzare legalmente sì e non bah e non giusto per averlo purtroppo capita spesso che nel mondo della depurazione e qui dimmi se dico bene si sia convinti che comprando il pezzo io ho risolto ed è per questo che stiamo scrivendo anche è quasi finito il libro sui costi occulti della depurazione perché tutti sono convinti che compro il pezzo e spendendo poco ho fatto un affare no normalmente se spendi poco ottieni pochissimo non hai fatto un affare hai fatto un pessimo affare salvo che tu sia ferratissimo allora ti riprezzo ma ottieni tutto quello che ci ci vuole e con tutto ma devi sapere che cosa devi chiedere ecco e la gente non lo sa che cosa deve chiedere ma perché ma non è colpa loro è che fanno un altro mestiere è normale io non ne so niente di che ne so medicina chirurgia e non è mica il mio mestiere e quindi è normale che un cliente dice ho bisogno di un depuratore compro un depuratore fine ho bisogno di una macchina compro una macchina sì è vero ma dietro poi ci devi mettere l'agronomo ci devi mettere l'ingegnere che firma i documenti li deposita ci devi mettere tutta una serie di costi che nessuno ti dice ma che poi ce li hai tu sulla groppa dico bene sì nelle macchine non succede ma è l'equivalente di uno che va a comprare una macchina e si dimentica o il venditore non glielo dà il libretto di circolazione e spende poco però senza il libretto di circolazione non ce l'aveva ha fatto un affare non credo no direi di no quindi non lasciatevi abbagliare dalle facilonerie o dai prezzi bassi se un venditore ti dice ma non ti preoccupare non lo controlla nessuno ma vai tranquillo 4.000 euro firma subito che ti vendo il depuratore non c'è bisogno d'altro non hai bisogno di niente pezzi di carta sono tutte cose inutili cosa serve la burocrazia c'è tutta cosa per vendere fumo ma chi poi gliene frega chi fa i controlli le multe le multe che stanno arrivando non le fa nessuno non c'è nessuno giusto? certo questa è la classica frase di chi ti deve vendere il bidone di plastica tipica poi quando invece vai a chiedere l'abitabilità magicamente iniziano i problemi sì oppure il notaio ti dice è l'autorizzazione allo scarico per il passaggio di proprietà e non ce l'ho e lì cominciano altri problemi quindi diglielo non fatevi fregare e invece sta diventando molto diffuso questo fatto che i professionisti si informano questo è bene che è molto positivo questo è bene perché evitano tutti i case miei clienti tra l'altro ti deve avere una responsabilità perché se ti chiedono cosa ne pensi tu poi sei tu che gliel'hai consigliato sì è vero sono quei voti che lo però se sbagli sbagli sbaglieranno anche ma se hanno l'ubiltà tra l'altro di dirlo al cliente ho chiesto e sbagli e sbagli anche tu certo ma io non ci vedo niente di male a dire guarda io mi occupo da qui a qui della depurazione non è la mia materia ti faccio seguire dal migliore cioè ma che problema c'è è come quel fascicolo che hai fatto leggere su quegli ingegneri che fanno la certificazione delle macchine ecco è famoloso cioè glielo chiedi a loro questa macchina macchina che è stata creata costruita prima del 96 riesco a usarla senza incorrere in casini e loro te lo sanno dire ma di preciso cosa mi devo inventare io ma mi metto a studiarmi tutte le norme europee sulle macchine ma non ha senso non ha senso infatti non capisco la gente perché cioè per risparmiare non lo fanno di professione non si devono nemmeno più sforzare perché ormai esce una norma per loro normale studiarsene questa è la professionalità esatto e loro si fanno magari sanno solo quello ma grazie a un procedo sanno solo quello ma loro lo sanno molto bene 100% ma l'esempio del medico se hai un problema al fegato vai dallo specialista non vai dal medico generico certo se hai un problema alla pelle vai dal dermatologo non vai dal medico generico magari si dal medico generico ci faccia un passaggio ma poi vado dallo specialista da migliore magari anche se tu non hai un impianto di decorazione a norma non è autorizzato eccetera eccetera e chiedi un impianto di decorazione può capitare è capitato vado sì un suggerimento che mi viene dall'esperienza è questo molti clienti esitano a mettere il depuratore pur avendo deciso di metterlo in attesa delle autorizzazioni che dal punto di vista delle gare devo fare a piedi prima mi devo autorizzare poi lo metto e sono a posto ma se io nel frattempo sto ho un'attività in corso soprattutto ho un'attività ho un'agibilità da tenere in piedi ecco è il consiglio più sbagliato aspettare conviene mettere il depuratore e dal punto di vista sostanziale risolto il problema a quel punto rimane soltanto più l'aspetto formale l'aspetto legale nel senso che anche in caso di verifica di sopralluogo eccetera eccetera tu non stai inquinando tu sei il messo a posto sì ti manca l'autorizzazione questo è vero però la sanzione è molto più grande non è che eviti la sanzione ti metti nelle cose se poi è un'attività produttiva e quindi puoi rischiare addirittura l'aspetto penale dal punto di vista penale ti sei veramente creato non dico l'alibi ma le attenuanti generiche e più che generiche per cui il magistrato difficilmente infierirà su di te perché perché tu dal punto di vista sostanziale hai fatto tutto quello che potevi hai fatto la richiesta dell'autorizzazione sei in attesa della richiesta dell'autorizzazione e ti sei messo anche a posto dal punto di vista sostanziale di più non potevi fare questo perché abbiamo detto questo perché può succedere che il cliente dice ma io aspetto vediamo e in questo modo prolunga la sua situazione di illegalità ok ma perché può succedere che io abbia un'attività produttiva con degli scarichi non adeguati non autorizzati eccetera decida finalmente di metterlo in regola e qualcuno ne aspetto anche e no non devi aspettare mettiti a posto anche dal punto di vista sostanziale subito nel frattempo l'aspetto buono pratico andrà a posto sicuramente perché il funzionario potrebbe chiedere qualcosa cioè può succedere che il funzionario mi chieda un'analisi il funzionario un po' più sveglio degli altri ha detto ah sì sì ah che bello tu mi dichiarica il nuovo scarico ma adesso cosa stai scaricando quest'altro allora non è proprio un nuovo scarico è uno scarico di più e quindi ti stai autodenunciando e se mi mandano i controlli e se ti autodenunci almeno metti il vostro punto di vista sostanziale dici sì è vero non sono autorizzato non è vero non è un nuovo scarico è uno scarico in esistente però io il piatto ce l'ho la faccio vedere quindi tutto è vero la stazione ma ne verrà perché non ho perché stavo guidando senza patente però però so guidare non ho fatto incidenti però so guidare molto bene e non ho fatto incidenti o la macchina o le prove ok va bene ottimo questo è un consiglio ottimo grazie mille grazie ok eccoci qua siamo appena stati a fare un sopralluogo mi ricompongo ok siamo appena stati a fare un sopralluogo zona di mare molto vicini sempre alla spiaggia una bellissima villetta in ristrutturazione stanno costruendo tutto quanto rispettando tutte le norme di bioedilizia risparmio energetico classe A un'opera d'arte veramente questa villa che stanno ristrutturando e devono metterci il depuratore parlando con il proprietario si stava cercando di decidere quale fosse la posizione migliore per ubicare il depuratore volevano metterlo vicino all'abitazione secondo una scusare una stima un'analisi che avevano fatto tempo fa per risparmiare un po' di tubo ma per risparmiare il tubo era controproducente assolutamente anche perché c'è una norma del 76 che non è mai stata abolita ed è sempre stata disattesa quindi va in deroga sempre che prevede che i depuratori delle case dovrebbero essere distanti almeno 100 metri 100 naturalmente 100 metri sono irrealizzabili nella maggior parte delle situazioni per cui si mette il più distante possibile naturalmente rispettando l'articolo 889 del codice civile che prevede che dal confine un depuratore deve distare almeno due metri e questi sono i due vicini quindi in sostanza lo devo tenere 100 metri ma è sempre disattesa quindi il più distante possibile dall'abitazione ma comunque a due metri dal confine per non rompere le scatole vicino se no ti lo può far spostare appunto quindi questa è stata una cosa molto interessante e importante quindi si è deciso di mettere il depuratore in fondo alla proprietà e in fondo al giardino dove ci sarà poi un passaggio carrabile accanto agli alberi di fico e lì non dà fastidio a nessuno quindi bene la distanza ricordate la distanza una domanda sul significato del termine prefabbricato mi spiego meglio che cosa intendiamo per depuratore prefabbricato perché ti spiego anche il perché quando io penso prefabbricato mi vengono in mente le casette quelle lì del tirolesi eccetera eccetera però non mi viene sicuramente in mente una vasca di cemento che poi diventa magari un impianto di depurazione o non mi viene in mente quell'impianto di plastica che tante volte vedi in giro che postano due soldi perché mi viene cioè quello mi sarà più giocato non so quello che è cosa intendiamo noi con depuratore prefabbricato per prefabbricato praticamente si intende una cosa che è stata costruita assemblata e resa funzionante in fabbrica poi viene semplicemente trasportata e installata se invece devi fare delle operazioni di costruzione sul posto ecco quello non è più prefabbricato cioè se tu una vasca la costruisci con delle pareti delle lastre prefabbricate ma le metti insieme sul posto quello non è prefabbricato erano prefabbricate le pareti ma non la vasca e se invece arrivi con una cosa già pronta l'uso finita in cui devi semplicemente allacciare ingresso e uscita corrente acqua se c'è i servizi insomma quello è prefabbricato ok ok tra l'altro nella normativa europea questo discorso della prefabbricazione prefabbricazione è proprio tenuto in grande considerazione perché a seconda se sia prefabbricato o quello ci sono certificazioni diverse ma allora sbaglio io a pensare che quelli i plasticoni si non siano io non li considero prefabbricati li considero plasticoni probabilmente sono plasticoni prefabbricati sono anche quelli tecnicamente prefabbricati però quelli non sono autoportanti dipende dipende dal tipo c'è chi lo è c'è chi non lo è autoportante sai vuol dire che sta in piedi da solo ma quando è pieno anche che beh certo quando è pieno che non ha bisogno di rinforzi laterali e normalmente le vasche lo so all'inizio poi magari con affaticamento strutturale nel tempo possono cedere possono dipende poi sai dal materiale che usi se usi un polipropilene se usi un vetroreside o se usi l'acielo ossidabile che sono situazioni diverse mi fai venire in mente il sopravluogo fatto al radiotelescopio dove c'era quella vasca che non si chiudeva più perché abbiamo visto prefabbricati l'acielo ossidabile che sono lì sereniche e funzionano e una vasca in politiline che si è deformata semplicemente per essere stata interrata ed era una vasca da interno costava poco adesso però c'è il po' adesso è deformata e diventa un problema perché che cosa fai? secondo me l'unica soluzione è scavare toglierla e mettere qualcos'altro loro vogliono fare qualche soluzione intermedia tipo rendere comunque chiudibile stagno per quanto stagno possa bisogna fare uno stagno sullo stagno sull'ex stagno cosa succede se degli antibiotici finiscono in un depuratore? c'è una storia che mi avevi raccontato una signora ah sì 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 c'è una signora che era gravemente ammalata era curata con dosi massicce di antibiotici e quando tornava a casa dall'ospedale l'impianto di depurazione del suo condominio andava in tilt e non è stato facile capirlo perché intanto non mi ero informato di questo fatto poi abbiamo fatto due più due è strano che quell'impianto va dentro quando c'è quella signora e non quando non c'è e lì abbiamo poi fatto uno più verificato un'altra cosa curiosa era in una discoteca che il il sabato sera l'impianto dava in tilt durante tutta la settimana andava benissimo e all'inizio uno pensava beh evidentemente è sottodimensionato quindi quando c'è molta gente non ce la fa invece la la botta di genio è venuta al titolare della discoteca che ha messo una signora a a costruire i bai ha messo lì una seggiola e stava attento a chi entrava cosa facevano i ragazzi e il depuratorio non ha più avuto problemi e da lì abbiamo scoperto che i batteri la droga proprio non la sopportano bastava una lavare una siringa oppure buttare un mozzicone di canna nel del water e il depuratore dalle tilt cosa che non ho mai letto da nessuna parte quindi in letteratura non se ne parla questo penso che siano i batteri evidentemente sono dei i batteri non amano no non amano la droga iscriviti al nostro canale Cioè per produrre la massa carboniosa serve una procedura? Serve una tecnologia tutta particolare, bisogna prendere queste... Noi avevamo fatto una campagna perché la produzione del carbone va a campagna. Tu prendi X tonnellate di legname, lo passi in un forno rotante, in assenza di ossigeno, in presenza di acido gluridio, cioè la tecnologia che è arrivato sui mille gradi e abbiamo prodotto questa campagna, questa quantità di massa carboniosa che ho fatto apposta per quello, serve solo quello. Non serve ad altro. Quindi non posso usarla per altri scopi? No, per usarla sarebbe inutile per altri scopi. E per trovare quella? Cioè per trovare... Cioè nel senso, per trovare quella giusta, quanti tentativi avete fatto? Ah, per trovare... No, siamo stati fortunati perché l'ingegnere l'aveva già ideata, sperimentata, però non aveva trovata la tecnologia per usarla correttamente. Nel senso che lui la usava in filtri statici, ci passava per percolazione il liquame, il liquame creava la flora batterica, lui prima ossigenava molto, saturava molto il liquame di ossigeno. Passava nei filtri, il filtro non riceveva altro ossigeno, la flora batterica usava l'ossigeno che era sciolto nell'acqua, quando la massa carboniosa si saturava, si occludeva, bisognava controllarla. Ed era un pasticcio, doveva andare a pistole, cioè alimentare, saturare, controllavare, sciacquare, ritornare e avanti così. Noi invece abbiamo trovato il modo di usarla in continuo senza dover fare il controllavaggio. Il controllavaggio lo fa da solo, non c'è più bisogno di lui. Il nostro problema qual era? Non farsela sfuggire perché siccome la massa carboniosa quando è bagnata ha un peso specifico molto vicino a quello del liquame, allora tu insufflando la perdevi. Allora tutta la tecnologia è stata nel trovare il modo di non fermarla meccanicamente, perché se tu la fermi meccanicamente occludi quello che faceva lui, ma di tenerla libera, ma di trattenerla, non fartela sfuggire. E lì abbiamo scoperto che con dei moti convettivi riuscivi a trattenerla senza, meccanicamente trattenerla, trattenerla in modo idraulico, con un gioco idraulico. Avete sfruttato l'idraulica per… E non solo, ma non c'era più bisogno di saturare l'ossigeno liquame prima e poi passarla nella massa carboniosa, potevi insufflare direttamente in presenza della massa carboniosa. Per cui tu lavoravi a un tenore di ossigeno di sciolto di due milligrammi più o meno, uno o due milligrammi, che non è eccessivamente ossigenata, ma che ottiene un'ottima ossigenata. E quindi questa tecnologia ci ha consentito di ridurre i volumi, ridurre la quantità di aria, ridurre anche l'inquennio energetico, ridurre i rischi, perché praticamente l'impianto lo puoi anche maltrattare. Cioè lui ti perdone. In che senso? Nel senso che, quali sono i motivi per cui il rifiuto di depurazione è mai crisi? Perché gli dai sostanze tossiche, perché gli dai un carico eccessivo, perché lo fai lavorare a un carico di fango molto elevato. Tutte queste problematiche sono state risolute, sono semplicissime. Detto dopo è semplicissimo, bastava capirlo. E per il discorso della massa carboniosa, un qualsiasi individuo potrebbe così, semplicemente prodursi la sua massa carboniosa? Certamente, si sa come farlo. Ah, si sa come farlo. Però dovrebbe sapere che cosa è il procedimento, dovrebbe sapere quale legno, dovrebbe sapere quali chimica metterci dentro. Facilissimo, una volta che lo sai faccio. Ah, insomma dovrebbe avere la ricetta segreta. Segreta, dovrebbe avere la ricetta. All'inizio era molto empirica la cosa, cioè si andava un pochino così a tentativi. Poi mi sono detto, beh aspetta, mettiamo i tentativi tutti in fila e vediamo qual è la legge che li regola. E alla fine sono riuscito a terra fuori un modello matematico che giustifica il perché. Aspetta, per la massa carbonosa? Per il sì. Ah, anche un modello matematico per la massa carbonosa. che ci dà un, come dire, un implente scientifico, cioè è scientifico quello che facciamo, non è più empirico. Lo facciamo per un motivo più preciso, nei calcoli matematici, in cui la matematica serve, è applicata alla biologia. Ma non è più così, sperimentare basta. E se io volessi farmi la mia massa carboniosa da zero, quindi dovrei prendermi e cominciare a fare tentativi su tentativi, per ottimizzarla come quella che avessi. Sì, dovresti, sì. Allora, noi siamo avanti a sposta all'umificio, che si era fatto fare il depuratore con delle vasche in cemento da X, che non fanno depuratori, però forniscono le vasche in cemento per alcuni specialisti che fanno magari depuratori, quindi hanno detto, lo sappiamo fare. Cioè si è fidato, si è fatto mettere le vasche in cemento, ma non è un depuratore, di fatto non. Perché qui la filosofia è, io faccio vasche e quindi ti vendo vasche. Più grosse te le vendo e più ci vadano. Che servono o non servono? A naso, più tanto grosse è meglio funzionare l'impianto. Che non è sempre vero, perché anzi, non è il grosso che fa, è il giusto che fa. Non è il quanto, vai il come. Non è il quanto, vai il come. Non è che tu, se mi stai dicendo come ti dico, ma te la dova vedi, così stai più tranquillo. No, non stai più tranquillo. Stai messo male, perché tu hai bisogno da 10, quindi se funzionare bene si va a 10. Ok. E lì, vabbè, abbiamo trovato la soluzione, eccetera, eccetera. Ma mi avevi quel calcolo matematico che avevamo fatto sui B o D. Ah no, lì è semplice. E' la legge che lo stabilisce, che un abitante equivalente a un carico inquinante di 60 grammi al giorno di richiesta di ossigeno biologico. Biologico a 5 giorni. Di domanda. Biodicino. Che? Biodicino. 5 perché l'analisi si fa nei 5 giorni. 5 giorni. Perché c'è anche l'analisi a 20 giorni. Ok. Però convenzionalmente si è stabilito che si prova quanto ossigeno richiede quel regolo in 5 giorni, nella respirazione del doge. Cioè lo si, si prende un... Che 60 grammi di inquinante? Di richiesta di ossigeno al giorno fanno un abitante equivalente. Per cui se tu hai 60 kg diviso 60 grammi sono 1.000 abitanti equivalente. Ok. Ok. E invece quell'altro calcolo che mi hai detto poi dell'ingresso, del depuratore, l'uscita, non devo dire, il discorso che chi gli ha fatto l'offerta non ha pensato di chiedere che parametri doveva rispettare l'uscita. Hanno dato questo tanto che doveva scaricare in corpo idrico superficiale. Un fiumisato. Peccato che non ci sia corpo idrico superficiale e doveva scaricare invece in una fogliatura comunale e quindi non doveva rispettare un parametro estrittivo, ma doveva rispettare un parametro molto più permissivo che gli consentiva di fare un impianto molto più piccolo. Ok. Chiaro. Quindi non hanno tenuto in considerazione lo scarto dove l'avano. addirittura non nemmeno fatto il conto di che dicevamo prima. in 560 grammi, diciamo, ah occhio, tu dovresti avere bisogno di un 150, come l'avano. perché noi abbiamo considerato il leale, cioè, non le abbiamo visto la quantità. Abbiamo visto la quantità, quanti chili di biodi diviso di 60 grammi e abbiamo stabilito che al massimo 100, se fosse stato per scarico superficiale, ma non dovessero scaricare il mondo fiumiciato. potevamo calvare il parametro di riferimento giusto. Quindi va considerato anche dove vado a conferire. Sì, e poi l'altra cosa che ti ricordi, abbiamo chiesto quali prodotti usavamo. Giusto, bisogna anche stabilire che il livello di biodegradabilità ha quel riferimento. Perché il BOD, cioè la richiesta di ossigeno biologica, è la richiesta di ossigeno di un riferimento degradabile biologicamente. Ma se non è biologicamente degradabile, allora sono altri campi, perché allora devi guardare se il C, o D, la richiesta di ossigeno è la chimica. Ok. Se non c'è equilibrio fra le due cose, bisogna trovare altre soluzioni. Ma quella è sempre C, o D, 5, C, o D. C, o D, è una resichimica bruttale, quindi non ha bisogno di giorni di maturazione. Ok. Si fa e basta, sì. E questa come è la maggior relazione al BOD, allora? Il COD o il BOD? Ecco, il rapporto è 1,6, cioè nel riferimento. 1 COD? Nel riferimento 1 e 1,6, cioè nel riferimento. Ah, scusate, 1 BOD e 6 COD? 1 e 6, 1,6. Ah, 1,6, ok. È il rapporto standard di un riferimento domestico che per, come dire, per riferimento è il riferimento biodegradabile, meglio biodegradabile. Se invece questo rapporto si sfarsa e se lo dice l'aereo e le stelle, il mio di basso, allora è utile che metti un piatto biologico. Come sono? Devi fare un piatto di abbattimento chimico e quindi può essere un flottatore, un flocculatore. Il flocculatore è quello no? Il flocculatore vuol dire che floccula, crea il fiocco di fango e lo precipiti. Il flocculatore invece vuol dire che crea sempre il fiocco di fango ma lo fai calleggiare e poi lo scondi. Lo fai sfiorare. Il modulo filtrante che sarebbe il sacco a sei sacchi automatico, caricamento, fanghi, mediante pompa. Ma allora c'è sta pompa per i fanghi? È opzionale. E poi oltretutto, se tu non rispessisci il fango e acqua lo riesce. da qui, se tu metti, mandi dentro acqua da qua, acqua entra e acqua esce. Manca la fase di spessimento. Senza la fase di spessimento nessun impianto di disidratazione non funziona. E lui vorrebbe metterci, teoricamente, questi tecno-like climate poi, quando esce? Ma direttamente dall'acqua, dalla miscela areata. Che è la fulea. Questo è a valle, no? Questo è il fango. E ne è pompato il fango qui dentro. Va qui. C'è l'aria compresa che lo spinge. Rimane il fango dentro e esce l'acqua. Ma se tu non rispessisci prima il fango e la miscela areata ha un contenuto di secco dell'ozono 9%, 1% circa. 1% è acqua. 99% di pratiche sono acqua. Per disidratarlo deve arrivare al 4%. Ora, passate dall'1 al 4, sembra poco. Ma invece non è così, perché riduci di un quarto il volume e moltiplichi per 4 la concentrazione. Al di sotto, un po' più acqua e c'è acqua. Quindi se non ispessisci la miscela... Non disidrati. Non disidrati, è un bel tubo, è niente. Proprio così. E qui non è previsto l'ispessimento. Perché l'ispessimento non portava la vasca in cui tu mandavi il fango, lo lasciavi, come facciamo noi, no? Ci sedimentai, spessire, ti spilli l'acqua limpido, cosiddetto, surnatante. E' molto... Presenta molti aspetti negativi, che però è un problema a spiegare al cliente perché tecnicamente non è così alla portata di tutti. Uno, due. Il nostro atteggiamento che diventa dubbioso, perché questo qui mi viene a parlare male di questo impianto. Cioè io... Ti mi dici, guarda, io non vengo per l'artimaneo di un impianto. Infatti è che se non vuoi lo faccio così. Però guarda che... Presenta questa criticità. Se non ci credi, chiede un altro tecnico che se ne intende. Chiede un consulente. Cioè ne sono tanti i consulenti nel campo ambientale che sono in grado di dirti se è vero o non è vero quello che ti sto dicendo io, eh? Il cliente che è venuto qui per un preventivo e che a un certo punto il suo geometra gli ha fatto talmente tanto terrorismo da convincersi e convincerlo che il suo ape non esisteva. Era tutto uguale come prima. È vero. Ti ricordi? È vero. E lì che non hai strumenti. Come fai? Cosa gli dici? Perché in realtà, per spiegarla più facilmente per chi non lo sapesse, con l'introduzione del suo ape non si passa più per la conferenza di servizi. Cioè ci sono tre strade? Ci sono situazioni in cui devi chiedere una conferenza di servizi. Ci sono altre situazioni, le più semplici, in cui vai a tempo zero, cioè da presente, si è autorizzato o a 20 giorni, e si è autorizzato dopo 20 giorni. e in quel caso non lo ricordo, però io come potevo dire al cliente, al professionista, guardi che se si informa è meglio. Perché poi il cliente mi ha passato al telefono il geometra di turno, che invece, cioè io qualsiasi cosa che lì c'essi era... No, no. Però lì bisogna dire una cosa, questa bisogna dirla. Lì, a Monte, c'era qualcuno che aveva imbeccato il geometra di turno, che poveretto, non era il suo lavoro, e l'aveva terrorizzato, dicendogli guarda che è tutto come prima. Non devi procedere. E sappiamo chi era. E sappiamo chi era. Qualcuno in qualche ufficio. Bravo. Punto. Eufremismo. Esatto. Ehi, ma cosa hai fatto oggi? Tutto il giorno in ufficio. Eh, infatti. Siamo sul sito del più grande radio faro. Radiotelescopio. Caspita, continuo a sbagliare. Radiotelescopio, probabilmente, d'Europa. No, no, senza probabilmente. d'Europa. Perché siamo qui? Perché sono dei nostri clienti a cui abbiamo installato tre biovar. Tre biovar e un potabilizzatore. E un potabilizzatore. E quindi siamo venuti a verificare la bontà degli impianti, che sono ancora perfettamente funzionanti. L'unica cosa è... Ecco, qui possiamo dire un dettaglio. Le opere di contorno. Sì. Quando il costruttore viene a installare un impianto di depurazione? Non può mollarlo alla pioggia, alle intemperie, al vento, in mezzo al nulla. C'è un minimo di casettina, di costruzione. Cioè, dico bene? Dici bene. È stato veramente... Meno male che tutto in aceno si dà, quindi posterea di intemperie, però anche dal punto di vista monotentivo, siamo alla canna del gas. Cari costruttori, un minimo di protezione. C'è un dettaglio importantissimo. Il bacino di polipropilene che raccoglie le acque si è ovalizzato. Si è ovalizzato. Non è fornito da noi. Non è fornito da noi, però questo per dire sempre materiale costruttivo. Compro un bel vascone in polipropilene, lo metto lì, E si ovalizza, adesso non riescono a chiuderlo. Esatto. Non riescono a chiuderlo e i topici si tuffano. Signori, dai. Materiale di costruzione. Buona giornata dal più grande radio... Telescopio. Telescopio d'Europa. Ciao. Quali sono i motivi per cui il rifiuto di depurazione è Mycris? Perché gli dai sostanze tossiche, perché gli dai un carico eccessivo, perché lo fai lavorare a un carico di fango molto elevato. Tutte queste problematiche sono state risolute. Sono semplicissime. Detto dopo è semplicissimo. Ah, ok. Lo stavo a capire. Lo stavo a capire. Ma e per il discorso della massa carboniosa, cioè un qualsiasi individuo potrebbe così, semplicemente prodursi la sua massa carboniosa? Certamente. Si sa come farlo. Ah, si sa come farlo. Però dovrebbe sapere che cosa è il procedimento, dovrebbe sapere quale legno, dovrebbe sapere quali chimica metterci dentro. Facilissimo. No, perché lo sai facile. Insomma, dovrebbe avere la ricetta segreta. Segreta? Dovrebbe avere la ricetta. Prima dicevi che il depuratore, essendo un organismo vivente, deve, ha bisogno di un tempo, è detto che ci sono molte variabili, per mettersi a regime e partire e funzionare al 100%. Certo. Statisticamente, un depuratore normale, a fanghi attivi, un qualsiasi depuratore a fanghi attivi, quanto impiega dallo start all'entrare a regime, più o meno? All'entrare perfettamente a regime, un mese sempre. A un mese per entrare perfettamente a regime. In realtà, il depuratore inizia subito. Certo. Però diciamo che per un mese... Per parametri, sicuramente dentro la norma, per esempio. E invece... Dopo tre settimane comincia già a lavorare bene, dopo tre settimane... Tre settimane? Quattro, top. A mese, se non è avviato dopo un mese, c'è qualche problema grosso. Ok, quindi non allarmiamoci prima del mese. Ci può essere un po' di uscita di fango, ci può essere un po' di schiuma... Ma o meglio, allarmiamoci prima del mese e facciamoci un esame di coscienza. Ah, certo, certo, certo. Facciamo un mese. Allarmiamoci. Non è che sto sbagliando io a... A trattarlo. A buttarci dentro qualcosa che... Non deve. ...per lui. Ok. Il BioVar, invece, quanto impiega dallo start... Il BioVar impiega 24 ore. Perché è tutto un sistema particolare, cioè c'è un... La flora batterica non è dispersa come il faggativo, ma è adesa. Abbiamo una massa assorbente. Nell'emegico adesorbe? C'è assorbente. Ah, ok. Non è che assorbe. Adesorbe, cioè trattiene. E quindi mi crea un volano per la flora patente. È un sistema veramente innovativo. Direi rivoluzionario. Ok. Che è il nostro volante. Ok. Perfetto. Direi che questo è quanto si può dire del... Ho avviato un depuratore, accidenti, sta facendo schiuma. Come mai non funziona? Non mi spaventano. Non mi spaventare. Te lo riflesso un attimo. Probabilmente... Ecco, facciamo la domanda e rispondere. Se fate appuntura, cosa faccio? Verifico un attimo quanto un detenzino sto usando per lavare i piatti. e se è possibile lo riduco. Probabilmente la schiuma si riduce. Ok. Anzi, probabilmente. Se così riduce. Se io ho uno schiume già mente esagerato, probabilmente esagerato io. Ok. Penso a ti. Se ho fuga di fango, probabilmente ho fatto qualcosa che non andava. Gli ho scaricato la lattina dell'olio del cucino oppure ho lavato con la varecchina assecchiata e l'ho buttata dentro. Dice, tanto l'ossidante gli fa bene. E sì, però è vero. Ma un po' alla volta, non così. Sono mille le possibilità di sbagliare. E quando è che mi devo preoccupare, invece? Ecco, ti devi preoccupare quando comincia a lamentarsi in modo vigoroso. Quando, soprattutto, è l'aspetto infattivo che diavoga molto nel senso che se l'impianto ci mette a puzzare come non mai, allora c'è qualcosa che non va da la vita. Potrebbe essersi cosa? Intasato? Ho ricevuto un sacco di... Potrebbe essersi intasato, ma potrebbe essere anche sbagliata la fogliatura di rialimentazione. Una domanda. E se io dichiaro il falso nell'autocertificazione ha il loro penale. Il penale, naturalmente, a quel punto decadi dalla tua autorizzazione, che non ha più nessun valore, ma sono dolore anche per i professionisti. Non per dire che i professionisti stanno stipulando polizie assicurative professionali importanti proprio perché, anche qui, anche qui, che tu abbia dichiarato il vero in tua coscienza, ma poi salta fuori qualcosa che non conoscevi, non sapevi, ignoravi, è un falso. È un falso di cui rispondi come se l'avessi fatto apposto, ecco. Quindi bisogna... Quindi bisogna stare all'occhio. E non improvvisarsi, sicuramente. E non improvvisarsi, non improvvisarsi, è proprio giocare con la didronite. Io racconto la storia degli israeliani, che hanno quegli impianti a ciclo chiuso, dove loro praticamente l'acqua la riciclano al 100%, la riusano anche in casa e tutto il resto. Noi volendo riusciamo a fare anche questo. Le norme italiane non lo consentono. E poi l'aspetto psicologico non lo consentono. Nessuno ti comprerebbe una cosa di questo genere. Infatti le norme italiane, le Hasler, assolutamente non ti ammettono. Ma tu immagini l'aspetto psicologico di gente che è d'accordo a bere l'acqua che è stata prima di qua a me. La situazione di Israele è diversa. Siamo nel bisogno estremo. O così o come li senti. Cosa decidi? Ma gli impianti loro li avete mai curiosati, mai guardati? Io sono andato in Israele e poi di volte. Sono molto bravi nel telecontrollo. Soprattutto negli acquedotti. Ma per un motivo molto semplice. Se devi andare di persona a controllare l'acqua tutti sparano. Quindi forse è meglio se fai il telecontrollo. Quindi. Ma bravi bravi il problema. E degli impianti invece casalini? No. Quelli a circuito chiuso. No, non hanno molto rispetto dell'ambiente. E le fogliature di Tel Aviv scaricano il mare. Ma e quelli invece al circuito chiuso quelli lì che sono in mezzo al deserto? Quelli sono per il deserto. dove non hai il mare quindi non riesci neanche di salare l'acqua dal mare. Quindi devi riuscire. non hai niente. Non hai i pozzi. Ma quelli lì li avete mai frugati, controllati, guardati? Il ciclo è semplicissimo. E la depurazione è normale. In più di fare una buona desinfezione, una filtrazione, un assorbimento carbonativo. Finito. Torino, trent'anni fa, l'acquedotto di Torino prendeva l'acqua del Pozzo, del Po, e la prendeva a valle dello scarico del matatoio. Quindi tu andavi lì, vedevi il Po rosso e poi andavi nel potabilizzatore e vedevi l'acqua bella lì. e tra i carbonativi non problemi, fronculavano. Mi ricordo che c'era il signore, mi sembra che si riemasse, che l'avamo andato a trovare perché era innamorato anche lui del carbone perché noi eravamo innamorati del carbone antivo. Anche lui era molto innamorato del carbone antivo, ne sapeva un sacco del suo carbone antivo e ci aveva fatto vedere questo fatto qua che l'acqua veniva presa a valle dello scarico ma tanto i giorni di macellazione l'acqua è un po' nel rosso e veniva potabilizzata senza nessun problema. Ma perché non c'erano alternative? Cioè dovevano usare quella qualità? E la trattavano reggiamente, usciva un'acqua buonissima, veramente buona. Dovevi superare un aspetto psicologico. Loro non se ne sono mai fatti un problema. Poi tutto questo è cambiato, naturalmente, adesso c'è l'impianto di Po sannone che è in tutt'altra parte e quindi oggi non è più così, è tutto diverso. La pubblicità che adesso fanno per l'automobile non acquistano il depuratore. Lo leggiamo. Sai per l'automobile adesso? Ah, 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 ah. Ti dico, finalmente ho deciso di non comprarmi l'automobile. La pubblicità? Per le macchine vale, ma vale anche per il depuratore. Infatti è un'idea che io sto portando avanti da parecchio tempo. Certo. Quella di dire... Secondo me è vincente tutto sommato. In Svizzera lo fanno. Da poco è venuto un cliente e dice ma lei che impianto ha in Svizzera non ho la minima idea. So solo che ogni tanto vedo due persone che vanno nella 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 cabinetta e fanno tutto ma dentro cosa c'è? Non lo so, non lo so. L'importante è che funzioni. Ed è giustamente che non lo sa cosa gli importa. Il risultato è che conta. Lui sa il risultato e quanto spende. Fine. Quindi? E sa che quanto spende ha un senso. Cioè non è lo sproposito non è poco ma non è esagerato. È giusto per il servizio che gli viene reso. Quindi l'idea di dire ok non spendere 8.000 10.000 20.000 30.000 euro per il depuratore ma spendi una cifra modestissima tutti i mesi al mese e sei coperto completamente. E l'impianto tu lo sai non sarà mai tuo ma che è una grossa consolazione se perché non è mai tuo perché nella spesa sono comprese le manutenzioni straordinarie cioè tu avrai sempre un impianto che serve alla tua bisogna e non dovrai mai metterci le mani non dovrai mai impazzire a cercare l'assistenza o far valere una garanzia non è tuo ci penso ti dà il servizio basta è finito è un po' come se vuoi il noleggio a lungo termine io ti do la macchina che non è tua però le ruote te le metto io l'assicurazione la metto io la copertura la metto io è un bel vantaggio l'altro dovrai farti curare dal medico il medico è più che tuo però ti cura è un po' diverso è un po' diverso l'episodio più buffo che mi è capitato è stato un cliente che si è lamentato perché l'impianto che aveva comprato non da noi non funzionava vado lì e mi ritrovo una vasca di quelle che servono per tenere l'olio il vino di vetroresina col coperchio appoggiato sopra e una pompa sommersa che spruzzava il liquame contro il coperchio medesimo che sobalzava e gli ho detto ma si rende conto no no mi ha detto che funziona benissimo perché la pompa spara il liquame i batteri battono contro il coperchio si ammazzano e quindi te pura al 90% materiale di prima qualità soprattutto la progettazione complimenti che gli hanno venduto ma soprattutto era costruito si però facendo i conti c'era un margine incredibile perché costruirlo costava nulla l'avevano venduto a un prezzo bassissimo che dava un margine del 3000% può essere bassissimo che ha fatto quel cliente poi? si è disperato no no non non c'è niente da fare niente da fare dovrei comprare da me uno punto non puoi porre rimedio a situazioni che sono già al limite a questa massa carboneosa che sostituisce il fanno attivo che tecnicamente il fanno attivo non sono altro che colonie batteriche estinte che fungono cosa vuol dire estinte? estinte e morte ah morte ok che fungono da supporto inerte alle nuove colonie batteriche in pratica sono terreni di cultura ok questo terreno di cultura noi glielo diamo e quindi dentro il decoratore abbiamo sempre questa attività batterica ingestita quando non è viva questo supera moltissimi problemi derivanti dalla tecnologia tradizionale fangattivi sempre si risolve il problema dell'età del fango del foaming della creazione di schiuma quando l'impianto non funziona bene o dalla creazione di cattivi odori in Sardegna il problema i due problemi più diffusi sono che le aree non servite da fognatura urbana molte volte sono sulla costa sono in vicinanza del mare e e quindi c'è il problema che tu non puoi scaricare in fognatura ma devi depurare non puoi buttare in mare e devi depurare correttamente però molte volte sono anche aree di salvaguardia sono zone con vincoli ambientali molto pesanti che non tutti conoscono e quindi capita spesso di dichiarare senza volerlo il falso cioè dichiare che la zona non è vincolata invece lo è e questo io ho la villetta in zona vincolata devo ristrutturarla devo mettere il depuratore perché diversamente non mi danno poi l'abitabilità eccetera eccetera metto il depuratore scarico dell'acqua posso scaricarla in corpo idrico il mare anche lì ci sono parametri più restrittivi ma soprattutto puoi riutilizzarla è la cosa più consigliata ma volendo invece il problema dell'area sensibile dell'area E tutt'al più la cosa che il cliente difficilmente capisce è perché l'ingegnere o il professionista o chi è, chieda tanti soldi, così mi viene descritto, per mettere due firme. Ecco, due firme anche perché la maggior parte della documentazione poi la prepariamo noi, ma in realtà ha ragione, a parte che la tariffa professionale non prevede, è punto. Ma poi c'è una grossa responsabilità da parte del professionista perché è vero che firma quello che gli abbiamo preparato noi nella maggior parte dei casi, però la responsabilità è sua e quindi deve valutare molto bene quello che gli abbiamo preparato anche se tutti i professionisti hanno una buona polizia assicurativa che li copre da danni derivanti da un'errata... È obbligatoria? È obbligatoria. Ma non è da tanti anni che è obbligatoria? È obbligatoria da qualche anno. Beh, da qualche, è vero che ci sta. E quindi il cliente potrebbe... Quindi è giusto che chieda dei soldi. Certo, certo, certamente. Rischia? Si assume la responsabilità di quello che firma. Deve valutare quello che firma. Però il cliente dice, ma perché, cavolo, avete fatto il posto, non ho messo due firme, le metto io. Sì, a me... Il cliente non può mettere due firme. Sì, si prende una laurea, si iscrive ad un ordine professionale, e poi mette le firme. Stiamo pensando al fatto che, fondamentalmente, il nostro cliente tipo è chiunque. Perché potenzialmente chiunque potrebbe chiederci dall'azienda al privato, di qualsiasi forma e dimensione. Ma in realtà il nostro cliente migliore restano gli specialisti, gli ingegneri, gli agronomi, gli architetti. Sì, che hanno bisogno di qualcuno che si dedichi solo a quello. Perché un ingegnere, quando si laurea, può sapere tutto di tutto. E quindi, o ha fatto questa specializzazione qua, e sicuramente non ha bisogno di noi. Altrimenti, fa comodo avere come supporto uno che veramente fa quello dalla mattina alla sera. E ti toglie ogni dubbio, e ti risponde ogni curiosità, ogni domanda, ogni esigenza. Ti trova la soluzione, ti compila il mogolo, ti dà il disegno, ti dà il dimensionamento. L'assistenza fondamentalmente, ti dà il supporto tecnico. Ti dà il supporto tecnico che non ti puoi creare da solo, se no, facendo solo quello. Mi viene a mettere l'esempio del dottore, no? Quando hai un problema, vai dal medico generico. Vai dallo specialista. Vai dal medico generico prima. Prima del medico. Che ti dice, ok, che cosa hai? E questo ti dice, ti vai dallo specialista. Dallo ammologo, dall'uologo. Esatto, e da quel punto noi siamo, tra virgolette, lo specialista di quel settore. Sì, sì. E quindi è normale che poi alla fine tutti gli studi tecnici che ci sono ci chiedano supporto, ci chiedano una consulenza. Sì, anche quei pochi che invece fanno solo quello. Ah, sì. Ce ne sono solo due o tre inserle. Sì. Sì. Che fanno il nostro lavoro. Ok, però noi, a differenza loro, produciamo anche. Produciamo loro e invece si diventano altri. A fare la consulenza. A progettare. Ok, quindi progettano. Noi facciamo l'analisi, la progettazione e lo silufo. In effetti devo dire che molti di questi qua che fanno solo quello, poi chiedono a noi, perché noi siamo quelli in grado di dire praticamente cosa si può fare, perché un conto è progettare, tirare due righe, un conto è la macchina, ci sta, come fa, qual è la migliore, qual è che costa meno. E per quello ci siamo noi, che siamo in grado di dare una mano a questi studi, anche a quelli più specializzati, per dirgli nella pratica che cosa sarebbe il caso di inserire come macchina, come trattamento, qual è il più semplice, qual è il più facilmente gestibile, qual è il più economicamente gestibile. Quello è un progettista o ha molta esperienza anche pratica, cioè o ha fatto il depuratore. In effetti qui in Salerno ce n'è uno, un studio professionale, che è nato come agente di un'azienda di depuratori del Piemonte. E allora si è specializzato, perché lui li faceva davvero, quindi è ingegnere, è specializzato, faceva depuratori. E allora ha capito anche qual è la pratica e cosa bisogna proporre e che cosa no. Quindi è nostro concorrente. E no, poi alla fine è diventato solo un progettista. Il graffene è carbonio molecolare. Sì, è bidimensionale. Ed è in strato di un solo atomo. Sì, 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 è monotono. Per cui hai questa... ma il graffene è eccezionale. Per esempio assorbe l'olio. Ho visto un programma dove le panne assormenti dell'olio che scarica in mare, nei fiumi, eccetera, e il graffene le assorbe con una velocità incredibile. E poi lo strizzi, cioè come una spugna. Ed è di nuovo lì, pronto. Costa un sacco produrlo. Ma adesso... Questa è un'altra cosa, c'è un ugenziato di non so dove, che faceva vedere come se tu prendi il carbonatino, il polvere, e lo metti in un frullatore, sulle pareti del frullatore si deposita uno stato di graffene. Non è una cosa che puoi utilizzare a livello industriale, però se vuoi provare a farti il graffene in casa... è macro-poroso o micro-poroso? Cioè... Non è l'altro perché è monomorbolare. Che stavo dicendo? Caspita, ne parlo non così tanto. Non è che magari li possiamo usare anche noi? Il graffene lo stavo per usare in uno scarico del... come si chiamano? Questo è un centro sperimentale dove stanno sperimentate nuove fonti di energia e hanno dei graffi che non riuscivo a venirne fuori, ne ho fatti tutti i colori qui in laboratorio. e poi, per fortuna, sono riuscito a trovare i flocculanti giusti, miracolosamente, alla grande, altrimenti l'alternativa era usare il graffene. E come l'ho usato? Usato. Buttato... e separato. E' talmente che sarebbe volato via... cioè, uscito con l'acqua forse. Eh beh sì, lo devi separare. Era troppo... Mi spieghi meglio il tempo biologico di digestione batterica. Cioè, i batteri hanno un tempo biologico di digestione? Hanno necessità di un tempo di permanenza. Cioè, data poi dall'età del fango. Cioè, tu crei un fango biologico, questo fango biologico cresce, poi decade e lo devi sostituire. Quanto tempo lo sostituisci? Ecco, questa è l'età del fango. Cioè, in quanti giorni tu riesci a creare un fango nuovo che sostituisca quello preesistente, il concetto dell'età del fango e questo. E' dettato dal tempo di permanenza. Tu mi dai 100 metri cubi e di 100 metri cubi quante ore devono stare dentro, il fango, quanti giorni deve stare dentro e da lì in dimensione. Ah, quindi, ok. Quindi non è solo una questione di portata idraulica. È una questione di maturazione, diciamo così, del fango. La portata idraulica è relativa. Il dimensionamento si fa sempre sul carico organico, quindi quello indeterminante. Ok, in base al carico organico. Perché il carico organico che ti crea il fango e che quindi ti dai necessità di tempo di permanenza è così. E ci riallacciamo al concetto di fanghi attivi, quindi. Fanghi attivi? Sì, inteso come fanghi attivi. Quindi fanghi attivi che sono le colonie di batteri. Di batteri estinte che servono da supporto inerte alle nuove colonie batteriche. Ok, quindi è proprio un ciclo di vita fondamentalmente. Dei batteri. Sì, è proprio il ciclo di vita. Perché è sempre più importante la tutela dell'ambiente, anche perché il pianeta... No, perché ti motiva, perché ti rende gratuito... È qualcosa di più grande. Cioè, senti di essere utile. A tutti. Non soltanto alla tua sopravvivenza, al guadagnare soldi. Sei utile veramente. Cioè, sei parte del creato e sei la parte buona del creato. Perché tuteli la natura. Sì. Sì. Fai parte del grande progetto, del grande architetto dell'universo che ha deciso che si può fare meglio. Che si può fare meglio. Giusto. Bello. E questo è il perché. E il come lo facciamo, noi? Il come? Bisogna studiare tanto. Bisogna avere l'ubiltà di affrontare il mio problema come se fosse la prima volta. Difatti, il problema che si discute qui in azienda è la customerizzazione del progetto, del prodotto, che però non deve andare a detenimento della standardizzazione. Le due cose è difficile da fare il passo perché customerizzare vuol dire, come dicevamo prima, raccontami il tuo problema e io te lo risolvo. L'alternativa opposta è dice, io faccio questi prodotti, se ti interessa lo compri, se ti interessa amici come me. Anche un po' quello che fanno le aziende che fanno questo mestiere per profitto è soltanto, ovvio che anche noi lo facciamo per profitto, ma non solo per profitto. Certo. Noi abbiamo un altro approccio. Esatto. Noi non è che facciamo scarpe, le vedevano lei, chi le vuole, le compra, basta. Noi la scarpa te la costruiamo questo bisogno di volte in volte. Eh sì, perché è un soddisfare il tuo bisogno, ma anche aiutare complessivamente la collettività. Sì, sì. Perché se tu devi andare in montagna, io produco solo scarpe da spiaggia, e magari riesco anche a vendere, guarda in montagna va benissimo, lo scatto di montagna. Puoi andare in montagna? Però non mi sembra... No, non è etico. Non è etico, infatti. Ok. O quindi cosa facciamo? Invece, come l'abbiamo detto, il cosa... I depuratori. I cose di volte molto, sì, sì, sì. Il depuratore. Difatti in tanti anni la... come dire, la noia non c'è mai venuta, perché noi non abbiamo mai detto di no a nessuno. anche se ci proponevano dei problemi strani che gli altri avevano declinato, avevano richiutato di affrontarli. E per me era uno stimo, diciamo, aspettiamo se riesco a trovare una soluzione. La soluzione c'è sempre, poi la soluzione si deve coniugare con l'aspetto economico. E lì, e lì, tante volte. si deve trovare la quadra. Mi ricordo che c'è stato un momento in cui erano venuti, erano stati messi a fuoco i problemi che derivavano dall'allegamento dei maiali, che è un problema pesante, perché il maiali inquina molto. E noi avevamo studiato delle soluzioni, alla fine non ne abbiamo mai fatto nessuno, ma perché? Perché chi era maial non è disposto a terraforma lì. Alla fine l'hanno risolto lasciandole stare, lasciandole stare. Cioè, la classe politica è il vito che non si poteva insistere più di tanto, se no bisognava ridurciare i costi. caspita, le porcinaie, ce ne sono state? La stessa cosa gli orifici. Gli orifici hanno cariche mirate da paura. E anche lì avevamo fatto degli esperimenti proprio eravamo stati coinvolti dalla regione Sardegna. Allora c'era l'assessorato ambiente che decideva tutto. Cioè, non c'era una provincia non c'era i comuni. Tutto veniva deciso a livello centrale, regionale. E noi avevamo trovato il modo di trattare l'acqua di vegetazione che è la famosa acqua che è la moia. No, è l'acqua che serve a lavare i macchinari dopo la molitura che è carichissima di inquinante con dei sistemi a osmosi inversa che tiravano con un'acqua perfetta. Problema. Costosissimi. dal punto di vista tecnico noi avevamo trovato l'assunzione. Dal punto di vista economico non abbiamo mai potuto venderne uno e neanche ci avevamo provato più di tanto. Perché era improponibile. Ci ha pensato la classe politica a dire vabbè scaricalo per terra piano piano così fai meno danni. non avevamo risoluzione problema una risoluzione era riduciare l'odio d'oliva erano nascosto la polvere sotto il tappeto ma neanche hanno trovato un compromesso che insomma siccome il mondo non è pieno di orifici l'ambiente l'ambiente forse lo tolera un pochino e hanno dato un rapporto quantità di riclottare ettaro cioè poi inquinare un tot una certa coincidenza non dovrebbe sterilizzare tutto anche se poi tutto dovrebbe ricare del tempo andiamo in questa struttura turistica e chiediamo informazioni quanti frequentatori quanti personali eccetera facciamo il conto proprio con la con la matita e vengono con i 120 abitanti violenti allora gli diciamo le offriamo un impianto con i 120 abitanti violenti stupore no mi hanno offerto un impianto da 12 abitanti violenti un decino e come hanno fatto hanno detto che la struttura in abitanti violenti perché lui e noi sa gli abitanti violenti sono un calcolo da fare non è che sono le persone infatti si certo usiamo un programma per farlo abbiamo un programmino che ce lo fai in automatico e allora mi faccio un'offerta da 12 abitanti violenti e noi abbiamo fatto prima l'offerta da 100 abitanti violenti che ha provato il proprio il disgusto da parte dell'agolo e poi abbiamo fatto un'offerta da 12 abitanti violenti facendogli ben presente che non era quello di cui lui aveva fissuto e che lui ci stava chiedendo un un impianto da 12 abitanti non un impianto di cui lui aveva bisogno è stato faticoso quindi in realtà sì cioè bisogna lottare con le convinzioni errate che altri mettono in testa al cliente ma io capisco anche chi vuole vendere a tutti i costi è chiaro che vendere un impianto da 12 abitanti violenti che costa molto meno un impianto da 120 è più facile è sicuramente più facile un impianto da 12 però non è neanche tanto corretto insomma diciamo che quando lui installerà il suo impianto lo spieghi lo spieghi dopo e poi scusa un secondo cosa succede poi lui installa l'impianto da 12 e cosa succede in stagione quando ha l'hotel pieno di gente che no la domanda è un'altra chi è che l'ha deciso lui lui e allora ma cosa gli capiterà quando avrà quando avrà sarà dei guai fino al collo però appunto l'altra domanda era ma perché ti fai una cosa così cioè non è corretto sì ma non ho deciso mica io l'ha deciso lui non mi sembra il massimo no io io non glielo venderei nemmeno cioè no proprio cioè non ha senso ok che d'accordo sul fatto che il cliente vuole un impianto da 12 ma io so che non va bene che lui abbia l'impianto da 12 che se io gli vendo l'impianto da 12 lui si lamenterà l'impianto che gli ho venduto esatto ma anche perché la motivazione perché vuole l'impianto da 12 perché uno glielo ha offerto e costa poco ma non ha senso la motivazione che che regge che io riuscirei a sostenere non ha senso non ha senso in pratica il ciclo della deborazione avviene sul ciclo del del carbonio dell'azoto e del fosfo il carbonio che poi la sostanza organica che deve essere degradata e che si misura in BOD in COD biologica richiesta biologica di ossigeno oppure richiesta chimica di ossigeno e segue la sua strada il suo dimensionamento poi c'è la richiesta dell'azoto e della richiesta del fosfo il ciclo dell'azoto che parte dall'azoto organico poi diventa nitrito poi nitrato poi azoto gassoso nel fanghi attivi questo crea dei problemi perché quando diventa azoto gassoso mi alleggerisce il fango e me lo fa scappare assieme all'acqua depurata ah quindi va a galla tipo invece con il biovar questo riesco a evitarlo come? perché delitrifico anche cioè riesco a delitrificare contemporaneamente nella stessa vasca ma e la procedura di nitrito nitrato quella? avviene tutto contemporaneamente con cicli di lavorazione successivi cioè cicli di funzionamento della soffiante e di pausa in presenza della massa carburiosa riesco a evitare la fuga di fango in sostanza anche perché non creo del fango attivo tradizionale creo delle cellule di spoglio della massa carburiosa quindi semplifico moltissimo sembra complicare che abbiamo complicato la cosa invece l'abbiamo molto semplificata a livello di biologia a livello di tecnologia la domanda è quando io acquisto un impianto di depurazione cosa può succedere mi viene in mente ci sono stati alcuni clienti che si sono allarmati inutilmente perché chiaramente non sapevano che magari l'impianto poteva fare della schiuma inizialmente dopo l'avvio cosa può capitare a un impianto a qualsiasi tipo di impianto poi magari parliamo nello specifico del biovar ma un impianto cosa può capitare quali sono i fenomeni che si presentano un impianto è un organismo vivente per cui va considerato come un organismo vivente quindi ha una fase di avviamento una fase di mantenimento una fase di decadenza e così via quando un impianto di depurazione è all'inizio è in avviamento quindi deve creare la flora paterica che verrà utilizzata poi per la depurazione dei rifiuti e quindi in questa fase noi stiamo parlando degli impianti tradizionali e fraghettini in questa fase possono succedere delle cose che uno non si aspetta non si aspetta se pensa di aver comprato un frigorifero ma se invece sa di aver comprato qualcosa che vive e che quindi deve crescere maturare eccetera eccetera allora è meno sorprendente quello che può succedere non tutti lo sanno e non tutti lo sanno ma basta di dire guarda che lei non ha comprato un televisore un frigorifero una laosto video ha comprato qualcosa che vive e vivente e come tale bisogna trattarlo nel senso che non va maltrattato dal punto di vista dell'alimentazione cioè non gli si può scaricare dentro la batteria della macchina perché non sapeva dove buttarla perché l'acido solforico non gli fa bene imbattito e così la malichina ho lavato per terra e ho usato a me che mi tanto avevano usato un prodotto per le piastre ricotto il conto del pio avevano passato questa questa specie di asfalto e quindi c'era appunto della tazza ma c'era tanto cioè il concentrato che era la casa la stavano rifacendo un momentino camera per camera e il cotto veniva lavato con questo prodotto ma già non dire queste secchiate istantanee di questo prodotto fatto per il cotto non per i batteri ok ecco e quindi è meno consuetri di progresità pensi è facile maltrattarlo ma in avviamento cosa può capitare in avviamento è ancora più debolo è ancora più vulnerabile perché i batteri non si sono ancora formati non si sono ancora selezionati e non si sono ancora accresciuti a sufficienza per diventare fagativi perché fagativi è la definizione di uno stato in cui la flora di batteri che si è già prodotta è già multiplicata ed è già diventata il supporto inerte per nuova flora batterica e solitamente quanto ci impiega a fare questo cioè quando è che entra a regime i fattori sono diversi dipende intanto da quanto lo stai alimentando da come lo stai alimentando dalla temperatura c'è un sacco di fattori che possono influenzare la pH statisticamente la media poi tu lo sai io non so che cosa stai aspettando che io dica i foaming e i rising sì quelle si le vogliono magiche può succedere il foaming la schiuma può schiumaggiare all'inizio questo è uno dei suoi modi per lamentarsi e per dire sì io sto cercando di produrre flora batterica di purante però se tu mi scarichi tonnellate di detersivo io mi la vedo e spegnare e dammi il tempo di crescere e poi la schiuma non te la faccio più quindi può succedere che schiumi è come un neonato ma che inizio dammi il biperolio non dammi la bistecca la schiuma non ce la posso fare ok rende l'idea il rising e la risalita cioè la fuga di frango ok è un altro modo tipico di lamentarsi cioè quando c'è una selezione batterica dovuta a un cambiamento repentino di tipo di alimentazione di condizioni operative ok cioè tu hai sempre hai sempre alimentato in un certo modo poi all'improvviso gli dai una pentolata di odio e lui è vero che voglia biodegradarmi però caspita se stai all'inizio deve selezionare i batteri fatti a posto per l'odio perché la flora batterica è una cosa miracolosa c'è flora batterica per tutto persino per il petrolio però va selezionata però va curata eravamo riusciti per una fideria a selezionare flora batterica che abbatteva il selenio che è un treno in certe dosi quindi abbiamo detto foaming può essere come tutte le cose no? si può essere un bel è favoloso è una grande sostanza troppo ti ammazzano certo quindi scusa mi sono capito bene foaming che quindi è la schiuma e l'altro è rising fuga di fuga risalita di fuga ok altro che può capitare in un depuratore può capitare le altre cose che più comunemente si riscontra è la risalita e la fuga da eccessiva nitrificazione cioè il discorso è questo nel ciclo biologico della depurazione si guarda al carbonio all'azoto e al fosforo il carbonio è quello che poi può essere misurato in termini di richiesta biologica di ossigeno oppure richiesta chimica di ossigeno il fosforo è un altro di quei fattori importanti perché incide molto sull'elotrofia del corpo recettore eutrofia eutrofia cioè la possibilità di nutrire le alghe ok a deconvolizzatore quindi dove lo scarico lo fiume lago mare tu gli scarichi molto fosforo molto azoto e molto carbonio e allora tu stai fertilizzando quel fiume e la fertilizzazione attecchisce molto bene fa crescere le alghe che però sottraeva l'ossigeno dall'acqua e mandando i pesci in all'ossire ma inzitutto insomma perché parlare nel ciclo in questi cicli ciclo dell'azoto si parte si parte da azoto organico da armoniaca e si va al nitrito e poi al nitrato con dei batteri specifici proprio per fare questo mestiere passare da azoto organico a azoto a nitrito e poi al nitrato è che va benissimo perché il nitrato è considerato il prodotto finale della depurazione poi però in nitrato si è visto che non va bene troppo nitrato il nitrato è usato in agricoltura come fertilizzato quindi il nitrato è fertilizzato cosa si è pensato e cosa si è fatto si è tornato indietro dal nitrato ad azoto gassoso l'azoto gassoso ha un grosso vantaggio che è inutore colore non è pericoloso viene streppato facilmente e tu riduci il nitrato a livelli sopportabili dal corpo recettore il problema qual è che però la nitrificazione va bene se la fai tu se la controlli se invece non la controlli in sedimentazione se tu nitrifichi cosa succede che sviluppi l'azoto gassoso l'azoto gassoso però tende a salire e quindi a trascinare il fango e quindi anche la fuga di fatto per eccessiva nitrificazione quindi fuga di fatto non perché depuri male ma perché è depurato troppo in quel modo nitrificato e lì devi allora aggiustare il tiro denitrificato o riducendo la nitrificazione ok quindi la mia domanda a questo punto è le prime due sono io che o gli ho dato troppi detersivi o troppo fretta lo sto maltrattando un pochettino nelle prime due nella terza invece devo andare a agire può succedere che debba essere gestita l'ossigenazione cioè un'eccessiva ossigenazione è un po' come vai in iperventilazione ok non è che muovi in iperventilazione però ti girano la testa puoi anche cadere per terra è lì un'interventilazione del depuratore ok altri fenomeni che si possono presentare altri fenomeni il cattivo uso cattivo uso cioè molti considerano il depuratore alla strepa di una di un bidone della spazzatura non è non è il bidone della spazzatura ok quindi le salviette il tubetto del dentifricio lo spazzolo di una delle salviette tipo la carta igienica no le salviette i struccanti ah quelle lì ok i copron fioc eccetera eccetera sono tutte sostanze che hanno una biodegradabilità fuori misura per un depuratore massissimo certo un tubetto del dentifricio plastica che probabilmente è di biodegrada tra l'altro di qualche millennio ok ok anche solo una cicca la cicca ci mette mesi per essere biodegradata una cicca è una scaretta una scaretta quindi evitare di buttare nel depuratore plastiche tessuto non tessuto chiametti ovatte eccetera eccetera da rispettare proprio il depuratore perché non è un bidone alla spazzatura se lo consideri un bidone alla spazzatura poi detrai le conseguenze che ti devi chiamare un autosprugo per sfruttarlo perché è come un cassonetto cioè quando l'hai riempito la sfruttare ok prima dicevi che il depuratore essendo un organismo vivente deve ha bisogno di un tempo è detto che ci sono molte variabili per mettersi a regime e partire e funzionare al 100% statisticamente un depuratore normale a fanghi attivi un qualsiasi depuratore a fanghi attivi quanto impiega dallo start all'entrare a regime più o meno all'entrare perfettamente a regime come sentono a un mese per entrare perfettamente a regime in realtà poi inizia subito certo però diciamo che per un mese per parametri sicuramente dentro la norma mese e invece dopo le settimane comincia già a lavorare bene dopo le settimane tre settimane quattro top al mese se non è avviato dopo un mese c'è qualche problema grosso ok quindi non allarmiamoci prima del mese ci può essere un po' di uscita di fango ci può essere un po' di schiuma o meglio allarmiamoci prima del mese e facciamoci un esame di coscienza ah certo certo allarmiamoci non è che sto sbagliando io a trattarlo a buttarci dentro qualcosa che non deve avere fatto per lui ok il biovare invece quanto impiega dallo start il biovare impiega 24 ore perché è tutto un sistema particolare cioè c'è un la flora batterica non è dispersa come l'infragativo ma è adesa abbiamo una massa assorbente per le mc4 cioè assorbente non è che assorbe abbursorbe cioè trattini e quindi mi crea un volano per la flora patente è un sistema veramente innovativo direi riconosionale ok che è il nostro gusto perfetto direi che questo è quanto si può dire del ho avviato un depuratore accidenti sta facendo schiuma come mai non funziona non mi spaventano mi bisogna spaventare per riflettere un attimo probabilmente ecco facciamo la domanda risponde se fa proprio un attimo cosa faccio verifico un attimo quanto detersino sto usando per lavare i piatti e se possibile lo riducco probabilmente la schiuma si riduce ok anzi probabilmente si costina se io se io ho uno schiume giàmente esagerato probabilmente esagerato io ok pensativo se ho fuga di fango probabilmente ho fatto qualcosa che non andava gli ho scaricato la lattina dell'olio di cucina oppure ho lavato con la varechina assecchiata e l'ho buttata dentro dice tanto è ossidante gli fa bene e si ma un po' alla volta non così sono mille le possibilità di sbagliare e quando è che mi devo preoccupare invece ecco ti devi preoccupare quando comincia a lamentarsi in modo vigoroso quando soprattutto l'aspetto olfattivo che diavora molto nel senso che se l'impianto si mette a puzzare come come non mai allora c'è qualcosa che non va veramente potrebbe essersi cosa intasato o aver ricevuto un sacco di potrebbe essere anche sbagliata la fogliatura di alimentazione capita spessissimo che la fogliatura soprattutto però nelle comunità è troppo lunga troppi pozzetti di sedimentazione allora cosa succede che il quale prima di arrivare al deputatore invece di arrivare a bello fresco arriva dopo aver soggiornato lungo la linea nei pozzetti dove in assenza di ossiso ha iniziato una fermentazione tipo anaerobico che è quella che produce odori idrogiosoforato per cantali scattoli cioè le sostanze non è durante soltanto che arrivando al depuratore vengono strippate per cui non è il depuratore puzza ma sta togliendo la puzza al liquame che è arrivato steppare si dice si dice steppare cioè tirare fuori dal liquido le sostanze le sta separando in sostanza le sta strappando fuori ok ok direi che questo è quanto grazie mille grazie il modello matematico avevi detto che c'è un modello matematico anche per quanto riguarda era la dimensione dei depuratori sviluppati con la tecnologia biovar o della fluidodinamica com'era aspetta i nostri colleghi cosa hanno fino adesso sviluppato perché questa idea della flora materica adesa è vecchissima nel senso che un tempo si usavano i percolatori che erano dei bacini in cui l'equame veniva fatto percolare dall'alto verso il basso la imof no non c'entra niente percolatore l'aria sempre per moto con ventino spontaneo per tiraggio tipo effetto cammino saliva dal basso verso l'alto e la flora batterica si formava sui corpi di riempimento che erano dei pezzi all'inizio erano i pezzi di battone rotti o dei ciotoli messerla rinfusa buttati si si tu facevi percolare il quale su questi ciotoli su questi pezzi di battone la flora batterica spontaneamente cominciava a formarsi e tu ottenevi la depolazione ma con superfici specifiche molto modeste parliamo di 0,50 metri quando andava bene da lì qualcuno ha pensato di fare un po' come quello che facciamo noi cioè semplificare la cosa e fare dei bacini in cui insuffli e la flora batterica si forma dentro insuffli cioè io forzatamente ci soffio dentro l'aria e dentro cosa hanno pensato hanno pensato di mettere dei corpi di riempimento tipo questi qua cioè pezzetti di plastica la rinfusa migliaia in cui la flora batterica aderisce in QVAPG però invece di avere questo hai una rosa e questo ha 0,50 metri quadri al grammo noi usiamo 500 metri quadri al grammo quindi la nostra efficienza è mille volte superiore mi parlavi di un professore dell'università che aveva fatto il modello matematico sì sì poi me lo sono ritrovato che cosa il modello matematico esplicitato aspetta quale perché io avevo capito quello su una flora batterica adesa ah ok ok però applicato naturalmente ai corpi plastici perché non conosceva non lo so noi non l'abbiamo mai pubblicizzato quindi non lo conosce per forza e quindi mi ha fatto piacere perché mi sono ritrovato nelle formule belle esplicitate in cui si giustificava il perché il quanto il come questo dove era l'università a Pavia a Pavia chi era l'istituto che aveva anche lui sviluppato il medesimo molto simile sì perché fa parte delle nuove tecnologie chiaro così come all'inizio la legge Merli parlava di diciamo privilegiava la depurazione biologica dell'abbattimento del carico al carico poi invece si è scoperto che un grosso problema è anche la l'eutrofia l'eutrofia è data dalle sostanze fertilizzanti del mare che sono l'azoto e il fosfo l'azoto e il fosfo sono i classici concimi che si usano nell'agricoltura ecco se tu sversi l'azoto e il fosfo in mare assieme all'acqua depurata tu stai concimando le alghe le alghe cosa fanno? sono ben felici di ricevere il concime e proliferano proliferando si hanno bisogno per la loro vita biologica di ossigeno e quindi si pappano tutto l'ossigeno e li trovano a quel punto l'acqua diventa anossica cioè priva di ossigeno i pesci muoiono e quindi hai il bloom algale le alghe che si sviluppano in modo incontrollato hai la fauna che decade perché non ha più ossigeno e muore e allora dal dal 2000 anni adesso negli anni 2000 è iniziato il discorso della eutrofia e quindi l'abbattimento dell'azoto l'abbattimento del fosfo da lì tutte le tecnologie di denitrificazione cioè inizialmente tu cosa facevi? partevi dalla sostanza organica la partevi quanto potevi e da azoto almoniacale arrivava nitrato e nitrati però erano alti questi nitrati che apparentemente era una leculazione perfetta bellissima poi però erano nitrati quindi inconcime quando tu andavi a scaricare in acqua stavi scaricando l'oncine fertilizzante per le alghe invece adesso come per oggi anche questo è stato risolto per l'altro erogico abbastanza semplice poi perché poi tutto alla fine è molto semplice una volta che sai come fare non è così complicato mi avevi detto che sì era vero che qualcuno magari comprandolo aprendolo guardando avrebbe potuto copiarlo certamente questo è chiaro è come se avessi un telefono o una telecamera o qualsiasi cosa lo posso copiare ma dicevi che poteva copiarlo però soltanto di quelle dimensioni perché c'era un discorso sì perché quelle dimensioni sono legate a un dimensionamento cioè parti da un carico derivato da un certo numero di abitanti equivalenti che ti porta a dimensionare l'impianto di conseguenza se tu cambi il numero degli abitanti però devi sapere cosa devi fare non è che tutto è legato in modo lineare cioè il 10 abitanti equivalenti non è il doppio del 5 abitanti uguali ok bisognerebbe conoscere della formula che porta a un dimensionamento corretto ok e questo è un altro modello matematico è lo stesso modello matematico in cui tu cambi i fattori ok credo ci fosse una formula tutto questo poi alla fine messo sul computer è un secondo non proprio un secondo devi dare una serie di parametri di approssimazione abbiamo dovuto mettere tanto perché è un po' meno semplice ecco non è semplicissimo poi passare da un modello all'altro da un modello all'altro da 5 abitanti dice a 15 a 100 ok quindi non è così scontato nel ciclo biologico della depurazione si guarda al carbonio all'azotto è quello che poi può essere misurato in termini di richiesta biologica di ossigeno oppure richiesta chimica di ossigeno il fosso è un altro di quei fattori importanti perché incide molto sull'eutrofia del corpo recettore eutrofia? eutrofia cioè la possibilità di nutrire le alghe ok a decoborriciatore quindi dove lo scarico lo spiume l'ago il mare tu li scarichi molto acoso molto azoto e molto carbonio e allora tu stai fertilizzando quel fiume e la fertilizzazione attecchisce molto bene fa crescere le alghe che però sottraggono ossigeno dall'acqua e mandando i pesci inolossire o anzitutto insomma perché parlerà nel ciclo quindi questi ciclo dell'azoto si parte da azoto organico da armoniaca e si va al nitrito o al nitrato con dei batteri specifici proprio per fare questo mestiere passare da azoto organico a azoto a nitrito e poi al nitrato e che va benissimo perché il nitrato è considerato il prodotto finale della depurazione poi però il nitrato si è visto che non va troppo nitrato il nitrato avevo usato in agricoltura come fertilizzato cosa si è pensato e cosa si è fatto si è tornato indietro dal nitrato ad azoto gasoso l'azoto gasoso al grosso vantaggio che il motore non è pericoloso viene streppato facilmente e tu riduci il nitrato a livelli sopportabili dal corpo recettore il problema qual è che però la nitrificazione va bene se la fai tu se la controlli se invece non la controlli in sedimentazione se tu nitrifichi cosa succede che sviluppi l'azoto gasoso l'azoto gasoso però tende a salire e quindi adascinare il fango e quindi anche la fuga di fango per eccessiva nitrificazione quindi fuga di fango non perché depuri male ma perché è ripurato troppo in quel modo nitrificante e lì devi allora aggiustare il tiro denitrificato o riducendo la nitrificazione ok quindi la mia domanda a questo punto è le prime due sono io che o gli ho dato troppi detersivi io troppo fretta lo sto maltrattando un pochettino nelle prime due nella terza invece devo andare a agire può succedere che debba essere gestita l'ossigenazione cioè un'eccessiva ossigenazione è un po' come in iperventilazione ok non è che muovi in iperventilazione però ti gira la testa che puoi anche cadere per terra è lì un'iperventilazione del depuratore questa diretta abbiamo deciso di farla per parlare di una tecnologia specifica di depurazione molto utilizzata molto performante molto utile che viene spesso usata anche nei depuratori giusto quei grandi comunali consortivi eccetera eccetera perché attualmente è lo standard più o meno di riferimento per depurazione a fanghi attivi di un certo tipo se si vogliono avere delle prestazioni buone però prima di parlare di questo dobbiamo dire intanto buongiorno buongiorno se si presenta così per chi non la conosce non la conosce mi chiamo Paolo Massimino nel 1979 abbiamo fondato l'azienda italiana depuratore che ha iniziato in un momento in cui non c'era molta gente che si interessava di depurazione perché era appena uscita alle gemelli nel 1976 e quindi per la prima volta si sentiva parlare di limiti da rispettare per gli scarichi sanzioni per chi inquinava di inquinamento si sentiva parlare per la prima volta di eutrofia che eutrofia sarebbe eutrofia sarebbe l'inquinamento delle acque marine e lacustri delle acque dovute a un eccesso di presenza di sostanze fertilizzanti quindi e questo comporta un eccesso di produzione di alue che si prendono tutto l'ossigeno togliendolo ai pesci quindi con grossi problemi per quanto riguarda la fauna lacustre acquatica insomma e quindi abbiamo iniziato questa avventura innamorati dell'idea del carbone attivo allora si sentiva parlare del carbone attivo per per usi di potabilizzazione per togliere il sapore del cloro per togliere gli odori invece avevamo letto in qualche parte che il carbone attivo in senso lato si poteva usare anche per la depurazione di tipo biologico e quindi ci siamo fatti un giretto in tutta Europa per vedere quello che facevano gli altri insomma siamo stati a Catarash al centro di ricerca nazionale proprio sull'inquinamento e lì abbiamo visto un po' siamo andati dal gruppo Krupp la Lurghe di Gussa insomma abbiamo girato le volte era il 1979 era il 1979 quindi chi ogni tanto così magari per scherzare dice che lei è uno dei pionieri della depurazione in Italia un pochino non sta neanche scherzando un pochino sì un pochino sì un pochino perché proprio era io facevo tutt'altro lavoro quindi non avevo bisogno della depurazione per campare ma era stato un innamoramento questo fatto di pensare che si poteva fare nel campo dell'ecologia di più più di quello che in Italia si faceva perché in Europa erano decisamente più avanti di noi quindi abbiamo portato le non parliamo della Sardegna sì perché noi abbiamo come base Cagliari quindi in Sardegna però se ben ricordo e forse anche giusto dirlo in realtà depuratori fatti da lei impianti diciamo fatti da lei progetti fatti da lei sono in giro un po' per tutto il mondo sì è vero mi ricordo mi ricordo la Cina mi ricordo Russia mi ricordo Maldive sì abbiamo era anche bello insomma andare a fare un impianto le Maldive non è male non è male non era malissimo soprattutto andare a seguire se stavano costruendo correttamente ok allora invece tornando al tempo presente cosa è successo qual è la storia iniziale di questi dischetti famosi di cui si parla molto ah sì l'argomento del giorno sono questi dischetti i dischetti sono dei corpi di riempimento che già dalla fine degli anni 1900 verso all'inizio degli anni 2000 sono stati come dire inventati per superare la problematica derivante dai normalmente presenti negli impianti di depurazione a fanghiattini perché i dischetti servono questi dischetti ma i dischetti non li apprezzo molto che i dischetti ovunque diciamo i corpi di riempimento all'interno della miscelareata dell'impianto di depurazione serve a far sì che un impianto diventi siamo disconnessi ci siamo riconnessi ovviamente si ogni tanto c'è la linea che va e che viene purtroppo comunque in ogni caso diciamo il corpi di riempimento servono a far sì che la flora materica normalmente aerobica usata negli impianti di depurazione di una certa dimensione sia non soltanto a flora batterica dispersa cioè i fanghi attivi tradizionali ma a flora batterica adesa e questo fa sì che quindi attaccata 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 a questi corpi di riempimento che sono tanto più efficienti quanto più la loro superficie specifica è disponibile cioè quanta più superficie hanno al loro interno domanda una domanda giusto per capire meglio perché allora io all'inizio facevo veramente molta fatica a distinguere l'impianto a fanghi attivi dall'impianto con con questi corpi all'interno anche perché cioè utilizzano delle logiche simili ma diverse diverse sì perché la flora batterica è adesa per cui si superano tutti i problemi derivanti dal dall'età del fango anche la sedimentazione viene migliorata molto perché in realtà sono soltanto corpi di cessione delle pellicole di cessione non c'è più proprio il fango attivo canonico tradizionale cioè la flora batterica dispensa e questo è come sempre un aumento dell'efficienza del depuratore infatti nascono per diciamo aumentare la capacità depurativa dei piatti esistenti quindi se ho capito bene per spiegarla in parole semplici io ho un impianto a fanghi attivi i fanghi attivi hanno i batteri dentro cioè dentro ok i batteri si posso dire che si annidano all'interno del fango stesso sì perché il fango diventa attivo quando hai già una quantità importante di colonie batteriche estinte che servono da supporto inerte per la nuova flora batterica quindi in sostanza io ho i batteri muoiono i batteri si agglomera non so si 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 creano dei fiocchi e i batteri di lì stanno sopra i fiocchi però qual è il limite è sempre più il limite è la cosiddetta età del fango cioè in quanti giorni tu cambi tutta la flora batterica che sta dentro la tua vasca di ossigenazione questo è molto importante perché ti dà la curva di rendimento dell'impianto di decorazione da lì deriva la possibilità di nitrificare oppure no perché il discorso è la decorazione è cominciata come abbattimento del carico inquinante organico e quindi del BOD la richiesta biologica di ossigeno è una richiesta chimica di ossigeno da lì poi si è andata avanti quando si è visto il discorso dell'autorfia che se tu facevi una buona decorazione biologica e basta ma non nitrificavi tu l'azoto continuavi a scaricarlo assieme all'acqua depurata e assieme all'azoto scaricavi che fossero e una volta che tu nitrificavi molto tu scaricavi molti nitrati allora da lì l'esigenza di tornare indietro un attimo cioè togliere i nitrati che tu eri riuscito a produrre e da lì la di nitrificazione cioè trasformare i nitrati in azoto gassoso e questi corpi di riempimento quindi dicevamo sono una sono una bella cosa sono una bella cosa se gestiti bene se pensati bene perché i corpi di riempimento plastico hanno un grosso limite che devono essere trattenuti altrimenti se ne vanno via e quindi come vengono trattenuti con delle reti di solito che possono essere orizzontali o verticali queste reti hanno anche il problema di intasarsi facilmente quindi per evitare l'intasamento si è pensato di insufflarli in modo importante con bolle grosse che non hanno un rendimento quindi ho delle soffianti all'interno della vasca che tengono in movimento anche energia elettrica in abbondanza questo ha senso se per ora il vantaggio è concreto cioè se tu riesci a portare un impianto da 100.000 abitanti equivalenti a 200.000 abitanti equivalenti e allora ti perdono tutto anche se consumi di più in realtà l'efficienza di questi grampi di impianto si è mostrata abbastanza modesta perché le superfici specifiche sono limitate insomma solo sull'ordine di 100 metri quadrati a metro cubo 200 metri quadrati che tutto sommato è poco perché altrimenti devi riempire il tuo impianto di depurazione di questi corpi di riempimento e basta tutto pieno cioè non hai più un letto sommerso ma hai un blocco unico di queste cose qua un blocco unico di resera che tendono a fuggire quindi la devi bloccare e quindi ecco il discorso che è successo ultimamente tutti i giornali ne hanno parlato di queste costi italiane in base a questi corpi di riempimento plastiche probabilmente i poli perpilene che è un altro grosso svantaggio ci vogliono parliamo di qualche centinaia di anni se no migliaia di anni per degradarlo cioè per per demolire come dice l'hai lì per sempre esco una una tecnologia una domanda una domanda allora questi corpi plastici io li ho sempre visti simili a dei fusilli come se avessi una pentola di plastica che dipende una pentola d'acqua sul fuoco che bolle ci butto la pasta dentro e la mia immagine è quella i fusilli hanno un'efficienza ragione quei dischietti che tu hai visto non ho le schede tecniche quindi non ci potrei giurare secondo me è una modestissima superficie gigica perché sono troppo semplici per avere superficie complesse devono essere devono avere in realtà è una retina che ha una superficie specifica della superficie e un pochino quella delle interstizi ma proprio la testa mi chiedevo questo ma quindi cioè all'inizio quando li abbiamo visti che era scoppiato lo scandalo e tutti stavano parlando di ma sono cialde del caffè e noi abbiamo detto sì sono cialde del caffè non può essere proprio perché siccome erano proprio un po' tappati non li usa più nessuno non li usano cose più efficienti ok ma quindi il discorso della superficie specifica è legato ai batteri più superficie specifica io ho e più ho possibilità di alloggiare flora batterica cioè in sostanza sono la casetta dei batteri sono la casetta e il frigorifero dei batteri perché il frigorifero è legato perché soprattutto nella tecnologia moderna basata sulle masse carboniose la sostanza organica è rilassorbita e poi rilasciata poi riceduta alla flora batterica questo per una tecnologia tipo quella con l'MC45 di cui parliamo poi ma questi che sono invece in polipropilene e lì no servono soltanto come superficie di appoggio della flora batterica ok in certi casi sono usati anche per abbattere le sostanze tossiche creando una flora fungina più che i fuggi solo che siccome i fuggi vivono meglio a pH basso bisogna abbassare molto il pH e poi riportare e neutralizzarlo però la tecnologia funziona questa tecnologia che usa questi subbiotti questi corpi di riempimento si chiama MBBR cioè l'acronimo di una massa biologica immersa sommersa sì un ricordo che citano biofilm perché il biofilm è questa flora batterica che poi è la stessa flora dei percolatori solo che in questo caso abbiamo un percolatore sommerso e quindi non si può dire percolatore perché non percola nulla ma la flora batterica è la stessa ok quindi ad oggi diciamo questa tecnologia con questi corpi immersi nel liquame è la tecnologia biologica più utilizzata più diffusa cioè perché è la più performante forse sì non è l'ultimissimo è la moda della decorazione ma è la più diffusa sì direi che è molto diffusa ok e c'è stato ok ok perché cioè perché adesso ci troviamo questi benedetti dischetti nelle spiagge perché probabilmente è accenduto una di quelle reti di cui parlavamo ma c'è una rete ma questi corpi andranno a finire in un'altra vasca vanno a finire in un'altra vasca normalmente di sedimentazione ma siccome quella tecnologia può prescindere dalla sedimentazione allora ti puoi trovare che ti provi i dischetti se c'è della vasca di residuazione se c'è della rete ti provi nell'acqua decorata e questa magari è scaricata poi scaricata a mare o scaricata in un corpo idrico sopra probabilmente nel caso di cui parliamo è stata scaricata un corpo d'acqua in un fiume che poi l'ha portata al mare e che poi le correnti l'hanno spazio e poi l'hanno distribuita equamente in tutta Italia creando un grande mica da ridere perché quelli fra mille anni sono ancora lì eh sì c'è c'è un'associazione se ricordo bene dopo la cerchiamo Sea Life adesso non ricordo bene che sta veramente portando avanti una campagna sì perché non è interattivo gli devi andare a prendere uno per uno a mano a mano a mano sì sì a mano ma come lo so probabilmente l'eurospe non sono ben viste la capiteria di porto sulle spiagge e poi c'è anche tutti quelli in acqua che prima o poi erano a riva forse ci sono quelli sì sicuramente il loro peso specifico è leggermente superiore quello dell'acqua però tu considera che il motondoso ti riporta alle spiagge ma c'è pericolo che arrivino anche qui in Sardegna non te lo saprei dire bisogna vedere delle correnti però non è da escludere insomma se arrivano qui non arrivano a milioni come sono arrivate lì arriverà qualche pezzo per ricordo ma ok quindi questa tecnologia abbiamo detto che fra quelle a fanghi attivi è forse la più utilizzata la più diciamo venduta e quella che dà rapporto costi benefici fino ad oggi diciamo un risultato discreto sì certo cioè sicuramente meglio di un fanghi attivi normale dove i batteri si attaccano ai batteri morti soprattutto perché il fanghi attivo tutto sommato è sempre un pochino vulnerabile cioè hai la possibilità che si crei una flora batterica che tende a galleggiare o che tende a fuggire o che tende a schiumeggiare e quindi quindi tendono così termini che ti piacciono tanto il foaming ma è simile giusto che sarebbero tutte praticamente fughe di fango fuoriuscite di schiume sì ma è poi diciamo che è normale se il depuratore viene maltrattato no è normale perché è quasi sempre un depuratore capita che venga maltrattato di tanto in tanto perché perché può sempre capitare che il pH sbagli che la portata dell'Aulica sbagli perché la fogliatura è vista e in Italia purtroppo la fogliatura è vista nella stragrande maggioranza dei casi anche i grossissimi impianti in cui mi stavo a dire che entra anche l'acqua più grande quindi è un evento meteorico importante hai questo fiume di acqua che non sarebbe da depurare ma che ti ritrovi nelle vasche di trattamento e che quindi ti compromettono tutti i calcoli idraulici che tu hai fatto prima e questa tecnologia MBBR invece sopporta meglio sopporta meglio sì porta meglio tutti questi maltrattamenti quindi ecco un altro maltrattamento possono essere sostanze tossiche possono essere sversamenti di carichi inquinanti anomali un casivicio che ti sversa il siero una cantina sociale che ti molla il ripro che non riesci a trattare questo orificio che ti scarica un po' di acqua di vegetazione questo sono tutti i pericoli che in più di depurazione ha faghi attivi e mal sopportano invece le MBBR lo sopportano un pochino meglio sì le MBBR sopporta meglio quindi questa tecnologia MBBR magari viene utilizzata più in ambito comunale industriale bravo sì esattamente per i privati le MBBR per i privati le MBBR sarebbe consigliato nel caso di pendolazioni di caglio cioè negli alberghi stagionali nei campeggi nelle case di vacanza in quel caso le MBBR sarebbe perché c'è una soluzione una bella pendolazione ti livella le pendolazioni sia ricaricò il canico che ricaricò l'idraulico ok e questo disastro dei dischetti che è capitato potrebbe succedere di nuovo eh penso avrebbe sì quindi un altro depuratore è un fatto statistica se una cosa è successa una volta sicuramente può succedere non per emulazione in questo caso ma può succedere di sicuro ma è un discorso di manutenzione degli impianti no è un discorso strutturale proprio quella rete lì è stata progettata per durare 10 anni 20 anni 30 anni ah tu dici vabbè io ho previsto che durava 10 anni e all'undicesimo anno non è ancora cambiata ma somma un po' d'asti ma normalmente queste strutture nascono per durare all'infinito come un muro in cemento armato non è che gli dai una scadenza ti dice fra quanti anni crolla mai forse in teoria la rete che dire tra quanti anni si romperà mai in realtà non esiste adesso stiamo parlando di rete io avevo letto in qualche giornale che parlavano di un crollo di un muro no parlavano di un crollo strutturale ah quindi struttura potrebbe essere quella rete struttura secondo me non è crollato un muro è crollato a parte che se è crollato un muro è un guaio ci sono solo i dischetti ma c'è anche il liquone e non hanno trovato per quanto non hanno trovato e ma se crollano un muro guarda te lo accorgi nel fiume diventa nero diventa sognerebbe sentire che ne so chi ha visto i dischetti avrebbe notato qualcosa altro avrebbe notato quello a meno che tu dici la mi ritardo dopo la settimana lontanera se ne è raggiandata un po' di batteri fecali nel mare visto che tante spiagge purtroppo ahimè Goletta Verde ha visto che ce ne sono ce ne sono parecchi pensavo a questo allora la tecnologia MVBR è un pochino lo standard per i depuratori affanghi attivi con una certa performance quindi è un buon prodotto però lei non si era fermato a quello perché stavate cercando di risolvere in maniera più decisa la nostra curiosità è nata da un'esigenza in Sardegna le realtà che negli anni 79 80 giù di lì avevano bisogno del depuratore erano anche realtà stagionali peggi erano a bella ma eccetera e questi avevano il problema dell'avviamento degli impianti di regolazione cioè un impianto biologico non è il frigorifero che tu attacchi e dopo mezz'ora vai lì e senti che temperatura e se ci puoi mettere già la carne o dentro o no un impianto biologico è un organismo vivente che bisogna far crescere nascere e crescere e questo richiede giorni settimane talvolta mesi e allora cosa succedeva che gli impianti tradizionali venivano all'inizio alimentati e prima che andassero al regime avevi già finito la stagione e si tornava da capo con la prima di sovralimentare dopo di sottoalimentare insomma erano sempre in crisi e da lì c'è nata questa curiosità ma non c'è qualcosa che risolva questo problema la mia BBR noi eravamo innamorati al carbone non abbiamo pensato la mia BBR lo avevamo ascoltato abbiamo pensato invece alla massa carboniosa che ha un grosso vantaggio molte volte più efficiente delle BBR tradizionali però riguardo a questo allora per massa carboniosa perché poi uno sarebbe tentato di pensare che è carbone cioè prendo vado al brico compro la carbonella e la butto entro il depuratore e via le non è proprio questo per trovare la massa carboniosa giusta avete fatto anni di ricerche la carbonella è meglio usare e anche il carbone attivo tradizionale è quello per la declarazione meglio usare per la declarazione cioè ogni cosa deve essere usata per quello che serve e noi siamo riusciti a trovare questa massa carboniosa grazie all'aiuto di un anziano ingegnere ok quindi questa massa carboniosa la funzione è la stessa praticamente di questi fusilli di questi corpi di riempimento che buttano nelle mvvr solo che molto più performante nell'ordine di cosa e dunque facciamo un conto questi corpi di riempimento il più il più il migliore come superficie di riempimento va sui 250 300 metri quadri a metro cubo metro cubo a metro cubo noi andiamo a 500 metri quadrati a grammo grammo a grammo quindi 250 metri quadri a un centimetro cubo stiamo facendo conti alla grande in modo grossolano però ci siamo 250 per fare un metro cubo ce ne vogliono 100 100 cc io sono a un litro mille litri insomma una cosa esagerata come paragone ricordavo che in alcune tabelle di comparazione fra questa particolare massa carboniosa che è stata chiamata mc45 un gergo tecnico per tutte le varie ricerche esperimenti fatti insomma questa è la più performante dopo X questa rispetto a quei corpi di rendimento plastici un po' di propilene ricordo se ricordo bene mi corregga se sbaglio che il corpo in propilene era 0,5 metri quadri a grammo e ricordavo la massa carboniosa passata no no il corpo in propilene siamo 200 250 metri a metro cubo noi abbiamo 250 metri quadri per cc da moltiplicare per cento poi da moltiplicare per miglia quindi 250 per centomila per tenerci larghi o generici possiamo dire mille volte in più di più sì molto di più chiaro ma diciamo mille volte in più potrebbe andare sarebbe riduttivo centomila volte ok comunque diciamo che quindi la superficie specifica dove i batteri possono fare la casetta sì e questo significa più performance questo significa molte più performance che veramente negli impianti con la MBDR normalmente hai una situazione molto mista molto faggattivo molto flora batterica adesa nel caso della massa carboniosa hai una predominanza di flora batterica adesa una predominanza di flora batterica adesa e mi viene naturale pensare che essendo adesa è più resistente sì quello che dicevamo prima prescindere dall'età del fango e quello che viene rilasciato dallo spoglio della pellicola ma non non il fango cioè non devi più separare nella miscela areata il fango dall'acqua limpida anche se poi lo fai perché inevitabilmente un po' di flora batterica dispensa la crega anche se lo vuoi ma quindi il vantaggio di avere questa l'MC45 rispetto a un corpo plastico a parte che se io volessi buttare dell'MC45 in un impianto che c'è adesso in un comune così a caso no lo perderesti perché per usare la massa carboniosa devi usare degli accorgimenti che ne evitano la fuga con la massa carboniosa non puoi mettere una rete se no la rete si tasano un po' 5 minuti devi usare dei sistemi diversi dei giochetti idraulici che ti consentono di non perderla e questo di cui lei sta parlando adesso è parte del brevetto sì perché questa cosa qui fa parte di un brevetto che è Biovar quindi Biovar è il brevetto di utilizzo di questo tipo di tecnologia che è composta insieme di queste due cose fondamentalmente ok ma quindi io ci metto il carbone io ho la tecnologia l'MC45 scusate sì io prendo questo MC45 senso l'altro chiamiamolo carbone genericamente prendo questo carbone genericamente che è questo specifico carbone che è stato creato per questo tipo di tecnologia lo metto dentro il depuratore del comune dei tali e si rompe il depuratore succede un patatrack si sfonda un muro si buca una conduttura eccetera eccetera e boom finisce tutto nel fiume abbiamo buttato nel fiume nel terbole che non è inquinante sarà brutto da vedere perché è nero però è una sostanza naturale che addirittura se va nei terreni diventa un ammendante quindi non dico che gli faccia bene per carità però sicuramente non è inquinante e poi viene biodegradato rapidamente quelle condizioni quindi mal che vada se un impianto di depurazione biova di un comune che ha molte più performance e molte più prestazioni rispetto a un MBBR classico si dovesse rompere dovesse succedere se si dovesse rompere perché per caso il caldo strutturale deve riguardare veramente la parte del cemento perché non c'è rete che possa accedere certo c'è la rete certo ok diciamo che purtroppo però questo discorso dei muri di cemento armato che nei depuratori crollano non è nuovo perché ce n'è uno che abbiamo visto in un sopralluogo che ahimè calcoli fatti male dall'ingegnere è venuto giù il muro e devo dire che era incredibile vedere l'uomo è venuto giù il muro perché avevano calcolato male un impianto più vicino non facciamo nomi che sennò poi ci picchiano una domanda quindi ma lì se non sbaglio c'era stata una specie la mezza lo viola qualcosa può capitare sì però evidentemente l'ho calcolato per lo viola diciamo che se fanno un impianto grosso magari devono anche valutare la possibilità che allora in sostanza questi dischetti allora per ricapitolare fanno parte di una tecnologia ricapitoliamo quello che abbiamo detto questi dischetti sono parte di una tecnologia che si chiama MBBR che vuol dire massa massa biologica sommersa dentro il liquame ci si soffia dentro una serie di procedimenti c'è chi ci soffia c'è chi li muove con dei mixer sommersi all'inizio si usavano le turbine naturalmente c'era un affaticamento meccanico perché distruggevi ok e questo è un tipo di tecnologia che è ottima funziona però c'è di meglio che è appunto quella di cui parlava lei prima con l'MC45 questa massa carboniosa particolare ma domanda mia se costa molto di più questa tecnologia come apparentà di resa costa meno apparentà di investimento apparentemente iniziale costa un po' di più ma sai come dire io devo andare il 200 all'ora metto 200 biciclette che fanno un chilometro all'ora e ho fatto 200 chilometro all'ora probabilmente spendi meno a comprare la macchina che fa 200 all'ora se devi fare 200 chilometri non c'è bisogno quindi se voglio dotarmi di una tecnologia performante molto più performante di quella che mi sopporta le pendolazioni hai detto di flusso di carico organico e idraulico organico e che mi depura meglio a quel punto che ti depura meglio ma se lo so ti depura con più sicurezza ok è più affidabile ok in più se si rompe mal che vada quello che finisce in mare è carbone non hai fatto un grosso danno anzi è carbone carbone tra virgolette quindi non è che ci siano grossi danni al fine è carbone è un carbone molto particolare ma è legno carbonizzato trattato in certi modi ok d'accordo e allora la domanda reale è perché i comuni non li fanno con questa tecnologia qualche comune l'ha fatto perché bisogna sai bisogna convincere i i professionisti i progettisti abbiamo adesso stato per realizzare un nuovo impianto a San Giovanni di Sinis proprio in zona archeologica in zona delicatissima con duemila vincoli e hanno pensato di usare questa tecnologia proprio perché è affidabile è la più affidabile che c'è in questo momento sul mercato ma altre volte è stato utilizzato in piatti comunali con grosso soddisfazione addirittura con stupore dice caspita poi vanno a momenti soprattutto i comuni che hanno le pendolazioni di cui parlavano comunque che mi dicono che erano budoni che erano delle controlezioni spaventose tra l'inverno e l'estate e lì misteriosamente secondo loro funzionava bene in qualsiasi stagione mi veniva da sorridere però con piacere a vedere che ci ho messo solo 40 anni e si lo parla non è che funziona fidati ok va bene quindi in sostanza il mistero di questi dischetti sono parte di un depuratore sono parte di depuratori con tecnologia mdbr sono vecchi quindi ce n'è di meglio se ne trovano anche anche la forma ho visto dei dischetti differenti lo studio che era stato fatto era trovare una forma che gli aggrande superficie specifica il rapporto al volume ok e che sia funzionale anche il movimento all'interno di qua me suppongo beh quello era stato trascurato l'idea di mettere la rete più o meno fitta più o meno poi la rete si sfonda e poi c'è questo casino ok chiaro ok bene speriamo di essere stati utili a fare chiarezza su perché proprio questi dischetti e perché siamo qui per qualsiasi tipo di domanda allora a questo punto direi che è tutto grazie interrompiamo la diretta speriamo di essere stati utili grazie a tutti quelli che hanno partecipato un saluto la maggior parte delle persone quando tu parli di depuratore parlano di o potabilizzatore o di osmosi inversa o di addolcitore anche meno c'è gente che dice mi dia un depuratore vuole una popotosatrice che cos'è allora facciamo un po' di chiarezza per piacere quando io parlo di depuratore sto parlando di un apparecchio che fa cosa normalmente la depurazione è riferita al refluo il se invece il trattamento dell'acqua è riferito ad acqua primaria si parla di trattamento di acqua primaria o di potabilizzatore o di condizionamento o si va nello specifico cioè l'addolcitore osmosi inversa disinfezione sterilizzazione depurazione invece è riferito a un termine molto più vago molto più generico ma è riferito all'acqua discarico ok quindi e lì dentro il concetto di depurazione poi c'è la grigliatura la tutti i vari processi quindi è completamente errato parlare di depurazione se invece ti sei comprato un impianto che ti addolcisce l'acqua ma più che errato è che nelle convenzioni normali il depuratore non è il potabilizzatore perfetto ok è una convenzione d'accordo se è convenzione ok non è che ci sia un errore clamoroso no per convenzione non serve non si parla di depurazione quando vuoi fare una disinfezione dell'acqua io lo dico io lo dico solo perché ogni volta che parliamo di depuratori che cosa fate in azienda noi costruiamo depuratori ah l'ho appena comprato ma dai sì mi hanno venduto tutto sto aggeggio che è pieno di filtri e filtri e allora già li capisci che non hanno comprato un depuratore sono andato alla Bricovend e ho comprato il depuratore come hai fatto un bicchiere un caraffa filtrante ok da sempre noi stiamo ribadendo un concetto cioè che le fosse IMF non sono un depuratore e questo perché perché nell'articolo 10 nell'articolo 11 della direttiva regionale direttiva regionale sì chiamiamola così ok c'è confusione si citano le IMF poi si dice il contrario eccetera eccetera noi abbiamo sempre detto secondo l'articolo 10 la situazione è chiara cosa è successo? è successo che la regione si è inventato un termine che il decreto 152 non prevedeva cioè il trattamento adeguato e quindi più più soggettivo di questo non si può io dico che è adeguato tu dici che non è adeguato morale il trattamento adeguato in poche parole consisteva nella possibilità di mettere delle fosse IMF che sono dei sedimentatori primari con digestione anaerobica ma in cui l'acqua esce in condizioni settiche e senza rispettare i parametri della legge nazionale la nostra regione dice no va bene lo stesso va bene lo stesso per fortuna adesso una provincia si è ribellata a questa cosa una cosa va bene lo stesso in quel capitolo nel capitolo subito successivo che se ricordo bene era l'undici dice esattamente l'opposto comunque rispettare i parametri quindi se da lì esce io ti consento di andare in Cina con la tartaruga naturalmente la tartaruga deve volare quindi non può volare la tartaruga non può volare e quindi alla fine è chiaro finalmente una provincia la provincia di di Sassari ha stabilito una cosa banale ma importantissima e cioè che sto leggendo per il principio di cautela dell'articolo 3 ter del gecchetto 152 che è un principio di precauzione cioè dice ma siamo sicuri che sia così nel dubbio siccome ho fondato i dubbi non te la metto più e quindi dal 2017 non è autorizzabile non sono più autorizzabili neanche in funzione di questa cosa assurda dice usa pure anche la bicicletta basta che voli ma la bicicletta non vola e beh non sono fatti tuare quindi per cautela io non ti auguro se vuoi usare la bicicletta per volare usa che problema c'è ok quindi questo è un precedente fondamentalmente hanno creato sì finalmente qualcuno ha detto beh basta perché questo era un come dire addossare le responsabilità di debito addossare la responsabilità di consentire un inquinamento stagione di terra quindi hanno fugato ogni dubbio in sostanza sull'interpretazione di quella legge regionale è molto importante bene ma non c'è nessuno che lavora più grande l'impresa più grande la multinazionale e più se ne fregano tanto tu dici ma scusa vuoi che SPA gruppo faccia scusa e invece non ti puoi tirare di nessuno infatti il nostro motto è il CE è un'illusione cazzi c'è bisogno tu devi prendere in mano le cose e e guardarci bene perché poi quando hai fatto un incauta con questo sono cavoli tuoi questo è un po' un cliente gli dice io adesso devo trattare decine di tonnellate ma un po' di fango all'anno ecco ho bisogno della macchina e che fango è fango ce l'hai? non hai visto? no ecco quando vuoi che sia dai hai già fatto il contratto si e ti arrivano x tonnellate al giorno senza danni che cosa ti arriva lo sai dopo? lo istrucca non è un po' pericoloso ma siamo in deriva cosa volete sapere? ma dai tanto si fa così si strucca viene fuori il liquido quel liquido lì lo butti nel mare che tratta che cosa? che tratta che cosa? ma per esempio una galvanica siamo andati a vedere una galvanica venerdì a parte le macchine ma loro sicuramente hanno dei liquidi che cosa gli devono fare? la galvanica c'era quattro dita di acido solforico per terra mi sono fatto le scariche qui invece solforico niente cloridrico e poi anche delle sostanze carine di quelle che non posso dire ma di quelle che fanno bene proprio alla digestione e secondo te che trattamento hanno? li dai convintiamoci proponiamoli un bel trattamento vieni qua che ti cosa ti facciamo? ricovero neumologia no io direi dai facciamo fare una bella vasca cosa dici? la vasca? ci vuole una bella vasca ci vuole facciamo una bella vasca con un robu che gira marcato C è il robu che gira no? il robu che gira i fumi che salgono magari potrebbero essere anche un po' un po' esplosivetti beh cosa dici? diciamo che magari hanno anche qualcosa un po' di altex però una zona a due però vada poco va bene? vabbè ma ma poi troppo dopo sta vasca no ma ci hanno tante porcate beh che ha venduto un fluoridrico ti assicuro che non è una bella esperienza un fluoridrico mi sa che non è una bella esperienza sai che cosa ho visto io invece quando ero piccolo piccolo a Marghera che c'era la produzione del fluoridrico e c'era un grande un grande un grande laboratorio dove c'erano dei tecnici adesso non li prendo per il culo perché non ci sono più molti esperti i quali per fare le prove in laboratorio andavano in reparto con la bombola e prendevano l'acido e se lo portavano è successo che ovviamente stiamo parlando del 81-82 quindi un milione di anni fa era comunque allora cosa fanno? prendono e caricano la bombola di acido fluoridrico e non se ne accorgono ma la riempiono al cento per cento e braglia perchè non l'hanno pesata e l'idea per farlo scoppiare e l'idea per farlo scoppiare e l'idea per farlo scoppiare anche quella volta ma poi siccome sono figli lo mettono anche a bagnomaria la bombola che è un'altra cosa che è importante la bombola si è aperta in due e se ne ha mangiati tre e il quarto è che è il corso per soccordi ovviamente tra giorni di sciopero l'acido fluoridrico lasciamolo pesare torniamo a quella vasca lì che dicevo io allora lì ci buttano tutto e poi che facciamo dopo questa vasca? filtriamo, precipitiamo mi darei una frullatina non si sa mai una frullatina e poi una calvanica cosa devono fare dopo? che ci fanno? uno mi rispondeva chiamo l'autospurgo lo fai bene oppure avuta via direttamente che dici? no dai dopo cosa si fa? si tratta con un flocculoso ma davvero me lo stai chiedendo? si perché loro vogliono sapere guarda lì lui sa tutto non ve lo vuole dire dovete pagare e lui spiega prima pagate poi lui spiega tu così a gratti lui niente hai visto? non riesco proprio neanche a strapparmi posso dirtelo così? piano piano resine così che scioglie? no no resine a scambio ionico ionico o co? ionico di solito fai cationico e letto mista prima togli una roba poi togli l'altra poi letto mista poi alla fine puoi bere ecco però vuoi che sparisce tutto concentri diciamo e le resine ci inzuppano e che gli fai? le resine le rigeneri ah e quando rigeneri? quando rigeneri ti viene fuori tutta la caca ottieni altra roba bella e quella lì? no diciamo che la mettiamo nello yogurt riduci il problema la soluzione di fai lo spadino non l'abbiamo incrementata riduci e riduci molto il problema di 100 litri ne hai di meno ho capito quindi resine scambio ionico di un tipo dell'altro poi alla fine ottieni che quando rigeneri la resina li stivano fuori da caca però dunque no nei sistemi moderni riutilizzi quello che trattivi lo rimetti in ciclo sentita voi che avete le galvaniche cazzo vengono da però basta perché sennò non possiamo insegnare più di così basta non è che si autopaga l'impianto però costa un po' di meno però bisogna pagare loro però bisogna pagare noi bonifico prima la madama allora l'azienda italiana decoratori è stata pensata nel 79 perchè era entrata in vigore da tre anni nel 76 la legge Merli che era la prima legge italiana che coordinava tutta la normativa sull'antimpinamento, sugli scarichi, dava delle tabelle di accettabilità, dava dei parametri di riferimento, dava delle norme di applicazione. E quindi in quel momento io seguivo già delle aziende che lavoravano in quel campo e nel 79 noi siamo venuti in Sardegna, dal Piemonte, io vivevo a Torino, e abbiamo acquistato una quota di un campeggio in Sardegna. E si trattava di fare il decoratore, abbiamo scoperto che non è che fosse così facile trovare un'azienda che faceva decoratore, soprattutto in Sardegna, c'era il vuoto. Non c'era molto mestiere qui in Sardegna per quanto riguarda la decorazione. Noi ci siamo incuriositi di questo problema e abbiamo cominciato a girare per l'Europa, poi siamo andati in Germania, siamo andati a Catarache, al centro di ricerca per le acque della Francia, poi abbiamo seguito dei corsi di aggiornamento all'IRSA, intanto voi lavoravate, per ricerche delle altre. Campeggio intanto andava avanti. Campeggio intanto andava. E così abbiamo scoperto che c'era ancora molto da capire, da innovare sul trattamento delle altre. e in quell'occasione abbiamo conosciuto l'ingegnere che era un novantenne vispissimo, che aveva avuto questa pensata di usare la massa carboniosa per la decorazione delle acque, ma non era ancora riuscito a industrializzarla, cioè a concretizzarla. L'idea c'era, ma come fare lui non era ancora chiaro. E con lui siamo riusciti a mettere a punto questa tecnologia, che è ancora nuova per il mercato, nel senso che invece di avere il classico impianto di depolazione a fanghi attivi, è un impianto di depolazione in cui la flora batterica è adesa, cioè attaccata, a questa massa carboniosa che sostituisce il fango attivo, che tecnicamente il fango attivo non sono altro che colonie batteriche estinte, che fungono... Cosa vuol dire estinte? Estinte e morte. Ah, morte, ok. Che fungono da supporto inerte a meno colonie batteriche. In pratica sono terreni di cultura. Ok. Questo terreno di cultura noi glielo diamo, e quindi dentro il decoratore abbiamo sempre questa attività batterica in gestazione quando non è viva. E questo supera moltissimi problemi derivanti dalla tecnologia tradizionale ai fanghi attivi. Cioè per si risolve il problema dell'età del fango, del foaming, cioè della creazione di schiuma quando l'impianto non funziona bene, o dalla creazione di cattivi odori. Perché i cattivi odori ci sono solo quando l'impianto non funziona male. Andorin, la florabatterica aerobica, che è quella che usiamo nell'impianto BioVar, è una florabatterica che produce come prodotto del metabolismo la CO2, che non ha odori, e l'acqua depurata. Le autorizzazioni allo scarico cambiano in base al comune e in base alla provincia. Esatto, incredibile. Ma in Italia ognuno va per i fattissori. Tra l'altro la più regolamentata è la Sardegna, che va proprio da caposcuola. Pensavo al Talantino, che sono sempre molto più vicini. Una volta era la Lombardia, poi è stata l'Emilia. Adesso la Sardegna si è messa l'impegno a scrivere regolamenti che vanno oltre addirittura le normative. Per cui è chiaro che non ti metti a contestare i regolamenti, però c'è da dirsi, scusa, ma è la legge... E la legge? La legge c'è. Se tu crei una regolamentazione più complessa di quanto prevedeva la legge, è una cosa fatta bene? È una domanda per me. Va bene? Giusto? Posso azzardarti una risposta? Molte volte ci confrontiamo su alcuni aspetti proprio precisi, magari, di alcuni capitoli di... Faccio un esempio, il 152. E diciamo, sì, è vero, però qui c'è possibilità di interpretazione di questo punto. Non è che magari la Regione Sardegna, in questo caso, stia andando a mettere un faretto su tanti punti che potrebbero essere interpretabili per dire no, guardate che la corretta interpretazione è questa. Di solito i faretti fanno luce. In questo caso fanno ombra, perché se tu mi tiri fuori un regolamento che dice un trattamento adeguato, senza dirvi che cosa vuol dire per l'adeguato, l'adeguato in che senso? Che può non rispettare la legge? No, non senso. Allora, adeguato vuol dire che deve rispettare la legge, ma se deve rispettare la legge perché mi dici che posso fare una cosa che non rispetta la legge? E lì mi sorge il dubbio, ma quali faretti? Ok, allora, per rispondere... Facciamo ombre, altro che non c'è. Questa hai ragione. Per rispondere a questo, di fatti, la provincia di Sassari è stata chiara. Lì ha detto, beh, ragazzi, effettivamente qui... Adeguato a casa mia vuol dire... C'è casino, per prudenza, io mi fermo. Anche perché loro sono stati intelligenti, hanno detto adeguato significa adeguato, e a casa mia adeguato... Sembrerebbe scontato, ma per altri non è così scontato. Ok, va bene, quindi sì, guarda la normativa nazionale, guarda la normativa regionale, e poi dai uno sbirciato. Uno sbirciato, di ricordo. Sì, sì. Invece, sulla conservazione dei prodotti chimici, molti sottostimano il problema, e cioè conservano prodotti incompatibili fra di loro, vicini... Cioè che fanno reazione. Che fanno reazione. Tipo... Cioè, sì, sì, sostanzialmente... No, non di tono, si brucia. Ah. Oppure l'acero cloridrico... Oppure... Beh, è facile trovare prodotti chimici usati nello stesso impianto, e soprattutto conservati, senza vasche di sicurezza. Nel senso che se si rompe il serbatoio... La cosa più guffa è stata da poco. In un impianto comunale, arriviamo lì, grandi serbatoi di vetroresina, costosissimi, fatti bene, tutto quanto, conservati in vasche di sicurezza, in cemento armato, piastrellate, eccetera, eccetera, che però avevano previsto un tubo di PVC che le attraversava e che sversava nel prato. Dice, ma questa non dovrebbe essere una vasca di sicurezza? Sì, però se accade qualcosa, da qualche parte lo dobbiamo pur mandare, senza capire che la vasca di sicurezza doveva trattenerlo e poi chiamare l'Ottospurgo. Ma da poco sul giornale ho letto una cosa che sul Corriere della Sera dice adesso l'acqua repurata la potremmo bere e gli ho detto aiuto, questo giornalista dove l'ha presa questa notizia? Ma perché invece? Perché secondo lui era un grande passo avanti per utilizzare l'acqua repurata per bere. A parte che tanti tanti anni fa Torino beveva l'acqua del Po perché la potabilizzavano pescando dal Po a valle dello scarico del mattatoio, quindi l'acqua nei giorni di macellazione era rossa e poi veniva potabilizzata e mandata a rubinetta. Beh, e lì era chiaramente tutto quanto fatto a regola d'arte con delle tecnologie adeguate e tutto il resto. La stessa cosa capita in molte città del mondo in cui il fiume che poi è al recettore degli scarichi depurati venga poi... E' reutilizzato. E' reutilizzato. Ma stiamo a livelli di grosso impianto presidiato bene, controllato, gestito correttamente. Un impianto piccolo, un impianto domestico, forse solo in Israele? Probabilmente. No, 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 no. Le aziende hanno bisogno di un pretrattamento. Pretrattamento per il discorso di abbattere il carico inquinante. Vuol dire che non ha bisogno di un trattamento ma di qualcosa che lo precede e che sostanzialmente è una scrossatura del carico inquinante. Quindi sempre di depurazione, stiamo parlando, ma non di depurazione per arrivare a un parametro limite di accettabilità o meglio, un parametro molto più grosso, non molto più permissivo. Questo può essere un argomento di interesse per le aziende? Sì, soprattutto quando scaricano la fogliatura pubblica perché la fogliatura pubblica non pretende la depurazione finale ma pretende un pretrattamento, una predepurazione. Cioè io per scaricare il fogliatura pubblica devo stare a cercare certi parametri. Certi parametri molto più permissivi di quanto lo sia un'acqua depurata che scarica in un fiume o sul suolo o per riutilizzare. Stesso vale per i consorzi? Quindi i bianni di depurazione consortiva? Stesso vale per i consorzi. Là dove i parametri di accettabilità sono ancora più permissivi perché tutto sommato al consorzio conviene che tu non depuri molto perché in questo modo ti fanno pagare di più. Ah, quindi meno è depurato il tuo refluo più tu paghi il consorzio. Sì, sì, sì. Ho capito. Ok, quindi se io ho un pretrattamento abbasso il carico inquinante e quindi chiaramente pago meno poi il consorzio. A me, dottor, è capitato di un consorzio in cui noi abbiamo fatto un impianto a una grossa realtà per il riutilizzo completo dell'acqua di scarico. nel senso che prima scaricavano e pagavano milioni di lire a quel tempo al mese arrivano noi, facciamo impianto e ricicliamo completamente l'acqua. Mi arrivano a telefonare e mi dice Paolo, ma sei mica impazzito? Noi dobbiamo campare non è che vai tu, arrivi e quelli non ci pagano più nulla. Ah, è come il consorzio che chiamano. Consorzio, ma sei impazzito. Soprattutto non è più, eh? ha, 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 ha. Grazie a tutti. 3.10, 3.12, 3.12, lì però spezza una lancia a suo favore, lì ha ragione, lì ha ragione perché noi adesso siamo seduti qui e stiamo lavorando per lui e quindi noi stiamo investendo un'ora del nostro tempo, sono le 6, devo anche andare via, stiamo investendo un'ora del nostro tempo per discutere questa cosa, è un'ora di lavoro, cioè chi ce la paga? Nessuno. Lui se deve venire in fabbrica per farti il sopralluogo, l'analisi e metterti giù cosa sono tutte le cose da fare, ci deve spendere x ore. Non è che ti dice ok vengo, faccio il sopralluogo, ti faccio pure il preventivo, te lo do e poi se ti va bene ti facciamo il lavoro. Dice no, un attimo, il mio tempo ha un valore, io vengo da te, però per farti tutto questo lavoro non ci vogliono 8 ore, 8 ore di lavoro fra sopralluogo, trasferte, preparazione della redazione, preparazione di documenti e solo il preventivo. Per fartelo, lui si fa pagare, dipende da quanto lavoro ci mette, anche 700 euro. Di preventivo, loro l'avranno pagato questo, eh? Mr. Fangoman qui, se l'ha fatto pagare? Non so quanto, se l'ha fatto pagare. Saranno anche 1000 euro solo del preventivo? Quanto ce l'hanno messo? Non mi oserebbe farci pagare. Quanto ce l'hanno messo a fare? Secondo me, se l'ha fatto pagare 2000 o 3000 euro. Ok. Due o 3000 euro. Ma con questo, questo è il ciclo stile. E te li scalo dal lavoro. Giustamente. Però se non lo fai con me, io 2000 li ho angassati. E lui ha dato valore al suo maledetto lavoro. Perfetto. Anche troppo, però se l'ha dato. Ma noi dobbiamo, giustamente, siamo bravi, abbiamo un prodotto di prima categoria, abbiamo un know-how di prima categoria, a me è giusto che ci facciamo pagare se arriva qualcuno il preventivo. Questo è il classico, cioè che, se di fronte a uno non ne capisce niente, è scritto bene, è scritto pure in italiano, con frasi involute. Solo che gli sta mettendo fuffa, questo è il problema. Noi ti stiamo dando la Ferrari, te la stiamo motivando, te la stiamo lucidando e ti facciamo pure il preventivo gratis. No, siamo più bravi di Mr. Fango. Siamo più bravi. Sì. Mi piace di Mr. Fango. Che dà le autorizzazioni e tutto il resto. Va anche poi a verificare materialmente che si è stato fatto esattamente questo impianto e non una variante di questo impianto? Dipende, dipende. Se è l'argea che sono gente scaffata, va a vedere. Se è un altro ente, magari vai, non capisco. Nel senso, è anche vero che lui dice, io voglio sviluppare questo impianto qui. Noi diciamo, ok, è questo impianto qui, ma prima c'è una vasca, ma poi c'è un'altra cosa, che sono al di fuori dell'impianto. Ah, sì, 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 se gli metti di più, chiaramente, nessuno si offende. Cioè, io ti sviluppo questo. Si offendono se gli metti di meno. Ma prima ti aggiungo altra roba. Non c'era scritto perché lo davano per scontato, ma perché se ne erano dimenticati. No, perché a questo punto, se loro dicono, ok, 180.000 per far sta roba, che non funziona. Perché dobbiamo argomentargliela, ovviamente. Cioè, bisogna un minuto. Ecco, il discorso è questo. A un cliente è difficile argomentare perché parte dal presupposto che tu lo vuoi convincere di qualcosa. Tu mi hai seguito e mi hai capito. L'ho detto una volta solo, non ho ripetuto una frase. Perché? Perché tu eri convinto che ti sia stato dicendo quello che penso veramente, senza volerti cominciare di nulla particolare. Il cliente no. Il cliente si comincia a dire, ma questo va bene. Questo ce l'ha con quello là. Mi vuole imbrugliare, mi vuole vendere un'altra cosa. È difficilissimo. Le bordure di cappeggi puzzano perché non si prendono le accurate misure nei confronti dei cosiddetti vasi chimici. Nel senso che delle roulotte molti hanno questi benedetti vasi chimici che sono dei contenitori stagni in cui viene messo un batterio statico in modo da far puzzare il... Un batterio statico che sarebbe? Una sostanza che impedisce la fermentazione anaerobica dei rinfori. Che il rinforo inizia a puzzare, insomma. Blocca, non rocca. Blocca la flora batterica. Nei campeggi il problema è dovuto molte volte al fatto che nelle roulotte vengono usati questi vasi chimici che sono i contenitori stagni con dentro un antibatterico che blocca la fermentazione anaerobica. Però blocca tutto, non solo la anaerobica e anche l'aerobica. Per cui quando questo vaso chimico dovesse essere scaricato dentro il depuratore, cioè nei vasi, nei servizi igienici tradizionali, normali, mi manda in tilt il depuratore. Come si risolve? Cioè, fondamentalmente facendo lasciare a terra il vaso chimico nel momento in cui la ruota entra. Cioè, arriva la ruota al campeggio e gli si dice, lei ha il vaso chimico, me lo lasci qua, diciamo il suo nome, lei lo riprende nel momento in cui esce. La seconda possibilità è un pochino più evolute ed è mettere degli sversatori in posizioni comode in modo tale che il vaso chimico possa essere sversato solo lì e non nei bagni del campeggio. In modo tale che tutti questi riflui particolari vengono raccolti in una vasca a tenuta e poi sbaltiti come rifiuto speciale con un lato spurco. Nei campeggi uno dei problemi è anche dovuto alle vasche parallele. Il classico depuratore del campeggio, cioè i grandi vasconi, uno. Il campeggio è il tipico esempio di insediamento a pendolazione di utenza estremamente variabile. Nel senso che se il giorno ne ho 10. Apri il campeggio nel giorno 10, il mese dopo ne è 200, il mese dopo ne è 500, poi improvvisamente ne è di nuovo 20. E lì hai il depuratore che sta cercando sempre di seguire l'andamento del carico in ingresso. Una volta si risolveva questo problema affiancando delle linee di trattamento, cioè mettevi una linea 50 che serviva fino a quando c'erano 50 persone. Poi arrivavi a 200, poi le mettevi in una cattola 150, per quei 50 invece è 150 e così via. Quando tu parli di linea intendi dei vasconi? No, 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 proprio degli impianti. Ah, impianti? Impianti modulari. C'è lento? Di solito? Come vuoi. Ok. Un impianto piccolo, poi un impianto un po' più grande affiancato, poi un altro grande ancora. Come fai a riparire il carico? E' lì il discorso, cioè già ripartirlo era un problema. Poi gestirne, avviarne tanti in cascata così e quindi la soluzione teoricamente poteva anche andare bene, nella pratica era di difficilissima gestione. E puzzavano? Beh, certo, quando un impianto non è alimentato correttamente, puzza. Una delle cose, puzza, fa schiuma, lascia andare il fango, ci sono tanti, tanti, l'acqua non è depurata, eccetera. E il biovar supera tutto questo discorso perché ha una modularità intrinsica, per cui tu quando metti un impianto da 1500 abitanti equivalenti, lui funziona da 1 a 1500, senza problemi, ma hai un impianto solo, una linea solo di trattamento. E non puzza. E non puzza, perché è fatto apposta per lavorare in queste condizioni e azzerare le pendolazioni. Cioè lui, per dire, un biovar che ci sia un abitante o che ce ne sono 1500, a lui non cambia. E lui è la stessa cosa. E lui è la stessa cosa. Quel calcolo matematico che avevamo fatto sui BOD. Ah no, lui è semplice. E' la legge che lo stabilisce che un abitante equivalente ha un carico inquinante di 60 gradi al giorno di richiesta di ossigeno biologico. Biologico all'ossigeno di domenica. BOD 5. 5 perché l'analisi si fa nei 5 giorni. 5 giorni. Perché c'è anche l'analisi a 20 giorni. Ok. Però convenzionalmente si è stabilito che si prova quanto ossigeno richiede quel reclo in 5 giorni, nella respirazione del dogio. Cioè lo si prende un... E 60 grammi di inquinante di richiesta di ossigeno staggiorno fanno un abitante equivalente. Per cui se tu hai 60 kg diviso 60 grammi sono 1000 abitanti equivalente. Abbiamo chiesto quali prodotti usavano. Giustamente. Bisogna anche stabilire che il livello di biodegradabilità ha quel reclo. Perché il BOD, cioè la richiesta di ossigeno biologica, è la richiesta di ossigeno di un reclo degradabile biologicamente. Ma se non è biologicamente degradabile, allora sono altri campi. Perché allora devi guardare se il COD, la richiesta di ossigeno, è la chimica. Ok. Se non c'è equilibrio fra le due cose, bisogna trovare altre soluzioni. Ma quella è sempre COD, 5 COD? No, no, COD è un'analisi chimica brutale, quindi non ha bisogno di giorni di maturazione. Ok. Si fa e basta. E questa come la metto in relazione al BOD allora? Il COD o il BOD? Ecco, il rapporto è 1,6. Cioè, nel refluo. 1 COD. Nel refluo 1 e 1,6 COD. Nel refluo. Ah, scusate. 1 BOD e 6 COD? 1,6. Ah, 1,6. Ok. È il rapporto standard di un refluo domestico, che per, come dire, per riferimento è il refluo biodegradabile, meglio biodegradabile. Se invece questo rapporto si sfarsa e dice, l'aria delle stelle, il mio di basso, allora è utile che metti un piatto biologico, non? Non è solo. Devi fare un piatto di abbrattimento chimico. E quindi può essere un flottatore, un flocculatore. Il flocculatore è quello? Il flocculatore vuol dire che floccula, crea il piocco di fango e lo precipiti. Il flocculatore invece vuol dire che crea sempre il piocco di fango, ma lo fai calleggiare e poi lo scordi. Lo fai sfiorare. Sono sicuro però che c'è qualche aneddoto di situazioni paradossali dove qualcuno probabilmente in assenza completa di fognatura o altro voleva depurare con nulla, tipo buttare cose in mezzo ai campi o schifezze di scarico diretto in fiume, cioè proprio così diretto come capita purtroppo spesso. Sì, ci è capitato. Anche di recente. Dice, lo scarico del depuratore doveva essere lì, ma quello è suo o no? Quel campo non è suo o no? Ma è chiesto il proprietario dell'autorizzazione? No, non c'è bisogno. L'abbiamo sempre scaricato lì. Cioè questi avevano un... Cioè neanche l'impianto di depurazione avevano... No, prima scaricavano tal quale. Ah, così? Poi nell'intento di fare il depuratore dice scaricheremo lì. Ah, è appunto, poi... Ma lì dove? Quel campo è suo o no? All'autorizzazione no. E come fa a scaricare lì? Abbiamo sempre scaricato lì. Solo che prima ci scaricavamo direttamente... Appunto. Il grosso di... Deve ringraziarci che adesso scarichiamo il depuratore. Grazie a tutti. Dottore, buongiorno. Volevo farle vedere un filmato che abbiamo girato assieme a Rimini in occasione di Ecomondo. Se schiaccia il play della tastiera vedrà. Siamo qui a Rimini per Ecomondo e questa mattina ho ricevuto una telefonata da un ingegnere che ci ha sottoposto un problema di un cliente. Che ha comprato un impianto di depurazione da una ditta che aveva promesso di rilasciare la certificazione per lei, la richiesta di autorizzazione dello scarico e non gliela mai rilasciata. E quindi il dubbio è che questa certificazione non esista. Ma quindi tutto questo è successo perché? Perché questa acquistata... Perché questa è data dall'ingegnere e dice mi faccio la pratica di autorizzazione allo scarico e l'ingegnere giustamente gli ha fatto presenti che per avere l'autorizzazione allo scarico doveva dargli la certificazione del prodotto come richiesta dalla normativa. Facciamo un passo indietro. La normativa attuale prevede che gli impianti di depurazione fino a 50 abitanti equivalenti siano prodotti da costruzione soggetti alla certificazione EN 12 566 barra 3. Se non hai questa certificazione i tuoi impianti non sono certificabili, non sono autorizzabili, ma addirittura non sarebbero vendibili nella comunità europea. Cioè tu li puoi vendere in centroafrica ma non nella UE. Nella UE senza quella certificazione, quella norma comunitaria. Poi sta a fare cipito, ma anche dall'Italia, per l'Italia sta a fare cipito. Allora, in sostanza, cosa è successo in questo filmato che abbiamo appena visto assieme? È successo quello che succede spesso, che qualcuno non si rende conto che siamo in Europa, si mette a produrre cose che non sono certificabili, e quando gli viene chiesto un certificato cade dal pero, e te lo diceva, ma se c'è bisogno di un certificato non c'è problema. Il certificato glielo do. Sì, di nascita. Poi però scopre, poi scopre che il certificato sotto 50 abitanti equivalenti e bisogna farselo fare da un ente terzo, cioè tu non te lo puoi auto certificare. Tipo, come esempio? Sono organismi notificati, cioè riconosciuti per la comunità europea come atti a certificare prodotti, prodotti da costruzione. Uno fra i tanti che magari ha certificato i nostri? TRIUF, Ce n'è diversi, sì, certe, ce n'è. Ok. Problema, il problema è che per certificare lo fai in mattinata. Ok. C'è tempo di mandare un prototipo. Ma costa anche? Costo, costo molto. Tipo? Ma il costo, sai, lo ammortizzi. Chiaro, chiaro. E' il tempo che, se te lo chiedono l'indomani mattina, il certificato ti devi dire spiace. Quindi o ce l'avevi, o ce l'avevi, oppure o ce l'avrai. O ce l'avrai. Ma nel mentre non hai certificati da dare. Ma nel mentre hai commesso un illecito. Hai commesso un illecito? Nel senso che hai venduto una cosa che non potevi vendere in Europa. Ah, e quindi qual è il rischio di io che la vendo? Eh, poi, intanto, il prezzo che ti hanno eventualmente pagato te lo devi restituire. Poi, se ti hai causato danni, ti devi risarcire. Cioè, si investe un meccanismo molto pesante. Quindi, in sostanza, a questo nostro cliente, a questo ingegnere, avevano venduto un impianto che era, in sostanza, delle vasche di cemento X non certificate assolutamente. Evidentemente, io non so chi è, non mi è stato detto. però, evidentemente, magari in buona fede, ha pensato di poter vendere un prodotto che invece la nuova normativa considera prodotti da costruzione di cui è obbligatoria la dichiarazione prestazionale. Cioè, devi avere un ente terzo che dice le prestazioni che tu dichiari sono vere, le ho verificate, lo puoi vendere. questo sotto i 50 abitanti equivalenti. E tutto sommato, lì la norma è chiara. Finisce lì. O hai la certificazione o non ce l'hai. Dove diventa un po' più così. Aspetta, ti chiedo una cosa prima di parlare dell'altra, di sopra i 50 abitanti equivalenti. Stando sotto i 50 abitanti equivalenti, nel nostro caso, la cliente, l'ingegnere, che cosa puoi fare adesso? Fatti o non restituire, perché non... Ma se magari hanno scavato, l'hanno installato, hanno montato giù... Sono i danni di cui ti parlavo. Sono... Non può... Intanto, quel prodotto lì non può essere certificato se non da chi l'ha prodotto. Il prodotto prodotto. E... Quell'impianto lo può servicare soltanto a chi la dichiarazione prestazionale non la può lasciare solo il produttore. Chiaro. Che deve essere a sua volta che è stato certificato. E' lui. E' lui e basta. Perché qualche volta è successo che qualcuno mi ha detto ma io ho un impianto l'ho pagato mi ha costato un sacco di soldi me lo certifichi lei. Non è... Non si può. La norma non lo può non lo prevedere. Cioè io lo costruisco e te lo vendo e te lo certifico perché a mia volta sono stato utilizzato dalla certificazione degli enti terzi. No, niente lo può. te lo devo certificare. Se io non ho la certificazione la cliente l'ingegnere non ce l'ha questa certificazione non può far niente. No. Non può neanche avere l'autorizzazione allo scarico. Non può andare avanti l'autorizzazione. Aspetta. in Italia in Italia tutto ha un limite però ci sono delle province che questa cosa fingono di ignorarla. Quindi autorizzano cose non certificate però è un illecito. È un illecito fin quando va poi succederà come al solito un'epocazione che la bomba e qualche testa salta forse. Salta anche il portafoglio. Ok. Ok. Quindi questo ingegnere adesso sarà costretto a fargli causa a questo cliente. In realtà l'ingegnere è il professionista la causa la farà il cliente nei confronti del fornitore. E quindi la situazione che è successa a questo cliente e l'ingegnere che era il nostro nostro cliente storico non è risolvibile se non per vie legali. No. e comprandole uno certificato finalmente. Quindi in sostanza dovranno intentare una causa al produttore e venditore. Rispiedere all'intente l'oggetto. E comprare un uomo. Restituisci di soldi e guarda che siccome ho speso un sacco di soldi a scavare a ritorno gentilmente restituisci di ritornami ritornami la spesa. Ritornami questi costi. E loro dovranno riacquistare un altro depuratore da un altro che ce l'aveva certificato. Possibilmente verificando che la certificazione ce l'abbia. Ok. Non so se è un privato o un'attività produttiva ma se fosse un'attività produttiva sarebbero dei guai seri perché magari questa cosa questo fatto gli blocca tutto. è stata messa in esercizio dell'attività e quindi sarebbero danni economici notevoli. Ok. Prima stavi accennando al fatto che la certificazione non si limita ai 50 abitanti equivalenti. C'è una norma un po' meno precisa ma veramente importante che riguarda gli impianti di deputazione sopra i 50 abitanti equivalenti. E lì la cosa diventa ancora è meno e non è piccolante nel senso che sopra i 50 non c'è bisogno della certificazione preventiva di un ente terzo. Te lo certifichi tu. Gli lo certifichi tu. Però glielo certifichi sulla base di quello che prevede la norma che sembra facile ma è meglio leggersela bene perché la norma qualche volta ti dà dei suggerimenti ma molte volte ti dà delle direttive cioè ti dà sempre due o tre opzioni o due o tre possibilità ma una di quelle la devi scegliere. Faccio per dire i motori le può un sornellamento se vuole esempio un sornellamento il sornellamento prevede un pompaggio pompaggio di un liquido se il liquido è un liquame questo pompaggio deve essere deve dare delle garanzie cioè non è che si guasta la pompa finisce l'attività allora la norma per esempio ti suggerisce guarda che in questo caso devi mettere devi prevedere due pompe oppure non vuoi prevedere due pompe prevedi comunque un sistema di sallevamento e sgancio rapido e prevedi di tenere una pompa di riserva difficile in modo tale da poterla sostituire quindi non è che ti dico appena ti dice attenzione io suggerisco no no ti dico devi devi fare questo se lo suggerisce o il devi i suggerimenti sono delle alternative ma una di queste la devi scegliere e devi essere cosciente di quello che fai nel senso che la norma non ti dice come devi dimensionare l'impianto per 51 abitanti che volete o per 100 quello fa parte delle tue buone pratiche di progettazione e di realizzazione però poi quando vai a progettarne le apparecchature e le vasche cioè il progettista ha previsto due pompe no ha sbagliato oppure ha previsto una pompa ma ha previsto la riserva ha fatto bene ci sono varie alternative insomma tutto questo poi diventa un nome di chi realizza chi realizza le messe le pompe non le ha messe ha messo la garanzia ha messo il dispositivo di solevole come fa a certificare che ha rispettato la norma e a quel punto ti dice lo fanno tutti cosa lo fanno tutti ti dichiarai che ha rispettato l'orlo e invece e invece no perché ci sono tantissime cose che sono tutte devo dire di buon senso cioè non ti dirà mai fai una cosa completamente insensata anzi ti dirà scegli una delle cose che ti suggerisco che derivano dal buon senso però uno di questi lo devi fare se invece poi succede un guaio e tu hai certi clienti e tu hai certificato di rispettare la norma arriva un pericolo e scopri che tu non la norma è rispettata ne sei completamente responsabile e sono cavoli amari sono cavoli amari quindi io produttore che ho certificato è la UNIN 12255 barra 1 o barra 6 meno 1 oppure meno 6 ok se io certifico al mio cliente con il depuratore da più di 50 abitanti equivalenti e gli dico ok perfetto ti do anche la certificazione su questa cosa che dovrebbero farlo tutti ma non lo fa nessuno ma lo fanno sempre più spesso io mi sto assumendo la responsabilità di quello che ti ho certificato però tu cliente sei più tutelato da quel punto di vista certamente cioè è una tutela per te cliente farti dare dal produttore la certificazione di quel tipo lì certamente dal punto di vista civilistico quindi responsabilità pecuniaria diciamo e tutte le altre dal punto di vista penale no perché eh vabbè però almeno non è delegabile se tu con quell'impianto che non funziona che non è fatto bene non è certificato hai commesso un reatto di inquinamento ti becchi la denuncia perché tu avresti dovuto verificare ok è in grado tu dovrei far verificare dal tuo consulente però perdona un attimo l'osservazione quindi tu stai dicendo se ho capito bene che il fatto che il produttore dia al cliente finale la certificazione per l'impianto superiore ai 50 abitanti equivalenti lo tutela come cliente finale dal punto di vista civile quindi può rivalersi sul produttore civile amministrativo amministrativo però dal punto di vista penale cioè se il cliente con quell'impianto ha inquinato commette un reato punto no commette un reato commette un reato in associazione con chi gliel'ha venduto con chi gliel'ha progettato con chi gliel'ha collaudato ok quindi lo commettono tutti io cliente in realtà quindi se chiedo la certificazione UNIEN 12255 meno 1 meno 6 quello che è io in realtà sto tutelandomi perché sto tutelandomi dal punto di vista legale certo civile penale sì civile è penale penale no però se non altro avendo la certificazione posso verificare che lui abbia fatto tutto quello che prevede la normativa ma vedi il penale è un aspetto veramente delicato però l'aspetto di responsabilità non penale tu fai un danno quando hai qui ti fai un danno fai un danno all'ambiente questo è pulito anche te la mente è pulito però ci sono anche dei danni materiali monetizzabili io posso chiedere danni al produttore ok questo è molto importante perché veramente nessuno o quasi nessuno rilascia quel tipo di certificazione purtroppo pochissimi sono stati sensibilizzati perché chi si studia quella norma beh deriva un po' dall'esperienza quella norma equivale al fascicolo tecnico dei prodotti come la marca CE cioè ti metti di fronte a tutta una serie di casistiche ma se succede quello e quindi rende il prodotto sicuro è affidabile a proposito di questo hai appena citato il fascicolo tecnico che cos'è il fascicolo tecnico il fascicolo tecnico è quella cosa che presuppone la marchiatura CE senza il fascicolo tecnico non puoi apporre il marchio CE che è un marchio di sicurezza praticamente perché ti viene chiaro il marchio CE attesta che quel prodotto non è dannoso e quindi può essere venduto quindi io devo avere il fascicolo tecnico per avere a monte per avere il marchio CE che mi viene rilasciato no lo apponi tu lo appongo io perché dico in base al fascicolo tecnico che io ti rilascio ti dimostro che questo prodotto non è pericoloso esatto ok e se un produttore non rilascia il fascicolo tecnico al bien no no non è che devi rilasciarlo devi averlo e dichiarare chi ce l'ha nelle nostre dichiarazioni noi dichiariamo che il fascicolo tecnico è tenuto dal signor proprio nome e cognome che ha la funzione aziendale di presso indirizzo telefono e il fascicolo tecnico può essere richiesto in visione oppure in caso di di cause di problemi insomma chiederebbe che rilascio una coppia ma non è obbligatorio il rilascio insieme ci mancherebbe altro cioè quando vai a comprare una lampadina che è macchiata CE non è che chiede la coppia mi dia il fascicolo della lampadina una lampadina una lampadina però e sai o c'è il marchio o non c'è ok comunque serve un fascicolo tecnico a tutela per avere il CE che giustifica il fatto che tu l'hai a posto se tu non l'hai fatto non puoi commettere una rilegge devi avere il marchio CE per vendere in Europa si quindi tutti dovrebbero avere un fascicolo tecnico si ok lo sai non è pericoloso il fascicolo può essere anche ti ti guardo lì in realtà non è il marchio di 4 ore è di x pagine molte decine di pagine in cui metti non applicabile non applicabile cioè ne so una penna anche la penna deve essere magari c'è anche la gomma e ti chiedo questo noi diamo ai nostri clienti in consegna del depuratore del fascicolo tecnico noi diamo il manuale con la certificazione quindi noi nel manuale dichiaro della certificazione che il fascicolo tecnico è tenuto presso ok intanto che esista e poi che è tenuto che cos'è il manuale che noi consegniamo al cliente all'atto della il manuale è previsto per legge è obbligatorio cioè quando io vado a consegnare il depuratore faccio l'installazione l'avvio lascio il manuale e il manuale è il manuale di istruzioni di manutenzione si a seconda se se il manuale è già costruito non è un manuale di costruzione ma è un manuale di uso e manutenzione uso e manutenzione ok invece se lo deve assembrare è un manuale anche di assemblaggio di costruzione e il cliente come best practice passamela sarebbe utile e importante che tenesse un calendario sì diciamo un calendario degli interventi che lui fa sul depuratore delle verifiche dei controlli dei prelievi delle pulizie perché penso a quel cliente famoso di Pula che lui è talmente preciso che ogni intervento che fa sul depuratore lui solo annota nel taccuino degli interventi sopra i cento abitanti è obbligatorio ah sotto no è solo a discrezione del singolo che è veramente mi ha impressionato quel cliente perché addirittura diceva aspirata la soffiante controllato il livello è veramente preciso è breve un borsadino per consulente dicasi consulente uno che se ne intende uno che ha esperienza uno che ha studiato ci ha messo le mani ha provato ha scoperto la faccia ok quindi l'esperienza ci sta ma se volessimo una consulenza più approfondita precisa quindi non un consiglio ma proprio una consulenza se tu vuoi una consulenza approfondita c'è un motivo per cui la vuoi evidentemente c'è un investimento importante dietro eccetera e la consulenza continua ad essere conveniente in ogni caso perché devi investire gran soldi più soldi devi investire più il consulente è importante e ti costa poco rispetto a quello che stai rischiando anche perché rischi cosa? rischi di aver avuto dei soldi rischi di entrare in causa rischi che hai pagato dei soldi per avere una cosa che non può essere certificata che poi non funziona di cui è stata sbagliata la progettazione se tu hai sbagliato la progettazione e mi è venuto quella roba lì non ha l'elastico non è che la posso aggiustare non si aggiusta il tiro e che fai scavi ancora la schia la butti via la butti via o se ti va bene la riutilizzi ma come appendice per fare qualcosa che non avresti comunque fatto per non dire le buttate soldi ma almeno ne utilizzo il volume c'è una pompa vabbè utilizziamo una pompa da qualche altra parte una soffiante però vediamo se possiamo riutilizzarla mai buttare soldi quindi per evitare di buttare soldi meglio una consulenza investi investi una consulenza prima così ti eviti di buttare soldi poi e scopri di aver risparmiato un sacco di soldi denunce anche rischi civili ma lei si innesca poi un meccanismo perverso perché tu che hai cooperato e hai sbagliato inquini ti possono compromettere l'attività a parte le sanzioni le denunce penali sanzioni tipo pecuniarie sanzioni pecuniarie se è un'attività produttiva le denunce penali spese legali cioè non le vale da pena ma questo per aver risparmiato 1000 euro di consulenza non ha senso credo sì sì e quindi saremo noi che abbiamo i problemi suoi degli operai dell'installazione degli scavi beh beh con i nostri prefabbricati no no perché arriva pronto all'uso c'è ingresso uscita corrente se ne dice grazie ingresso uscita corrente cioè ah perché anche a noi questo riusciremo a farlo prefabbricato sì e allora se trovassimo anche addirittura dei saldatori che ce lo saldano direttamente già lì senza il disturbo di domani 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 di mandare il progetto esecutivo sì sì a qualcuno che ce lo prepara già noi andiamo lì lo prendiamo facciamo le ultime finiture attacchiamo le ultime cose così non gli facciamo vedere tutto quanto poi lo portiamo a consegnare riduci i prezzi assurdi invece che farlo qui portarlo lì considera che il trasporto tutto sommato non decide più apparentemente il trasporto da Sardegna è più una nomea che una realtà allora fammi una volta lo facciamo io ho mandato roba in Russia ho speso ma proprio quattro soldi ai pianti interi sì e ok allora meglio se non c'è problema chi se ne costa di più mandarlo a Torino a Milano che da la Sardegna oggi una nostra cliente ha sollevato un'obiezione stavamo parlando del loro impianto di depurazione per una trentina di abitanti equivalenti e mi ha detto ma sto guardando il sito anche dei vostri concorrenti di diversi vostri concorrenti tutti parlano della legge 152 del 2006 e citano sempre questa legge qui voi siete gli unici che citate pure la 185 che è ricordiamolo per il riutilizzo ok perché voi citate la 185 e nessun altro cita la 185 mi corri impreparato non ho idea perché gli altri non per ignoranza non lo so non credo ma non credo diciamo che la 185 prevede dei parametri più restrittivi ah ecco e quindi meno facilmente raggiungibili ma non è che ci vogliono di altri raggiungibili ok e può essere che centri con qualcosa collegato alle certificazioni no no perché comunque la 152 si collega anche a quello quindi tu dici sia soltanto un discorso di parametro restrittivo tra un lato mi mi sembra strano che non ne parli probabilmente non ha non ha guardato bene ma non lo so 185 dice così dice che nei preventivi nessuno lo menziona il 185 certo se non glielo chiedi cioè se non gli chiedi lo riutilizzo non ce lo citano ok mi diceva che per il riutilizzo dell'acqua depurata quindi della 100 stiamo parlando sempre della legge 185 del 2006 le hanno detto i concorrenti i nostri colleghi di altre aziende che deve dotarsi di un impianto di filtrazione che costa tanto quanto un depuratore praticamente e perché le soluzioni normalmente applicate sono non sono semplici cioè non hanno ancora semplificato la cosa nel senso che normalmente per filtrazione si intende filtrazione in pressione cioè filtrare vuol dire avere un salvatore di accumulo mettere una pompa un galleggiante un quadro elettrico mettere un filtro questo filtro deve pulirsi quindi anche un dispositivo di condizia di controvaggio eccetera tutto questo ha un costo noi invece l'abbiamo semplificato molto e quindi reso più economico mantenendole lo stesso grado di efficienza perché la filtrazione che viene normalmente applicata da questi colleghi è mediata dalla filtrazione per l'acqua potabile ma non c'è bisogno di raggiungere un grado di filtrazione submicronica con filtro capisci quindi loro vanno cosa a filtrare quasi i batteri vanno a filtrare sì vanno a una filtrazione submicronica che non ha senso sull'acqua depurata perché tanto comunque la utilizzo a scopperrigui a scopperrigui tu non la devi bere e non la devi nemmeno spruzzare ricordiamo ma mi chiedevo questo noi l'abbiamo semplificata in modo estremo e otteniamo comunque un risultato assolutamente entro parametri di legge ma perché a monte il processo depurativo dei depuratori nostri è un processo estremamente efficiente anche e quindi più è meno probabile la fuga di sostanze solide ok mentre negli altri è possibile una fuga facilmente ma questo per una questione di tecnologia per una questione di processo di una questione di tecnologia ah ok tecnologia a a can o a Grazie a tutti. L'autorizzazione allo scarico dell'impianto per un'attività commerciale e qui il swap di questo rumore dice che gli atti conseguenti e le verifiche strutture sono regolate dall'articolo 10 delle direttive regionali perché è molto importante che sia l'articolo 10 anziché l'articolo 11. Ma perché l'articolo 10 parla di attività istruttore che verifica del procedimento di autocertificazione che può essere a 0 giorni o a 20 giorni? Cioè stiamo parlando di una autocertificazione. Questo cosa vuol dire che l'autocertificazione è poi il procedimento è regolato dall'articolo 9 precedente che dice che per tutti i procedimenti in autocertificazione che sia a 0 giorni o a 20 giorni ma nel nostro caso è a 20 giorni. La ricevuta automatica viene rilasciata in casa della presentazione unitamente alla dichiarazione autocertificativa e ai suoi allegati costituisce titolo abilitativo. Cioè l'autorizzazione è la venuta presentazione. Il professionista produce un'autocertificazione, produce quindi un documento che lo responsabilizza del fatto che ha detto la verità, che ha presentato tutto quello che deve presentare, che tutto è vero e questa è già l'autorizzazione. Quindi io con l'autocertificazione e quel documento di ricevuta che c'è lì sono solo dopo però 20 giorni. Dopo i 20 giorni, nel corso dei 20 giorni. Questo a prescindere poi dalle attività di verifica che gli enti sono tenuti o comunque che possono fare. Nel senso che la provincia, l'ARPAS, tutti gli enti interessanti che sono appunto comuni, ARPAS, provincia e regione Sardegna. Nel caso di Sardegna potrebbero essere l'ARPAS, campagna o regione Sardegna, hanno 60 giorni di tempo per chiedere integrazione, chiedimenti eccetera eccetera. E questi 60 giorni si riducono di 5 perché la loro attività deve essere, deve terminare 5 giorni prima della scavenzione. Quindi 55 giorni. La cosa interessante è che... Scusalo, 55 oltre i 20 o comprensione? Non sempre partendo dalla ricevuta. L'attività accertativa è vista subito, come presenti, se qualcuno nota qualcosa che manca. Naturalmente se dichiarano cose non vere sono dolori perché scatta penale eccetera. Però la cosa interessante è questa, la richiesta di integrazioni documentali, sempre l'articolo 10, non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Cioè io sono autorizzato. Poi mi puoi chiedere la luna e io te la do. Però intanto sono autorizzato, quindi posso fare la mia attività. Posso utilizzare il depuratore, posso sfericare eccetera eccetera. Secondo me è un passo avanti. Questo, come dicevo, è un trasferimento di esperienza. Non è un'interpretazione sulla quale potrei giurare perché poi è la magistratura che decide qual è la verità. Anche perché c'è un'altra scuola di pensiero che dice invece che non è l'articolo 10 che invece è citato da uno sportello c'è scritto. Anche dicono no ma non è l'articolo 10, è l'articolo 11. E allora l'articolo 11 ci fa tornare indietro, nel senso che non è più a 20 giorni ma è a conferenza di servizi. Si chiama letteralmente procedimento in conferenza di servizi. Quando? Ecco, la scuola di pensiero dice ma è chiaro che in conferenza di servizi perché al primo comma della lettera dice che la verifica di conformità di applicazione autocertificativa tra i tanti casi è quello della tutela ambientale. E io non posso dire che qui stiamo parlando anche di tutela ambientale. Ma se il suo amico dice articolo 10, potrebbe dire che non è l'articolo 11. Quindi chi cita l'articolo 11 lo cita a proposito. Non lo so, non lo so, potrebbe anche avere ragione. Ma se non è citato lì? Eh, non lo so. Quindi diciamo che è interpretabile. Eh, no, sono quasi sicuro però... Sì, chiaro, non siamo dei giuristi. Che è articolo 10, no articolo 11. Molti invece dicono, no, no, articolo 11, quindi non ti devi considerare autorizzato se non al termine della procedura autorizzativa che deriva dalla conferenza di servizi. C'è quello che succederà prima insomma. Quindi un passo avanti e un passo indietro. Ecco qua. È possibile comunque avere la comunicazione del giudario di riunione. Che non è la conferenza di servizi però scorsa. Beh, questa cosa qui, questa ricevuta che gli hanno dato, potrebbe essere diversa da paese a paese. Quindi dovrebbero comunque controllare che gli eventuali atti conseguenti alle verifiche istruttorie devono essere adottate, bla 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 bla, articolo, descritti nell'esattiva o nell'articolo 11. Invece l'articolo 11. Ecco, quindi bisogna leggere... Devo scrivere quelle cose prime però. Nel senso che non è più una pratica autorizzativa 20 giorni, ma è una pratica soggetta a conferenza di servizi. Quindi abbiamo velocizzato con queste norme nuove. Salvo, articolo 11, interpretabile. Però lì nella ricevuta parlano dell'articolo 10, quindi non parlano dell'articolo 11. Perché una cosa non la mette l'altra. O è l'una o è l'altra. Ma potrebbero essere tutte e due, no? No. O è una o è 10 o 11. Anche perché l'articolo 10 poi prevede la possibilità di concare una conferenza di servizi che non chiama così ma chiama in un altro modo, però la sostanza è quella. E cioè, adesso non la trovo, è una richiesta che può essere fatta anche via telematica in cui tutti gli enti si sentono ed esprimono il loro parere. Ma dentro l'articolo 10. Ok. Quindi sempre l'articolo 10. L'articolo 10 che ti ha dato un pezzo di carta autorizzativo. Bene. Quindi adesso sarà molto più veloce e molto più snello. Chiaramente in coscienza perché ognuno si prende la propria responsabilità di quello che certifica o di quello che è certo. Bene. Molto bene. Questo sarà molto utile. Quindi se c'è bisogno... Siamo qua. Da lì qualcuno ha pensato di fare un po' come quello che facciamo noi, cioè semplificare la cosa e fare dei bacini in cui insuffli e la flora batterica si forma dentro. Insuffli, cioè io forzatamente ci soffio dentro l'aria. E dentro cosa hanno pensato? Stanno pensato di mettere dei corpi di riempimento tipo questi qua, cioè pezzetti di plastica, la rifusa, migliaia, in cui la flora batterica aderisce. Aderisce. In cui ha pc però invece di avere questo, hai un'enosa. Questo ha 0,50 metri quadri al grammo. Noi usiamo 500 metri quadri al grammo. Quindi la nostra efficienza è mille volte superiore. Quello quanti ne ha? Questo è comunque l'esempio. Ma lo dico, le... 0,50. A 0,50. Mezzo metri. Quando va bene. Poi dipende anche dalla forma, dalla dimensione, eccetera, eccetera. Questo è un esempio. Sì. Sono gli svedesi che hanno pensato di Kalt, Ness, si chiamano. Questi ergegini. Questi ergegini. Queste specie di gattoncini di polipropide. Ma li producono ancora? Sì, sì. Sì, ma per un particolare tipo di depuratore. Per cercare di ottenere il risultato che noi usiamo come biobarco. avere una flora batterica svincolata dall'età del fango, svincolata dalla sedimentabilità. Perché tu non hai più bisogno della sedimentabilità. O sedimenti. E' attaccato. E' attaccato al supporto inerte. Il discorso del fango qual'è? Che dopo un tot di tempo il fango muore? Deve essere rinnovato. Sì. Cioè se io... L'età del fango è... In quanti giorni io rinnovo la flora batterica che c'è dentro del piatto di rinforzione? Mi viene da ridere perché l'età del fango non l'avevo mai sentito. L'età della pietra, del ferro, del... Ma del fango no. Quindi... Cioè... Ok. Quindi può sopravvivere senza essere alimentato, Senza essere alimentato per un tot. Sì, grosso vantaggio anche del carbone Che ha anche una capacità assorbente Seppur modesta rispetto al carbone attivo Microboroso Ha una capacità assorbente delle sostanze organiche Per cui la flora batterica quando non è alimentata regolarmente Ha il frigoriferino Ok Alla dispensa In cui trova la sostanza organica che il carbone ha trattenuto Ok Ed è disponibile per restituirla alla flora batterica In più, come carbone, ha un effetto catalitico sull'ossigeno Lo sai che l'ossigeno è un ossidante, no? Sì L'ossidazione è favorita dal carbone Quindi, in aria, se tu metti il carbone vicino a una sostanza molto ossidante Addirittura puoi ottenere un'esplosione Cioè tu metti il permanganato con del carbone vicino Quello esplodono perché l'ossidazione è violenta Perché il carbone è... Non possiamo dirlo in giro perché sennò la gente fa le bombe E dentro l'acqua chiaramente non avviene esplosione Però l'effetto catalitico verso l'ossigeno Si mantiene uguale Lo stesso Ed è un'ossidazione biologica, non più chimica Depuratori prefabbricati In quali casi sono il top dei top Cioè proprio la soluzione migliore assoluta da poter seguire Cioè mi viene in mente questo Cioè se io penso a un decoratore prefabbricato Mi viene in mente una circostanza precisa In cui dici è l'unica soluzione percorribile Eh, ecco lei Terremoto, alluvione Mi viene in mente Io sai che ho studiato all'Aquila Ho fatto un master lì all'Aquila All'Aquila c'è stato quel terremoto devastante Ha scassato tutto Certo E ho visto il progetto case Dell'allora governo Berlusconi Che devo dire tutto sommato non era neanche male E mi viene in mente Dopo che succede una catastrofe Tipo un alluvione C'è stato l'alluvione a Olbia C'è stato l'alluvione a Capoterra Qui vicino a Cagliari Alluvioni ne capitano Terremoti purtroppo ne capitano In Emilia Romagna ne sono capitati Cioè in quelle situazioni in cui il terremoto ha fracassato case Distrutto impianti elettrici Impianti fognari eccetera eccetera Devi trovare delle soluzioni Devi trovare delle soluzioni veloci Smart Anche per la cacca delle persone Sì E quello a me viene in mente quello Prefabbricazione Materiale durevole materiale incollutibile C'è lo si dà a me Ok però quando stiamo parlando di quelle situazioni Io penso anche a un grande numero di persone Come fai con un prefabbricato Ah beh no certo Se vai a livello di comunità I campi d'accoglienza Le palestre piene di gente Piene di persone Perché tutti dentro la palestra Sì Ma se lo scarico poi dalla palestra che esce Non va in fognatura Dopo un giorno i bagni sono KO E dove la fanno? Eh eh E dove la fanno? D'altronde qui vicino sei stato testimone Una alluvione per vorrei dire L'acqua si è alzata un po' E venuta giù una parete di cemento armato Ma grande E mi sono chiesto Ma dentro cosa c'era? I biscotti della nonna Non in ferro d'armatura Quindi in una situazione di emergenza I depuratori in aciario per esempio Potrebbero essere una soluzione? Sì 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 I mobili Cioè? Mi ricordo Qualche tempo fa Andava di moda Una compagnia di giostrai Che si muoveva tutti insieme Ed erano parecchi camper E si portavano presso il loro impianto di depurazione E su ruote Perché Dovunque andassero All'inizio Nessuno gli diceva No ma voi dove scaricate Voi inquinate Voi qui nel parcheggio Non potete rimanere Allora Avevamo costruito Questo impianto di depurazione E loro giravano Con le carte E ecco il loro impianto di depurazione Che era Un prefabbricato Che era un prefabbricato Dimensionato sulle loro esigenze E avevano risolto in questo modo intelligente Quindi in sostanza Depuratori in acciaio Trasportati I container Depuratori Era un container Sì 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 Quindi in caso di emergenza Un container depuratore Ecco nel caso Tu vuoi la soluzione La soluzione c'è Non è economica ma c'è Nel senso che Tu grande comunità Esigenza di depurazione immediata Allarme Container Con impianto chimico fisico dentro In grado di sopportare Pendolazione in quanto ne vuoi Cioè La portata è statale La dici tu E ti arriva il container giusto E quindi Naturalmente L'impianto chimico fisico Non è la soluzione ottimale Perché poi va gestito C'è un consumo di chemicals E energia elettrica Eccetera Però È la risposta all'emergenza Io rispondo all'emergenza Con un impianto di emergenza Domanda Volendo risparmiare Invece che andare a Mettere un fisico chimico La chimica dentro Qualcuno che lo sappia anche gestire Controllo I livelli Tutto la pappardella Che ci sta dietro A un depuratore fisico chimico Un biovar Di quelle dimensioni Che sopporta Le pendolazioni Ho parlato di migliaia di persone Beh Migliaia di persone Dentro un biovar Magari Dietro un container No Però diciamo Che tanti container Con un chimico fisico Un solo container Ce la fai? Uno o due Ma è containerizzabile Quindi Perché Non giochi più Sulle dimensioni Delle vasche Le dimensioni Le vasche Contano Relativamente Ti fanno Soltanto Come Da polmone Di alimentazione Ok Dopodiché Vai Sulla Sulla porta Dessantaria Non devi dare Un tempo Di permanenza Su migliaia di persone Tu hai Metri cubi Molti metri cubi A cui Un impianto biologico Devi dare Un tempo Di permanenza Il che Si traduce In volumi E allora Sti volumi Li devi realizzare Prefabbricati In container No Non è fattibile Come dire Il know-how Che ho acquisito In 40 anni È a distribuzione Ma È senza Le solastrutture Delle università Senza Mentre Mentre L'universitario Se tu Lo cerchi Non lo trovi Così Facilmente Tra virgolette Venti Perché È andato in pensione Non fa più La professione E quindi La consulenza E quindi la consulenza È ancora più La consulenza È in carte Sì È fondamentale È fondamentale La consulenza Ti fa risparmiare Ti fa risparmiare Errori Ma anche Proprio Pagamente Sordi Perché il consulente Ti può anche dire No guarda che quello Non te lo possono vedere Quello Quello Importa Perché È esagerato Oppure Se ti stanno Vendendo Quella cosa Così poco C'è qualcosa Sotto Dammi la specifica Anche solo leggere La specifica È importantissima Perché Nel campo Della depurazione Tutto è Impianto Tutto è Depuratore Non ho bisogno È come dire Ti vendo L'automobile Sì Di che cilindrata Scusa Addirittura Ma ha le quattro ruote Il volante Lo devo mettere io Capita E riguardo Il discorso Dell'impianto Di Stai disegnando Prima Mi viene in mente Quei Quando abbiamo visto Il progetto Per Sì Che tu hai detto Ma questa cosa Non funziona E loro L'avevano pagato Secondo me Qualche migliaio Di euro La progettazione Sì Sì Progettazione Tutto il resto Lì ce devono aver pagato Un 3.000 2.000 Ma vedi Quello era un impianto Vecchio Tecnicamente Tecnicamente Sì Ma l'hanno progettato Sei mesi fa Che ha un grosso pregio Costa poco E lo puoi vendere caro Costa poco produrlo E lo vendi a molto Sì Quello è un buon pregio E lo è un grosso pregio Ma funziona È come un neonato Tu stai comprando Un neonato Allora Tenti pronto Perché dovrai alzarti La notte Per dargli Il biberone Ti sveglierà Di notte Ti terrà sveglio Ti cambia dei pannolini Ti darà un sacco Di preoccupazioni È male al pancino È male al pancino Soprattutto il depuratore Quello depuratore Lì aveva avuto male al pancino Il depuratore quando ha male al pancino Il male al pancino Si chiamano rising C'è risalita Homing C'è schiudeggiare Ci sono molti Tu immagina Molti sintomi del pancino Che fanno male Quindi la consulenza Secondo me È fondamentale E la buona consulenza Deve essere a pagamento Perché è giusto Perché le competenze Che per esempio Puoi avere tu Quarant'anni di competenza Sul campo Con tutto il know-how Tecnico che tu hai Tutte le conoscenze Le competenze Eccetera eccetera E costiamo meno noi Perché non ce la tiriamo Perché non abbiamo La cattedra All'università A Politecnico Quindi non ti devo far pagare Quanto me la tiro Ti devo far pagare Soltanto quanto riesco A farti risparmiare E quanto Di buono Ti riesco a fare Di buono Ti riesco a consigliare Di fare Poi puoi seguire I miei consigli Poi verificarli Ma una volta Che tu hai Un primo consiglio Normalmente Poi ti è Molto più facile Verificare Se è vero Quello che ti ho suggerito Io Perché sai già Cosa chiedere Senti Guarda che Ha questi problemi A te poi È facile Chiedere a un altro Ma secondo te Quelli pianto Poi avere questi problemi E se ti dire Di sì O di no Se ti dici no Come mai E diventa Un fatto Interattivo Importante Cioè Ti crei Tu che devi comprare Una tua idea Precisa Di cosa stai comprando Se è giusto Se è sbagliato Se stai Sbagliando L'investimento Se È corretto Il tipo Di procedimento È assurdo Se io Dovessi andare A comprare Con le mie competenze Che io Le competenze Di depurazione Ne ho veramente C'è niente Rispetto a te Perché Non ne ho Nessuna Rispetto a te Cioè Se io Dovessi andare A comprare Qualcosa Cioè Il fai da te Sarebbe Follia Totale Totale Vai a comprarti Cosa Il vascone Che vedi Alla rivendita Cioè Quella è Follia Pura Totale Che Fai una robetta russa E se ti riesce Non ti sparai Ma è altrettanto folle Magari ti rivolgi A un geometra O all'ingegnere Che si occupa Semplicemente Di progettare Una casa E che non ha L'abilità Di chiedere Annesi Di formarsi Invece Sta diventando Molto diffuso Questo fatto Che i professionisti Si informano Questo è bene E' molto Positivo Perché evitano Tutti i casini Ai clienti Tra l'altro Ti deve Nella responsabilità Perché se ti chiedono Cosa ne pensi Tu Poi sei tu Che gliel'hai consigliato Si è vero Sono quelle volte Che lo Però Se sbagli Sbaglieranno Anche loro Ma serve L'ubiltà Tra l'altro Di dirlo Al cliente Ho chiesto E sbagli E sbagli Ma io non ci vedo Niente di male A dire Guarda Io mi occupo Da qui A qui Della depurazione Non è la mia materia Ti faccio seguire Dal migliore Ma che problema c'è E come quel Precicolo L'hai fatto leggere Su quegli ingegneri Che fanno La certificazione Delle macchine Ecco E' favoloso Cioè Gli chiedi Gli chiedi A loro Dici Questa macchina Che è stata Creata Costruita Prima del 96 Riesco A A usarla Senza incorrere In casini E allora Te lo sanno dire Ma di preciso Cosa mi devo inventare io Ma mi metto A studiarmi Tutte le donne E un peso Sulle macchine Ma non ha senso Non ha senso Infatti non capisco la gente Perché Cioè per risparmiare Non lo fanno Di professione Non si devono Nelmeno più sforzare Perché ormai Esce una norma Per loro è normale Studiarsene Questa è la professionalità Esatto E loro si fanno Magari sanno solo quello Ma L'ingrazione Cedo sanno solo quello Ma loro lo sanno Molto bene 100% L'esempio del medico Se hai un problema Al fegato Vai allo specialista Non vai dal medico generico Certo Se hai un problema Alla pelle Vai dal dermatologo Non vai dal medico generico Magari si Dal medico generico Ci faccio un passaggio Ma poi vado Dallo specialista Da migliore Magari anche E i due signori Di macchinario sicuro Le consulenze Se le fanno pagare Ma prima ancora Di farti il lavoro Di avere il contratto La consulenza Se le fanno pagare Poi magari Te la scordano E loro sono molto Chiari Molto Diretti Nel senso che ti dicono Da lui Non otterrai Un tomo Su Però Stai tranquillo Che Il tuo problema Te lo risolviamo Nel modo più semplice Più efficace Sei casini Con la magistratura E Loro Punto Lo muto Su questo La cosa più importante Sempre che tu sia In buona fede Non è tanto Che tu abbia fatto Tutto il possibile L'impossibile Per evitare Per esempio Un incidente Ma è che tu lo sappia Spiegare Che cosa hai fatto E come l'hai fatto E che hai cercato Di farlo Nel migliore Se tu lo sai spiegare E loro sono maestri In questo Aiutano i clienti A spiegare Che cosa hanno fatto E quindi Se tu sei in buona fede Ti salvi la pelle Ma se tu Non lo sai spiegare E solo un consulente Ti puoi aiutare A saperlo spiegare Perché O il tuo mestiere Saper spiegare Il funzionamento Delle macchine Ma allora Non fai l'imprenditore Fai il certificatore Cioè Il macchino E la stessa cosa E la stessa cosa Nel decolatore Io il decolatore Devo sapertelo spiegare Difatti noi Quando Facciamo le relazioni Di dimensionamento Siamo Esagerati Più Pesanti Nel senso Che io ti spiego Addirittura Le moltiplicazioni Che ho fatto Per arrivare A quel risultato Ma perché Una volta Che io Te l'ho spiegato E lo capisce Anche un bambino Nessuno Ti può più contestare Il potere Della consulenza Ti eviti Tutti i casini Poi E io sì 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 Vendere Un immobile Che non ha L'autorizzazione Allo scarico Cosa succede Dal notaio Cioè io posso vendere Voglio comprare una casa Penso al cliente Che abbiamo visitato La settimana scorsa Che ha Quella villetta Fantastica Vicino al mare Non ha L'autorizzazione Allo scarico Il notaio Quando io Vado a fare l'atto E non ho I documenti In regola Che succede Che non ti fratto Salvo che tu Invece Sia in una condizione privilegiata In cui tu hai già Ho tenuto L'agibilità Non si sa come E allora Tutto a posto Ma Solo a casa Nel senso che poi Quando farai La ristrutturazione Eventuale Della casa Sì Cioè Ci sono realtà Storiche Di gente Che ha ottenuto L'abitabilità Senza nulla Oppure Dichiarando Una fossa Imhof Che non ha mai Manutenzionato Che non ha mai Gestito Trent'anni fa Trent'anni fa E lui Ha questo Texto di carta Che dice Che la casa è agibile E Beato lui Non farà nulla Non spendere nulla Però diciamo Che oggi Se io vado Dal notario E non ho in regola I documenti Con l'autorizzazione Allo scarico Io si fermo C'è Tac Si blocca Quindi devo mettermi In regola Con quelli Però a questo punto Mi faccio una domanda Ma io devo comprare Quella casa Sì Cioè Chi deve spendere Quei soldi Chi me la vende O chi la compra Dipende dagli accordi Cioè Ti devi mettere d'accordo Con chi te la vende Chi te la vende Ti farà uno sconto Perché tu sosterrai Le spese Per metterti a posto Oppure Dici No La casa Io te la vendo Nello stato In cui è Come Viste Accettato E poi Però lui Ma Che la mette Lo devi sapere Altrimenti Si configura Un broglio Insomma Posa Un eufemismo Ok Va bene Ok Grazie a tutti.